La pandemia ha costretto a rileggere la nutrizione pediatrica e alla luce delle catene alimentari interrotte sia nei paesi in transizione che in quelli economicamente più voluti. Rimangono la certezza e la garanzia di sicurezza dell'allattamento al seno e del latte materno che va a maggior ragione promosso proteggendo la gravidanza e la maternità. Un futuro migliore in termini di salute globale per tutti i bambini passa attraverso la sostenibilità. Grazie a tutti voi. Grazie, grazie agli organizzatori del convegno, grazie al professor Giovannini per avermi dato la parola e invitato. Il tema che tratto in relazione al Covid-19 è la questione della sostenibilità vista nell'ambito soprattutto della nutrizione pediatria ed è una questione che forse questa pandemia è un ulteriore rinforzo a quanti già negli anni precedenti, direi dal 2015-2016, stavano cercando di organizzare questa rete, la sostenibilità a sostegno da una parte del pianeta e dall'altra della nutrizione, in particolare dei bambini dei paesi in via di Sud. Definire la nutrizione sostenibile non è facile. È un concetto che va oltre il semplice punto della sicurezza degli alimenti, quindi implica il poter provvedere i nutrienti necessari a tutti, ma allo stesso tempo rispettando l'ambiente, la biodiversità e le risorse locali. L'illustrazione della necessità di una visione globale di salute globale dentro un contesto che investe tutti, a mio parere, è ben riassunta da questa sequenza di diapositive. La prima è relativa al rapporto Bloomberg di tre anni fa, agenzia privata che ha avuto questi dati sull'indici salute nelle principali aree del mondo, all'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma soprattutto all'ONU, e dove si può vedere come i paesi ricchi, area mediterranea, Nord Europa, Centro Europa, Nord America, Australia, Nord Zelanda, Giappone, Israele, anche per una parte dell'isola arabica, abbiano questi indici elevati di aspettativa di vita e di qualità della vita, grazie ai provvedimenti di salute pubblica, di contraltare, vedete come in questa altra diapositiva, sono mostrati a livello mondiale, un'ambiapositiva che risale al 2016, i paesi nel mondo in relazione alla percentuale di donne che allattano ancora al dodicesimo mese di vita del bambino. Vedete che è un contraltare perfetto, le zone più chiare qui sono le zone più strutture. Come a dire che laddove c'è l'allattamento al seno, almeno continuato durante anche e alla fine dell'introduzione dei soliti, veramente alla fine del primo anno, non è una scelta dei paesi ricchi, è una condizione sine qua non di chi è povero. Quindi noi possiamo parlare di sostegno all'allattamento al seno. Nel sostegno all'allattamento al seno diventa, nel primo provvedimento per la salute del bambino, una, ripeto, condizione sine qua non nei paesi poveri, dove oltretutto, per vari motivi, condizioni igieniche non adeguate, solo superare anche i potenziali benefici contro le infezioni e per la prevenzione di patologie, anche più avanti degli anni, dell'allattamento al seno. E questo credo si aveva presentato in una diapositiva del 27 agosto, ma che era alla fine della prima ondata, barra inizio della seconda, adesso sono in piena alla seconda ondata. Vedete come i paesi più chiari, anche qui, sono quelli africani, ma non perché stiamo meglio, ovviamente, perché l'età media è più bassa, perché non si hanno notizie sullo stato di salute ai singoli paesi, e quindi il paradosso dei paesi africani o dell'Indocina, che sembrerebbero avere meno percentuali, meno prevalenza del Covid, è dovuta ai loro paradossi in termini di aspettative di vita più breve e di peggiore, tra virgolette, indice di salute globale. Il Covid cambia molto il panorama in relazione allo stato nutrizionale dei bambini nel mondo, perché è stato calcolato che almeno il 15, se non 20% in più dei bambini, andranno incontro a gravi stati di malnutrizione nei primi 12 mesi di vita dopo la pandemia. Già questi erano calcoli che si riferivano all'aprile e maggio scorso, oggi probabilmente questo sarà ancora superiore, perché, come vedete, e già questo era sempre un commento di qualche mese fa, che questa stima è stata fatta in maniera conservativa, ma non si conosce ancora il vero impatto sulla catena alimentare che avrà a livello mondiale questa situazione. Per cui la distruzione e l'interruzione di tutti i servizi al servizio della salute durante lo down comprometterà ulteriormente le condizioni di salute della mamma e del bambino e quelli che soffriranno di più di questa crisi, anche in termini alimentari, saranno i paesi in transizione, i paesi in economia e povera, con un aumento di tutte le forme di malnutrizione materna, in gravidanza e nei primi anni di vita. Ecco, qui non voglio togliere l'argomento a Maria Loera e la Gianni, safe breastfeeding, con la mascherina della mamma, l'allattamento al seno da difendere in termini di sicurezza, sempre, come base e da queste raccomandazioni che sempre un gruppo Global Health del Lancet avevano riassunto di assicurare in pratica nella maniera più diffusa possibile l'accesso a forni sicure di alimentazione. Mi piace, per tradurre anche nelle nostre realtà il punto 4, mantenere i provvedimenti di nutrizione adeguata nei passi scolastici, soprattutto per i bambini delle classi sociali più vulnerabili, che sono validi anche nelle nostre realtà, anche perché, recentissime puntualizzazioni dei nature, i bambini, le scuole dell'obbligo, in particolare dell'asilo o delle elementari, non sono degli hotspots, non sono dei focolari, non hanno un maggior rischio di diffondere il virus rispetto agli adulti, sia per questione del loro sistema immunitario, sia anche per questioni steriche. Come si dice, con polmoni più piccole, via respiratorie più piccole, ed essendo anche più piccoli di altezza, la diffusibilità delle famose aerosol-like forms di spread out del Covid sono diminuite, per cui anche mantenere, quando è possibile, la comunità scolastica, anche nei paesi occidentali, può essere importante sempre per le fasce più vulnerabili della popolazione pediatrica. La raccomandazione è di mantenere la diet diversity a ogni età, anche al di là del Covid, perché l'alimentazione che è legata alla stagionabilità sembra essere la più positiva per il microbioma che si è andato a selezionare nel corso dell'evoluzione per ogni specifica popolazione e per area geografica, partendo dal direzzamento che non ha di più quelle restrizioni legate al potenziale allergenico degli alimenti, solo considerando che in caso di selezione di alimenti per particolari tradizioni o legate a convincimenti della famiglia, penso ai vegani, non ai vegetariani, ai vegani totali, bisogna assicurare gli elementi essenziali per tutti. La tecnologia non va vista come nemica, perché anche l'innovazione e le modalità di processazione degli alimenti, selezionando e distraendo i nutrienti funzionalmente anche più efficaci nei confronti degli outcome funzionali di salute, di vita, sviluppo neurocomportamentale, bisognerebbe trovare un modo superiore di riproporli in una forma alimentare completa come nell'alimento naturale. Questa è una sfida per l'innovazione per il futuro. La necessità di una prospettiva evoluzionistica in questo senso è molto importante, ripeto, perché nel ragionare il perché di un alimento e il perché è sopravvissuto un alimento nel secolo per quella popolazione in quella determinata area geografica è fondamentale per capire i bisogni e non per cedere alle mode del momento. Pensiamo al latte materno in cui i grassi costituiscono il 50% dell'apporto energetico. Adesso sappiamo che i grassi saturi e le prime epoche di vita non sono negativi, non fanno lesioni a peromatose precoci, anzi aiutano l'allattato al seno che è quello previsto nel piano evolutivo naturale a immagazzinare energia che viene utilizzata per la crescita. Il modello composizionale e l'allattamento al seno non riescono a farlo le formule quando si vanno a utilizzare metodi di indagini e molto sofisticata. L'acido palmitico è un acido grassi saturi. Il palmitico fa parte della fusca pirilcolina che entra in soltattante, quindi dà origine alla possibilità di vita e dà la possibilità di continuare con la beta-assidazione di palmitrico e enzima A che entra nei mitocondri. Questo è un esempio, ma per dire come la nostra capacità di capire i fenomeni deve essere larghi, a 160 gradi, e non limitata a modi nutrizionali che sono temporalmente limitati. Dobbiamo considerare anche questo aspetto dentro la malnutrizione che in questa transizione globale ci si troverà ad affrontare la malnutrizione a ogni livello, in tutti i paesi, anche nei paesi ritti per le comunità enniche, nel passaggio da una nutrizione scarsa e quindi col rischio di deficit di nutrienti nelle prime epoche di vita, con l'eccesso di nutrienti nell'epoca successiva, nutrienti che più sono facilmente assimilabili, il sale, i zuccheri semplici, saranno sempre quelli più a basso costo e quindi che portano nelle stesse popolazioni tendenza a malnutrizione prima in termini di deficit ponderale ed eccesso ponderale successivamente. Per cui mi piace finire con questa riflessione di Outburst che è stato il fondatore, il primo direttore del centro di nutrizione di Wageningen in Olanda, che è uno dei più noti sia a livello industriale ma sia a livello di ricerca, di base in nutrizione, che citando in un articolo che era stato commissionato da Lanset nel 2000 per preparare la nutrizione del terzo millennio, aveva scelto i potato eaters, Van Gogh, con una riflessione sul fatto che nella carestia le patate, le carestie europee nell'Ottocento diventarono la base dell'assunzione di nutrienti e di energia per la maggior parte della gente povera, che allora era la grande, grande maggioranza in Europa e nell'adattamento a questo povero frutto della terra trovarono il segreto nutrizionale che lo si provvede. Grazie. Buon pomeriggio, ringrazio anche io gli organizzatori per avermi dato la possibilità di essere qui con voi oggi pomeriggio, un grazie anche al professor Giovannini e per quello che riguarda la mia relazione rappresenta un po' il continuum di quello che è stato appena presentato dalla professoressa Verduci. Io mi focalizzerò in maniera particolare su quello che sono state le modifiche che sono state indotte dalla pandemia che attualmente stiamo vivendo su quella che è proprio la presa in carico della diade mamma-bambino. Mi piace iniziare con questa diapositiva che sottolinea molto bene a mio parere come l'importanza dell'allattamento materno non sia solo ed esclusivamente nutrizionale, ma in realtà risiede anche proprio in quella forma di comunicazione così speciale che permette tra la mamma e il suo bambino. Una comunicazione che è stata fortemente voluta dalla natura per cercare proprio di promuovere e di ottimizzare la sopravvivenza del piccolo dell'uomo proprio in termini anche di outcome di salute nel lungo termine. Ed è proprio con questo concetto che dobbiamo ricordarci come in realtà più che parlare di diade forse oggi ha più senso parlare di triade ricordandoci che latte materno mamma e bambino parlano appunto fra di loro e comunicando si auto-influenzano e quindi si modificano uno in relazione all'altro. È chiaro che in questo contesto non possono però non essere presi in considerazione anche i fattori socio-ambientali e socio-culturali fra cui ricordiamo l'importanza degli stili di vita inclusa comunque anche la nutrizione. ecco allora che la pandemia da SARS-CoV-2 che stiamo purtroppo ancora oggi vivendo ha portato sicuramente dei grandi cambiamenti per quanto riguarda la presa in carico appunto della diade mamma-bambino e per quanto riguarda il supporto e la promozione dell'allattamento in modo particolare è stata posta addirittura e questionata l'opportunità di andare a comunque fare una gestione congiunta della mamma col suo bambino in caso di positività della mamma e dall'altra parte è stata anche posta in discussione la sicurezza dell'allattamento di per sé ora è importante comunque specificare che ad oggi non esista alcuna evidenza scientifica relativamente alla possibile trasmissione dell'infezione attraverso il latte materno e peraltro tutte le società scientifiche concordano nella necessità fin quando possibile di poter comunque gestire in maniera raccoggiunte quindi promuovere il rumininga della mamma con il suo bambino anche in caso di positività della mamma stessa purché ovviamente vengono rispettate tutte le precauzioni da un punto di vista igienico-sanitario nel caso in cui la mamma invece debba essere comunque separata dal suo bambino perché appunto non è in grado di prendersene cura o comunque perché è in condizioni cliniche particolarmente impegnate è importante comunque cercare di anche in questo caso continuare a promuovere l'allattamento e piuttosto appunto cercare di promuovere quella che è l'espressione manuale o con mastostruttore del latte materno stesso quindi vedete che già in partenza con proprio quella che è la gestione nel punto nascita c'è il rischio di avere comunque un aumentato e inappropriato soprattutto utilizzo dei sostituti del latte materno non solo questo tipo di problematica è potenzialmente riscontrabile anche successivamente dopo la nascita e vi porto a scopo esemplificativo i risultati di questo studio che si è posto l'obiettivo di andare a valutare come appunto la pandemia possa avere in qualche modo anche modificato l'esperienza del lattamento delle mamme e come potete vedere appunto nella diapositiva le mamme riferiscono come grande ostacolo e comunque anche esperienza assolutamente negativa dell'allattamento il fatto durante il periodo pandemico di non aver potuto in qualche modo incontrare personalmente e quindi potersi avvalere di un supporto face to face con i vari gruppi e anche con i diversi operatori capite quindi questo è altrettanto importante focalizzare l'attenzione su quello che è anche l'importanza di continuare un'adeguata promozione anche dopo la dimensione dal punto nascita e così come chiaramente già sottolineato dal professor Agostoni nella sua relazione la pandemia ha anche comunque coinvolto tutto il settore agroalimentare e ha comunque portato davvero a esacerbare una potenziale difficoltà anche di accesso ai generi alimentari e condizionando anche a seguito appunto di tutta la crisi economica che abbiamo avuto un diminuito potere di acquisto anche in molti casi delle famiglie quindi non solo una difficoltà anche di poter avere un accesso appunto ad alimenti nutrizionalmente validi ma anche proprio una difficoltà da un punto di vista del potere proprio di acquisto delle famiglie e quindi la tendenza a invece assumere alimenti che non fossero adeguati da un punto di vista proprio dell'apporto e anche della varietà tutto quanto abbiamo appena finito di dire configura quindi davvero un rischio molto importante di avere delle situazioni di malnutrizione quindi di un inadeguato apporto nutrizionale sia in termini di deficit ma anche magari di eccessi rispetto ad alcune categorie di alimenti che vanno a colpire sia la mamma che il suo bambino in modo particolare in un'epoca della vita dove sappiamo che i risvolti di appunto una condizione di malnutrizione possono essere anche particolarmente importanti motivo per cui Lunicef e tutte le altre società anche scientifiche ci ricordano l'importanza di potenziare proprio il supporto alla danna gravida durante la gravidanza ma chiaramente anche alla diade poi mamma bambino per quello che può essere proprio il supporto e la promozione dell'allattamento e anche la presa in carico da un punto di vista nutrizionale per far sì che ci possa essere anche un'adeguata supplementazione anche in termini per esempio di micronutrienti e al tempo stesso potenziare anche tutti quelli che sono i canali educativi anche alternativi che possiamo utilizzare durante appunto questo periodo così che le donne possano essere supportate anche da questo punto di vista e possano cercare in qualche maniera di poter essere anche supportate e sentirsi sicure proprio perché seguite questo è sicuramente importante come ricordavo prima perché ci troviamo in un momento della vita estremamente importante perché andiamo a settare davvero quelli che sono anche poi gli outcome di salute nel lungo termine e proprio alla luce di quello che sappiamo relativamente al programming ed anche perché effettivamente così come ricordato la professoressa Verducci nella sua relazione siamo in un momento della vita per quanto riguarda la mamma in cui ci sono dei peculiari fabbisogni che devono essere soddisfatti in termini di aumento degli apporti di macronutrienti ma attenzione anche specificatamente a quello che può essere in questo caso l'apporto lipidico in termini soprattutto qualitativi ma anche l'incremento rispetto all'intech di alcuni micronutrienti per cui alla luce di quanto abbiamo detto dobbiamo ricordarci che davvero è estremamente importante la promozione di politiche che possano essere a sostegno dell'allattamento al seno anche in caso di infezione materna da covid-19 cercando proprio sempre di favorire quando possibile la gestione congiunta della diadema neonato la pandemia come già ricordato ha colpito il settore nutrizionale ed agroalimentare creando davvero una maggiore difficoltà in quella che è l'accessibilità ai servizi alimentari e una ridotta assunzione di alimenti nutrizionalmente adeguati per tale motivo quindi è davvero importante che ci sia l'offerta di un potenziamento di quei servizi per la presa in carico delle gravide e delle puerpere proprio perché si possa arrivare ad avere un'alimentazione equilibrata e addirittura prevenire quello che può essere un adeguato intake sia di micro che di macronutrienti in un periodo così critico proprio in termini di programmi per la salute nel lungo termine vi ringrazio per l'attenzione buongiorno a tutti io ringrazio moltissimo il presidente della SIP il professor Alberto Villani e tutto il direttivo per avermi invitato a parlare così come tutto il direttivo della SINUPE nella fatta specie il professor Giovannini e la professoressa Riva dividerò questa relazione con la professoressa Gianni il nostro topic è dieta materna e allattamento ai tempi del covid e vediamo quale che sono le attuali evidenze su questo tema anche se premetto non c'è ovviamente molta letteratura ma cerchiamo un po' di evidenziare quali le evidenze più importanti in relazione a questo tempo sicuramente quando si parla di alimentazione della donna durante l'allattamento siamo ovviamente in un momento in cui gli operatori sanitari devono proteggere la diade materna infantile incoraggiare al tempo stesso l'allattamento al seno non solo come inizio ma anche come mantenimento almeno per i primi sei mesi di vita in termini di allattamento al seno esclusivo cercare di aiutare la mamma nelle scelte per soddisfare i fabbisogni nutrizionali della donna che allatta e al tempo stesso cercare di prevenire eventuali condizioni di malnutrizione soprattutto in difetto che si possono instaurare questo era stato un lavoro con la collaborazione della SIP appunto e della SINUPE che avevamo pubblicato in considerazione del fatto che c'è un po' poco in termini di quali sono i fabbisogni della donna che allatta la donna in gravidanza nel senso esiste quelle che sono le raccomandazioni dei nuovi l'ARM però dal punto di vista anche di stili di vita e abitudini in realtà avevamo voluto pubblicare qualche anno fa su Nutriance questo consensus per quanto riguarda quella che è la focalizzazione dell'alimentazione in termini di fabbisogno della donna che allatta vediamo come dal punto di vista calorico la donna che allatta in realtà necessita di un aumento di 500 chilocalorie al giorno soprattutto nei primi sei mesi un aumento delle proteine che è un po' maggiore nei primi sei mesi e ovviamente più contenuto successivamente quindi più 21 grammi e poi più 14 grammi un apporto di IDH che deve essere aumentato rispetto a quelle che sono le raccomandazioni di un più 200 milligrammi al giorno questo è importante soprattutto per lo sviluppo cognitivo del bambino un apporto di ferro che è intorno a 11 milligrammi al giorno che poi diventa 18 milligrammi al giorno quando ritorna essenzialmente le mestruzioni un apporto di iodio di 200 microgrammi al giorno che permette di avere un adeguato contenuto di iodio nel latte materno un apporto di calcio intorno a 1000 milligrammi al giorno con un apporto di vitamina da 600 unità fino a 1200 dipende ovviamente dai fattori associati quindi presenza male di patologie croniche pensare al colore dell'etnia e quant'altro e un apporto di 500 microgrammi al giorno di acido folico queste sono un po' quelle che sono le raccomandazioni diciamo nutrizionali cosa possiamo dire in più sul covid essenzialmente appunto premetto che sono disponibili pochi studi sull'impatto socioeconomico sullo stato nutrizionale della sicurezza invece dell'alimentazione durante l'epidemia e quindi a maggior ragione anche nelle donne che allatta in realtà voglio appunto mostrarvi come queste raccomandazioni che sono le raccomandazioni che riguardano l'alimentazione in corso di pandemia in senso generale dove potete vedere quello che è raccomandata un'alimentazione sana basata molto sui principi della dieta mediterranea quindi frutta verdura la presenza di grassi sì ma diciamo salutari quindi olio di oliva extravergine le fonti di omega 3 la presenza poi di carne magra di cereali integrali un'adeguata idratazione e fonti di latte derivati che comunque non siano contenuti eccessivo di grassi soprattutto saturi ovviamente questi sarebbero diciamo associati a quelle che sono la prevenzione dei fattori di rischio che danno luogo poi a patologie covid correlate che sono diciamo più a elevata morbidità e mortalità ad esempio se visto l'ipertensione il diabete e l'obesità sicuramente e tutte le condizioni che si associano a un'alterazione del sistema immunologico sono tutti fattori di rischio per avere delle complicanze da covid quindi associate all'infezione al covid e questo ecco perché è importante avere un'alimentazione che sia adeguata in generale dopodiché sono state suggerite queste supplementazioni di vitamina D di vitamina C selenio e zinco in chi o ha dei rischi di deficit o comunque in particolare diciamo in chi ha dei deficit che sono stati riscontrati a livello di marker biochimico o anche nei pazienti covid positivi che hanno delle manifestazioni respiratorie importanti il tutto associato poi a pratiche di buona igiene perché anche questo è molto importante per avere una corretta funzionalità del sistema immunitario parlando del sistema immunitario e parlando della qualità di grassi da mantenere in una dieta sanitaria soprattutto per la donna che è allatta ricordiamoci gli omega 3 che hanno un effetto molto importante sul sistema immunologico oltre alle altre funzioni dal punto di vista del sistema neurocognitivo dell'effetto neurocognitivo ricordando che ad esempio i derivati a lunga catena della serie omega 3 sono l'EPA e il DHA si è visto che dei metaboliti di questi due acidi grassi a lunga catena sono risolvine leucotrieni della serie 5 per quanto riguarda l'EPA per quanto riguarda il DHA risolvine della tipologia D invece quelle derivanti dall'EPA sono risolvine di tipo E e poi dal DHA originano anche tutta una serie di metaboliti come protettine e maresine che si è visto avere un impatto molto positivo dal punto di vista del sistema immunologico tenendo conto che soprattutto i metaboliti del DHA hanno soprattutto un ruolo antinfiammatorio rispetto anche a quelli derivati dall'EPA quindi l'effetto antinfiammatorio è più legato ai metaboliti derivanti dal DHA e cosa è stato osservato? Stato osservato che ad esempio questi metaboliti aumentano la fagocitosi a livello macrofagico e diminuiscono la produzione di citochine nei neutrofili essenzialmente diminuiscono l'afflusso nei tessuti così come a livello eosinofilico quindi riducono l'infiltrazione a livello cellulare T-cells diminuiscono l'attivazione e invece nella B-cells aumenta la produzione di IgM quindi si vede come effettivamente è importante mantenere adeguati apporti di questo acido grasso con effetti molto benefici cosa poi è stato evidenziato che sicuramente l'isolamento il distanziamento sociale ha portato a alcuni impatti importanti quali la riduzione dell'attività fisica con l'aumento della sedentarità dal punto di vista della qualità dell'alimentazione un eccesso di snack e lo vedremo poi in alcuni studi e per quanto riguarda dal punto di vista del mood cioè dell'umore ovviamente ci si sono avuti anche dei peggioramenti in situazioni magari borderline il peggioramento delle abitudini quotidiane ha portato a quadri di manutenzione in difetto in eccesso a esordi disturbi dell'alimentazione e emotional eating gli studi che abbiamo seppur pochi a disposizione questo è uno studio che è stato effettuato su praticamente 1932 questionari online e quindi 1932 persone che sono state reclutate a livello italiano c'è un bias perché questo studio è stato promosso dall'università università di Padova e quindi la risposta delle persone che hanno partecipato diciamo è una risposta con persone con livello socio-economico elevato cosa da questo campione italiano emerge generale un campione generale non solo su donne gravide che circa il 50% ha modificato le proprie abitudini alimentari e se andiamo a vedere nello specifico circa il 42.5% ha aumentato il consumo di sweet foods e intorno diciamo a un quarto di questo campione essenzialmente ammette di aver aumentato il consumo di snacks sia dolci che salati andando a vedere un pochino meglio la categoria per cui è il topic questa relazione ho trovato praticamente uno studio uno studio anche questo che si è avvalso dell'utilizzo dei questionari online anonimi donne cinesi tra 18 e 45 anni sane mai affette da SARS-CoV che erano perpere da massimo sette giorni che hanno partorito in maniera diciamo eutocica a termine un feto singolo e cosa è emerso da questi risultati è emerso che le donne praticamente che hanno risposto a questa a questa indagine avevano sicuramente diminuito l'apporto di fish e di sea food quindi una riduzione di un alimento importante soprattutto in questa fase delicata abbiamo detto che è quella appunto del periodo dell'allattamento con un essenzialmente se volete stabilizzazione o comunque una diminuzione dell'apporto dei reproducti ma in realtà quello che è emerso è che nel campione totale il 30% aveva una maggior preoccupazione nei riguardi della pandemia e in questo 30% si è visto che c'era una maggiore incidenza di emotional eating e quindi una maggior assunzione di alimenti ad elevata densità calorica un po' compensatoria rispetto a questa preoccupazione questa è una slide finale che vuole riassumere come sicuramente questa condizione di lockdown con le ripercussioni anche dal punto di vista come abbiamo visto degli stili di vita ma anche delle condizioni di proprio di accessibilità e di sicurezza alimentare sia una situazione che va a impattare molto in generale sulla popolazione ma anche sull'alimentazione della donna gravida e della donna che allatta e questo ovviamente è ulteriormente peggiorativo se andiamo a pensare a quelle che sono le condizioni socio-economiche magari più sofferenti e quindi il grosso rischio è quello di avere condizioni di malnutrizione con problematiche regate alla sicurezza alimentare che non vanno altro che a peggiorare un po' il rischio di avere eventualmente infezioni covid che sono con elevata morbidità in tutto questo ovviamente ho messo la telemedicina nel senso che soprattutto in queste situazioni e per queste categorie di pazienti è molto importante cercare di ottenere un supporto anche appunto in telemedicina per riuscire in qualche modo ad aiutare queste donne in una fase che di per sé è delicata della vita quale è l'allattamento per poter appunto dare delle indicazioni alimentari di serie di vita e soprattutto anche aiutare a livello psicologico e io con questo lascio poi la parola alla professoressa Gianni che focalizzerà maggiormente alcuni aspetti legati a questo tema grazie ancora per l'invito buongiorno grazie per la presentazione grazie per l'invito al convegno mi inserisco nel solco tracciato da chi mi ha preceduto e mi occuperò in questa chiacchierata di dieci minuti di due aspetti di come il covid ha impattato la nutrizione in età pediatrica uno come il covid ha modificato l'assistenza a una condizione che necessita di un trattamento nutrizionale ovvero la celiachia e nella seconda parte della presentazione rispenderò alla domanda se gli integratori nutrizionali se i supplementi nutrizionali hanno un ruolo nella prevenzione e nella terapia del covid iniziamo dalla celiachia tutto quello che andrò a dire può essere trovato in forma più approfondita con i riferimenti bibliografici in un report che l'istituto superiore di sanità ha prodotto nell'ambito dei rapporti ISS covid-19 durante la fase emergenziale nello scorso aprile più esattamente il numero 38 di cui qui vedete la copertina la prima domanda a cui abbiamo dovuto rispondere per valutare se il covid-19 potesse avere un impatto sulla celiachia che potesse avere sia sulla sua patogenesi che quindi sul trattamento e sull'assistenza e se la celiachia fosse una malattia autoimmune perché come sappiamo le malattie autoimmuni rappresentano un fattore di rischio per lo sviluppo di una forma più aggressiva di covid sicuramente la celiachia è una malattia autoimmune si tratta di un modello unico di autoimmunità per diversi motivi in particolar modo per il fatto che è l'unica malattia autoimmune il cui trigger non è endogeno all'organismo ma è un trigger ambientale noto la cui esposizione attiva l'infiammazione e la cui sospensione con una certa lentezza ma comunque con una certa sicurezza riduce la scomparsa riduce fino alla scomparsa l'infiammazione inoltre la celiachia invece ha dei meccanismi veri e propri di autoimmunità innanzitutto perché condivide con le malattie autoimmuni l'associazione genetica in particolar modo con il DQ2 e DQ8 vi è il coinvolgimento delle cellule TCD4 e inoltre vi è un'associazione epidemiologica ma anche causale tra la celiachia e altre forme di autoimmunità quale il diabete e il lito di tipo primo la tiroidite di Hashimoto la sindrome di Siogren e il morbo di During la seconda domanda a cui siamo andati a rispondere in questo report è appunto se la celiachia abbia un maggior rischio infettivo in realtà la letteratura ci dice che il rischio di polmonite da pneumococco è sovrapponibile nei celiaci rispetto alla popolazione generale se sono soddisfatte di due condizioni innanzitutto se vi sia un rigoroso trattamento dietetico cioè una dieta senza glutine iniziata anche prima dell'evento infettivo e continuata in maniera rigorosa e stretta e soprattutto che la celiachia non abbia sviluppato delle complicanze perché aumentano significativamente il rischio infettivo della celiachia delle complicanze quale l'iplospenismo e la celiachia refrattaria che fortunatamente però si sviluppa circa l'1% dei soggetti adulti e non in età pediatrica della celiachia riguardo poi a una correlazione diretta fra celiachia e covid-19 bisogna dire che in letteratura al momento attuale non c'è nessun lavoro che correla direttamente questo rischio e questa correlazione però in considerazione delle evidenze indirette disponibili in letteratura è plausibile affermare che le persone con celiachia non complicata in trattamento dietetico e senza clinici senza segni clinici serologici immunologici e istologici di attivazione di malattia e con un stato di nutrizione adeguato non presentino un maggior rischio rispetto alla popolazione generale né di contrarre il covid-19 né di avere un decorso più sfavorevole una volta contratto questo il covid-19 ha impattato c'è da dire comunque lo scenario emergenziale dovuto alla pandemia ha impattato la diagnosi e il follow-up della celiachia infatti la diagnosi della celiachia viene eseguita in una certa percentuale di bambini e in tutti gli adulti attraverso l'endoscopia intestinale e si sa che vi sono delle linee di guida di alcune società scientifiche che hanno individuato come l'endoscopia intestinale dell'esofago destino sia un accertamento estremamente a rischio di infezione da covid perché determina quell'effetto aerosol delle secrezioni delle prime vie aeree che è un meccanismo estremamente pericoloso di trasmissione addirittura alcune società scientifiche hanno consigliato durante l'emergenza covid di sospendere l'esecuzione di questo accertamento. In Italia non è stato così perché molti ospedali si sono attrezzati con dei percorsi specifici non covid, per cui l'esofago gastroenteroscopia si è continuato ad eseguire e per cui un certo numero di diagnosi di celiachia nei soggetti che presentavano le condizioni cliniche e serologiche per essere avviate a questo accertamento sono state comunque eseguite. Il follow up della celiachia è stato poi comunque anche negli scenari emergenziali dovuti alla pandemia eseguito telefonicamente e attraverso la telemedicina. In realtà la telemedicina prevede dei protocolli, delle flowchart e dei meccanismi estremamente specifici e cristallizzati dalla letteratura, per cui non può essere la telemedicina un semplice consulto telefonico, ma in qualche modo la medicina a distanza ha permesso anche il follow up obbligatorio nei pazienti celiaci. Per quanto riguarda il trattamento invece in Italia non si è assolutamente osservato e registrato nessuna difficoltà di approvvigionamento dei prodotti senza glutine per le persone celiache. Per quanto riguarda invece gli integratori alimentari, la domanda che abbiamo risposto in un altro rapporto ISS-COVID, il numero pubblicato, il 31 maggio del 2020, il numero 51, conclude praticamente che lo stato nutrizionale generale di un individuo impatta sull'infezione da COV-2, impatta sul COVID. Ma in che modo? Diciamo che più che gli integratori, più che lo specifica supplementazione, è importante per prevenire il contagio e per poi avere anche un decorso più favorevole, affrontare il COVID in uno stato nutrizionale adeguato, che vuol dire né sottopeso né sovrappeso. Infatti l'obesità attraverso dei meccanismi ancora non noti del tutto rappresenta un fattore di rischio per un decorso sfavorevole del COVID. Non c'è nessuna prova, nessuna evidenza sperimentale che integrazioni specifiche alimentari, come per esempio di vitamina C e D, prevengono, curano specificatamente il COVID-19. O anche la lattoferrina, che è una molecola la cui integrazione negli ultimi settimane è stata più volte sottolineata avere una correlazione con la prevenzione del COVID. Inoltre anche nella dieta non c'è nessuna evidenza che supporti l'uso preventivo terapeutico di un singolo nutriente o di un integratore nei confronti della COVID-19. Vi sono inoltre degli integratori che sono a base di erbe della medicina tradizionale cinese o anche della nostra tradizione che sono sul mercato, ma anche per questi non vi è nessuna correlazione tra la loro assunzione e un effetto protettivo curante del COVID-19. Grazie per l'attenzione. La pandemia ha costretto a rileggere la nutrizione pediatrica e alla luce delle catene alimentari interrotte sia nei paesi in transizione che in quelli economicamente più voluti. Rimangono la certezza e la garanzia di sicurezza dell'allattamento al seno e del latte materno, che va a maggior ragione promosso proteggendo la gravidanza e la maternità. Un futuro migliore in termini di salute globale per tutti i bambini passa attraverso la sostenibilità. Grazie a tutti voi. Grazie a tutti. 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 Buongiorno a tutti. È per me un piacere poter introdurre questa sessione, sessione che tratterà la profilassi perioperatoria in chirurgia neonatale pediatrica. È una sessione relativa a un progetto che è stato fortemente voluto dal presidente della Società Italiana di Pediatria, Alberto Villani, che ringrazio per aver citato questo spazio e che, come vi illustrerò nella mia presentazione, che sarà la prima, fa parte di un progetto che stiamo portando avanti con più di 10 società scientifiche coinvolte e con circa 60 specialisti di diversi ambiti. Quindi è un progetto multidisciplinare e interdisciplinare che, oltre alla mia relazione, che vedrà il punto di vista del pediatra infettivologo e del perché io abbia considerata come importante una iniziativa volta a ottimizzare l'approccio alla chirurgia neonatale pediatrica, considerando soprattutto che, a fronte di una enorme diversità di interventi, in realtà molte procedure si ripetono. Però quello che noi vogliamo sempre, quando siamo di fronte ai nostri pazienti, è ottimizzare l'approccio e quindi evitare che ogni situazione sia l'eccezione. Dobbiamo cercare di uniformare i più possibili comportamenti, garantire a tutti l'accesso a cure simili e, di conseguenza, l'obiettivo di questo protocollo è proprio quello di far sì che, innanzitutto, i diversi professionisti si trovino di fronte a uno strumento utile per la loro pratica quotidiana e poi che ci sia uniformità sul territorio nazionale anche in centri che svolgono magari solo certe tipologie di attività specialistiche o comunque in centri che si trovano ad affrontare nuovi interventi per lo sviluppo di nuove attività partendo magari da piccoli numeri che poi progressivamente aumentano. Quindi vuole essere un protocollo rivolto sicuramente in primis alla ottimizzazione delle cure nei bambini, alla sicurezza delle famiglie e poi naturalmente alla sicurezza dei professionisti. Dopo la mia relazione, che illustrerà appunto come mai nasce l'idea e in cosa consiste questa idea di sviluppo, seguirà la relazione di Cinzia Oriti che, come sapete, lavora nella neonatologia dell'ospedale Bambino Gesù e ha un'enorme esperienza in infettivologia neonatale. Cinzia è stata nominata da Fabio Mosca, presidente della Società Italiana di Neonatologia, come la coordinatrice all'interno del progetto del gruppo neonatale e parteciperà da un gruppo altri esperti che afferiscono diverse realtà del nostro paese. Ci sarà poi il parere e l'intervento preziosissimo di Mario Lima, professore ordinario di chirurgia pediatrica all'Università di Bologna. Mario Lima è attualmente il presidente della Società Italiana di Chirurgia Pediatrica ed è una persona che ha formato migliaia di chirurghi pediatri, insomma uno dei caposcuola, possiamo dire, principali del nostro paese. Chiaramente noi stiamo sviluppando un progetto, ma il punto interessante a mio avviso di questa relazione che ho condiviso con Alberto Villani al lato della presentazione è stato quello di far comprendere come il progetto si è sviluppato, del perché riteniamo importante affrontare questo topic dal punto di vista dei neonatologi e dei pediatri, offrendolo poi anche alle autorità nazionali, ma facendo in modo che la parte neonatale pediatrica all'interno dei progetti nazionali abbia peso e non sia limitata magari solo a una pagina in cui vengono riassunte le situazioni più comuni. e proprio per questo fin da ora l'obiettivo è quello di illustrare le criticità che noi ci siamo trovati ad affrontare nella nostra pratica clinica, io appunto da pediatra, Cinzia da neonatologa, Mario da chirurgo. Per cui vi illustreremo quella che è stata la nostra esperienza clinica, quello che è stato il percorso che ci siamo trovati ad affrontare per ottimizzare le cure e anche quello che vogliamo portare avanti e che ci auguriamo che nel giro di pochi mesi possa portare, ripeto, a un manuale o comunque insomma a un prodotto utile per le nostre pratiche quotidiane. Grazie mille. Buongiorno, ringrazio per l'opportunità che mi è stata data, ringrazio per la presentazione e per l'opportunità in quanto il tema che devo trattare ora, quello della profilassi per gli operatori, è un tema a me molto caro riguardando l'intervento di diversi specialisti. Eh, perché diversi specialisti? Perché sappiamo come le infezioni del sito chirurgico complichino dal 1 al 100% dell'intervento di una percentuale non trascurabile, influenzando sia morbidità che mortalità. E una profilassi antibiotica ben condotta ha l'obiettivo di prevenire lo sviluppo di infezioni, di contenere l'abuso di antibiotici e comunque di usare gli antibiotici appropriatamente, tenuto conto che il nostro corpo è regolarmente colonizzato da batteri, batteri che laddove siano esposti a dosi inappropriate o comunque non giustificate di antibiotici possono andare incontro allo sviluppo di resistenze. Per quel che riguarda la pediatria possiamo dire che i dati specifici sulla popolazione pediatrica sono indubbiamente pochi e per questo abbiamo desiderato metterci insieme per affrontare un tema che richiede il confronto tra diverse situazioni professionali e l'expertise di professionisti provenienti da diversi anni. Anche quando prendiamo i nemizi ben condotti come questo documento della Regione Emilia Romagna abbiamo soltanto una paginetta dedicata agli interventi pediatrici. Invece sappiamo come gli interventi pediatrici abbiano delle peculiarità ben precise, peculiarità ben precise che inevitabilmente hanno anche delle condizioni simili a quelle relative ai pazienti adulti, ma che riguardano sia per frequenza che per età del soggetto coinvolto indicazioni specifiche dal punto di vista del farmaco da prescrivere e anche dal punto di vista della scelta sulla terapia più appropriata. Chiaramente quando si parla di infezioni nel sito chirurgico si parla anche di tutto quello che riguarda la preparazione del paziente, la preparazione dell'equip, la gestione del personale sanitario colonizzato, le misure intraoperatorie e queste di fatto sono uguali per il bambino e per l'adulto. Per cui di fatto quanto è raccomandato dai Centers for Disease Control and Prevention di Atlanta è poi ciò che andrebbe fatto. Ciò che andrebbe fatto ma che troppo spesso viene dimenticato, per cui questo ci insegna che corsi di formazione ad hoc e comunque che audit ad hoc intra-equip sono importantissimi per migliorare quelli che sono gli indici di performance sul rischio infettivo. E allora quando vediamo il rischio infettivo a cosa ci riferiamo? Ci riferiamo a un rischio che prevede la complicanza come sviluppo di malattie a fronte di interventi sporchi anche trattati in maniera eccessiva con antibiotici, ma anche naturalmente a condizioni in cui dei rischi ci sono e i trattamenti possono essere sottorrappresentati. In questo lavoro recentissimo, il lavoro del 2020, potete osservare come, soprattutto per quella che è la chirurgia sporca, ad esempio la chirurgia colon rettale, il problema sia il trattamento eccessivo. Mentre per interventi come il posizionamento di cateteri centrali, a parte l'età di natale, nelle altri periodi di vita del bambino, spesso e volentieri l'uso di antibiotici è inappropriato in senso negativo, cioè vengono utilizzati troppo poco, con il rischio di sviluppo di forme infettive gravi. Quando andiamo a considerare quello che è comunque il trattamento eccessivo e lo sviluppo di infezioni, vediamo anche che laddove appunto abbiamo una chirurgia sporca che viene trattata con una proprietà antibiotica eccessiva sia per durata del trattamento che per rispetto ad azione delle molecole, il rischio infettivo è comunque elevato. Cioè ciò significa che non è che se noi diamo tanti antibiotici allora gli interventi non si complicano con condizioni in tipo effettivo. Quando andiamo poi ad analizzare quello che è il problema colonizzazione dei soggetti operati, in questo lavoro che ho svolto alcuni anni fa quando mi trovavo a Milano, potete vedere come lo stato di portatore di Stapiro Copco sia comunque presente con discreta frequenza nella popolazione che viene sottoposta a interventi chirurgici. In questo lavoro osservate che il 35% dei soggetti sottoposti a intervento era colonizzato da Stapiro Copcus aureus. Dopo l'intervento tale percentuale aumenta il 39%. Chiaramente parlo di una colonizzazione nasale o faringea, ma non è che se voi trattate tutti questi casi con antibiotici con l'obiettivo di eradicare Stapiro Copcus aureus allora riducete questo incremento del rischio o comunque permettete al paziente di avere un beneficio. perché inevitabilmente il trattamento seleziona anche all'interno degli Stapiro Cocchi una flora di tipo resistente che potrà poi essere ancora più aggressiva laddove determinasse patologie. Per cui a fronte di questo è molto importante analizzare quello che è noto dal punto di vista dei dati scientifici anche nazionali sul fatto che spesso e volentieri l'uso inappropriato di antibiotici prevalentemente eccessivo riguarda soprattutto gli interventi di chirurgia sporca ma anche interventi di tipo ortopedico o per quanto riguarda la testa collo. cosa che si osserva soprattutto laddove l'intervento sia effettuato in regime di day surgery con l'idea che se il paziente è in day surgery alla fine può comunque ricevere più antibiotici che altro o con interventi come ad esempio testa collo per cui la profilassi non è magari indicata. Per cui vero che chirurgia contaminata rispetto a chirurgia pulita aumenta il rischio di prescrizione di antibiotici ma va anche sottolineato che le linee guida disponibili e le evidenze disponibili sono comunque relative ai singoli interventi e ciò significa che non è che dobbiamo aumentare o variare la tipologia di trattamento senza seguire le raccomandazioni perché queste raccomandazioni sono tutte uguali. sono raccomandazioni diverse per tipo di intervento per tipologia di paziente molto specifiche considerando i rischi legati al tipo di chirurgia e legati al tipo di trattamento. Quando consideriamo oltretutto quelli che sono gli errori più comuni ci rendiamo conto che questi errori riguardano diversi step alcuni step sono relativi al tipo di farmaco scelto altri sono relativi alla via di somministrazione altri ancora al timing o alla dose ci sono insomma moltissime ragioni per cui effettivamente vi siano degli errori prescrittivi che incidono poi nella possibilità di effettivamente seguire quelle che sono le indicazioni disponibili. D'altra parte è anche vero che quando noi parliamo di chirurgia dobbiamo anche seguire le raccomandazioni sì ma mantenere un elevato livello di sorveglianza perché? Perché alcuni anni fa in uno studio che abbiamo svolto sempre a Milano insieme agli otorini abbiamo osservato che il fatto di eseguire o meno interventi di adenoidectomia e trossilectomia si associasse nel bambino con infezioni ricorrenti a carico dell'orecchio medio e della faringe ha un maggior rischio di batteriemia. Cosa significa questo? È vero che nella norma adenoidectomia e trossilectomia non devono prevedere alcun tipo di profilarsi ma mantenere alto una sorveglianza in termini di monitoraggio di eventuali quadri compatibili con la batteriemia permettono di modificare quelle che sono le indicazioni e permettono di identificare delle categorie di soggetti come in questo caso che invece possono trarre vantaggio dalla profilarsi stessa. Allora proprio per questo, proprio per questa difformità proprio per il fatto che le linee guida pediatriche non avessero uno spazio tutto loro e magari venissero trascurati certi interventi che per il pediatra sono importanti come pure sono importanti per il neonatologo che richiedesse appunto la preparazione di un testo ad hoc testo ad hoc che stiamo stendendo in collaborazione con il gruppo della professoressa Taccolelli e del professor Piacentini in quanto presso l'azienda ospedaliera universitaria di Verona avevano proprio già lavorato su questo documento. L'obiettivo poi è quello di mettere a disposizione naturalmente il nostro documento con il Comitato Tecnico del Piano Nazionale Antibiotico Resistenza perché sappiamo che ci sarà un aggiornamento del Piano Nazionale per cui la nostra speranza è che anzi un testo più esteso effettuato da un gruppo multidisciplinare di professionisti che lavora sul bambino possa essere poi anche utile a livello nazionale e possa avere maggiore forza. A fronte di questo quindi stiamo lavorando su un progetto che vede la professoressa Taccolelli, la dottoressa Rivotti che fa parte dell'equipe del professor Piacentini coinvolti dal punto di vista del coordinamento, con Luigi Ascudellere del Policlinico di Milano che supporta il progetto della metodologia e vedete come abbiamo coinvolto diverse società scientifiche che hanno a loro volta identificato i loro esperti, società come la società italiana di pediatria, la società italiana di neonatologia, ma società anche di settore come la società italiana di malattie respiratorie e infantili, la società italiana di infettivologia pediatrica, il gruppo di studio di farmacologia pediatrica della SIP e ancora società che riguardano pazienti adulti o comunque anche pazienti adulti come la società italiana di malattie infettive tropicali, la società italiana di farmacologia o ancora naturalmente chirurghi pediatri, la società italiana di chirurgia pediatrica con il professor Lima e una KIP identificato dallo stesso, piuttosto che la società di anestesia e rianimazione neonataria pediatrica italiana e la società italiana di microbiologia. Gli esperti sono circa una sessantina e vedete come ci siamo prefissi delle deadline anche molto ambiziose, attualmente abbiamo completato la stesura dei quesiti pediatrici a cui rispondere nel documento, stiamo lavorando sulla letteratura relativa a queste domande e nel contempo alle domande relative al neonato, sviluppando poi dei questionari che presenteremo tendenzialmente nel mese di febbraio effettuati con metodo REND. Che cos'è il metodo REND? È un metodo che vuole ottenere il consenso per un gruppo multidisciplinare che vede addirittura 60 esperti con background diversi e che ha l'obiettivo di essere il più possibile inclusivo, il più possibile partecipativo perché se il gruppo diventa poi troppo indaginoso e troppo complesso non vede la partecipazione di tutti e che veda la cooperazione delle diverse anime. Per cui ci saranno magari esperti che si focalizzeranno su certe ricologie di interventi, altri che collaboreranno su tematiche più specifiche. Pensiamo ad esempio a quanto sia peculiare il settore la chirurgia oculistica e quindi richieda delle expertise ad hoc. Ancora altro elemento è quello che nella consensus si è tutti allo stesso livello per cui non c'è qualcuno che è superiore agli altri. Ma la valutazione vede tutti paritari e vede tutti orientati a trovare soluzioni che siano poi soluzioni pratiche implementabili nella pratica di tutti i giorni dove appunto noi tutti vediamo pazienti e dobbiamo gestire al meglio quella che è la patologia che osserviamo. Il metodo RENG quindi è stato scelto proprio per questa ragione, per la multidisciplinarità del gruppo, per le numerose società scientifiche coinvolte e prevede una sorta di survey a cui si risponde a fronte di un primo round con delle valutazioni di appropriatezza che identificano condizioni ritenute inappropriate, incerte o appropriate. a fronte di questo poi viene effettuato una consensus in presenza o comunque per via telematica e una seconda discussione in modo da stendere un documento che sia quasi totalmente considerato appropriato da tutti in quelle che sono le raccomandazioni che lo deriveranno. Vedete l'esempio delle domande che stiamo sviluppando per cui di fatto tra fine gennaio e febbraio gli esperti si troveranno a ricevere domande di questo tipo che considerano appropriata o meno una profilassi, un determinato farmaco, una determinata dose tenuto conto che alla fine i risultati raggruppati vedranno tre gruppi ciò che è considerato solamente appropriato, ciò che può essere appropriato, ciò che non è appropriato. e potete osservare considereranno anche delle valutazioni di classificazione che nella propria testa considereranno anche se un intervento è necessario o no e che prevederanno invece anche analisi sulla inappropriatezza o sull'incertezza di procedure che speriamo di risolvere con l'incontro finale. Quindi noi pensiamo che sicuramente estenderemo un documento che vuole essere impiegato da tutti i pediatri italiani da tutte le realtà, non sarà perfetto perché tutto è migliorabile ma ci auguriamo che grazie al nostro lavoro sicuramente in tanti ne potranno trovare vantaggio e i bambini potranno essere curati al meglio con soddisfazione di tutti degli operatori, delle famiglie e dei bambini stessi. Vi ringrazio per l'attenzione. Buonasera, ringrazio molto il professor Mosca che mi ha dato l'opportunità di parlare di questo argomento che è un argomento importante. Ringrazio molto il dottor Alberto Rillani per l'invito a un convegno così importante e vado a parlare della fratilassi delle infezioni nel neonato chirurgico come neonatologo. Non ho nessun conflitto di interesse. Sappiamo che i neonati sono suscettibili alle infezioni. Lo scenario di queste malformazioni maggiori del neonato ci spiega come il neonato chirurgico abbia ancora di più fattori di rischio per infezioni. Vedete che tutte le barriere di protezione sono saltate. e quindi nell'ambito della genesi delle infezioni neonatali il rischio costituito dalle procedure invasive è veramente molto importante e imponente. Questa è un'indagine di prevalenza importante perché è un'indagine europea che è stata fatta nel 2011-2012 su 1149 ospedali della comunità europea e in aggiunta a Croazia e Slanda Norvegia dove veniva studiata la prevalenza delle infezioni correlate all'assistenza e la tipologia di infezioni. La prevalenza delle infezioni è risultata del 4,2%. Vedete che le principali sono le infezioni generalizzate, le sepsi ma le infezioni del sito chirurgico rappresentano il 4% e sono maggiormente prevalenti dall'anno di vita in poi. Però anche tra i neonati insorgono e in modo anche importante tanto da determinare mortalità. Questo è uno studio fatto in Turchia su 437 neonati dove veniva studiata la mortalità prima della dimissione, la mortalità post-operatoria a 30 giorni e i fattori di rischio per mortalità post-operatoria. E vedete che questi neonati oltre ad avere dei rischi aggiuntivi di morte a 30 giorni dall'intervento per questioni biologiche, quindi età gestazionale, peso alla nascita, hanno dei fattori di rischio connessi alla loro degenza per la situazione chirurgica e quindi muoiono di più se hanno un ASA score maggiore di 3, quindi dei fattori di rischio per anestesia, se hanno un enterocolite necrotizzante o se vanno incontro ad una chirurgia addominale. E tra le cause di morte, appunto, le infezioni addominali conseguenti a chirurgia addominale facevano la parte del leone. Questo naturalmente ci costringe all'uso di antibiotici. Il problema è che la profilazione antibiotica, giustissima perché va a prevenire delle situazioni di rischio concreto, come abbiamo visto, viene applicata con variabilità enorme e con poca appropriatezza. Questo è stato visto anche da questo studio che è stato fatto negli Stati Uniti su 31 ospedali pediatrici, 671 mila interventi chirurgici. L'antibiotico profilassi veniva somministrata nel 52% delle procedure ma la variabilità era dall'11,5% al 100% con una mediana del 78%. Era giudicata appropriata nel 64,6% dei casi, che non è molto, si variava dal 47 all'84. Nelle procedure nelle quali una profilassi antibiotica reindicata veniva valutata come corretta nel 93,8% dei casi, ma in quelle in cui non era indicata era valutata come incorretta nel 52% dei casi. Quindi nella metà delle situazioni in cui una profilassi non era indicata in realtà veniva somministrata con un rischio aggiuntivo di enteriti da clostridium difficile in questi neonati sottoposti a profilassi. E la somministrata di antibiotici naturalmente aumenta il rischio anche di altre situazioni nel neonato, soprattutto quando è neonato pretermine. Vedete in questo studio, spattosi i neonati very low esposti a terapie antibiotiche, era stato studiato il proposto di sepsi in ecodecesso dopo 14 giorni di vita in relazione ai giorni di terapia antibiotica e il rischio di questo organ composito a 14 giorni di vita era aumentato del 24% per ogni giornata di terapia antibiotica aggiuntiva. Quindi questo vuol dire che dobbiamo utilizzare gli antibiotici, li dobbiamo utilizzare in modo appropriato e non eccedere. Ed è per questo che dobbiamo proporre delle linee guida sulla prevenzione delle infezioni associate a chirurgia nel neonato perché in realtà non ce ne sono. E cioè le linee guida per la prevenzione delle infezioni chirurgiche ci sono ma non solo specifica per l'età neonatale. E noi ne abbiamo molto bisogno perché i neonati sono assolutamente più predisposti, perché fino al 40% dei neonati sottoposti a chirurgia ricevono antibiotici inappropriatamente, perché l'uso di antibiotici di profilarsi nelle terapie intensive offre un target importante per una indispensabile stewardship antibiotica che è un problema oltre che di struttura individuale anche di sanità pubblica. E appunto come dicevo perché non abbiamo delle linee specifiche per il neonato e quelle per l'adulto non sono sempre e in tutti i punti adattabili al neonato. Parlando di infezioni in ambito chirurgico parliamo di infezioni della ferita chirurgica, sepsi e batterimia e sepsi associate a catetere vascolare. Io mi riferisco soprattutto a quelle della ferita chirurgica che sono quelle più specifiche della situazione, le altre prevedono dei protocolli anche al di là della presenza di un fatto chirurgico e questo è lo scenario di quello che può succedere in un neonato che va incontro a un'infezione della ferita con un'incidenza riportata dai CDC che arriva fino al 16,6% che è un'incidenza elevatissima. L'incidenza delle complicanze infettive è in relazione al tipo di intervento chirurgico e questa è una cosa importante perché condiziona poi il tipo di profilarsi che deve essere attuata in relazione proprio all'intervento. Quindi vediamo che per gli interventi puliti in cui non c'è rottura delle mucose, delle barriere protettive, l'incidenza è bassa 1%, in quelli puliti contaminati in cui c'è una rottura delle membrane mucose ma non c'è una perdita di materiale esterno, l'incidenza di infezione è del 3%, in quelli contaminati in cui c'è la perdita di materiale all'esterno è del 6%, in quelli sporchi è del 7%, cioè quando ci siamo delle situazioni per esempio come la perforazione intestinale. Il neonato quindi ha dei fattori anche aggiuntivi nella genesi delle infezioni del sito chirurgico perché oltre a quello che abbiamo visto prima, come è stato descritto in modo molto accurato da questa meta-analisi pubblicata lo scorso anno, ci sono dei fattori aggiuntivi e cioè l'età gestazionale, il peso alla nascita, l'età cronologica perché l'età cronologica diciamo si confonde con la maturità e cioè con la situazione immunitaria del bambino, la capacità di reazione, la durata dell'intervento chirurgico, il numero di volte in cui il paziente viene sottoposto all'intervento, la durata dell'adegenza pre-operatoria, cioè all'esposizione a fattori di rischio, la presenza di sepsi pre-operatoria, fatto curioso invece che l'uso pre-operatorio di antibiotici non rappresentava un fattore di rischio e comunque l'incidenza portata da questa meta-analisi è del 5,6% che ripeto è un'incidenza assolutamente alta. Vi dicevo che esistono appunto numerose linee guida per quello che riguarda la prevenzione delle infezioni del sito chirurgico, in ordine temporale ve ne mostrerò quattro, andando a vedere appunto quali sono i problemi per noi, queste sono state pubblicate nel 2019 da National Institute for Health and Care Excellence e vedete che dunque sicuramente gli antibiotici vanno dati prima della chirurgia pulita che però coinvolga, cioè previsa l'applicazione di protesi o di impianti nelle forme contaminate, mentre invece non deve essere utilizzata di routine negli interventi puliti e su questo siamo tutti d'accordo. Però per esempio ci dice, prima di dare degli antibiotici, tenere in conto della farmacocinetica e dell'emivita. Ora sappiamo che per esempio il metabolismo dei farmaci nel neonato è questo sconosciuto che cambia in relazione all'età gestazionale, quindi cambiano anche i livelli serici, per cui forse bisogna cercare di studiare un po' meglio quali sono i farmaci più adatti nel neonato, non è detto che siano quelli che attualmente vengono raccomandati. Poi abbiamo queste linee guida che sono state pubblicate nel 2007, sono l'aggiornamento di quelle dei CDC e anche qui ci sono dei problemi. per esempio l'antibiotico profilassi dovrebbe essere somministrato soltanto quando indicata in relazione alle linee guida pubblicate. Anche questo è un dato un po' generico, parla della disinfezione putanea utilizzando prodotti in base di alcol che sappiamo nel neonato non è possibile. L'antibiotico non dovrebbe essere somministrato dopo la chiusura della ferita chirurgica e anche qui sappiamo che nel neonato nella maggior parte dei casi si fa un cipro trial a profilassi sicuramente a 24 volte a 48 ore proprio in relazione alle situazioni di fragilità e di rischio. Abbiamo poi queste del 2016, l'aggiornamento delle linee del WHO e anche qui dunque la somministrazione della profilassi chirurgica dovrebbe essere fatta prima dell'intervento quando indicato. La raccomandazione è forte ma la letteratura a sostegno è povera. Come tempi danno 120 minuti prima, quindi due ore prima, ugualmente raccomandazione forte, evidenze moderate. E poi bisogna tener conto che queste evidenze sono tutti lavori scientifici che non prevedono popolazione neonatale. Quindi sono lavori scientifici fatti su bambini di età più grande oppure adulti e non sempre appunto possiamo trasferire queste nozioni dall'uno all'altro. Anche qui per la preparazione della cute prima dell'incisione si parla di prodotti alcolici e poi ci sono queste del Collegio Scozzese, le SAIN che sono veramente quelle che io preferisco perché danno delle indicazioni molto chiare per tipo di intervento chirurgico, parlano di raccomandazione in positivo o in negativo in modo chiaro e spesso anche suggeriscono che tipo di schema antibiotico somministrare e quindi dovendo pensare a delle linee specifiche, delle linee guida specifiche previsionato, io sarei veramente in questo senso molto didattica, cioè seguirei forse questo schema. Comunque quello su cui tutti si trovano d'accordo è che dobbiamo somministrare dei farmaci attivi contro i microrganismi che popolano la nostra struttura, che i livelli serici raggiunti devono essere alti, che se la procedura è lunga dobbiamo ripetere la somministrazione e che teoricamente non dovremmo somministrare i farmaci dopo le 24 ore. E quindi lo schema, ritornando al tipo di intervento chirurgico, è che nelle ferite pulite non si somministrano farmaci, nelle pulite contaminate è indicata la profilassi, nelle contaminate è indicata la profilassi, nelle sporche infette, alias perforzioni intestinali, NERC e altro è indicata la terapia antibiotica, cioè quella diventa una terapia e non una profilassi dell'intervento. I farmaci sono le cefalosporine di prima e seconda classe, soprattutto la cefazzolina, perché sono dei farmaci poco tossici, con lunga inivita e hanno uno spettro antibatterico alto, non devono essere usate le cefalosporine di terza e quarta generazione e gli interventi sono possibili. Guardate quello che succederà nel nostro ospedale tra il 2009 e il 2010, il 51% circa dei pazienti veniva trattato con cefalosporine di terza e quarta generazione come profilassi dell'intervento chirurgico. Dopo una sorveglianza di questo fenomeno, un intervento insieme al Comitato di Controllo delle Infezioni Ospedaliere, siamo riusciti a ridurre questa quota di disobbedienza all'8,5%. Quindi l'intervento chirurgico è sicuramente un fattore di rischio elevato perché la mortalità nei neonati sottoposta a intervento è da 3 a 5 volte maggiori di quelli che non lo subiscono. Abbiamo una variabilità nell'uso della profilassia antibiotica troppo ampia tra i neonatologi che è necessario standardizzare e quindi linee guida l'interrebbero moltissimo in questo e l'iniziativa della professoressa Esposito in questo spero che ci aiuti moltissimo. I punti che dobbiamo tenere presenti sono soprattutto la modalità di trattamento dell'acute nel preoperatorio, appunto la profilassia antibiotica quando e con che cosa, l'antisepsi dell'acute, la modalità di medicazione della ferita chirurgica e il monitoraggio anche con un follow up post dimissione perché ricordiamo che le ferite del sito chirurgico vanno valutate fino a 30 giorni dopo l'intervento. Questo è un esempio di quello che potrebbe essere una raccomandazione per il neonato, quindi quello che dicevo prima sulla scia del design, quindi potremmo adattare quel tipo di linea guida, strutturare un prospetto dei farmaci e soprattutto dei dosaggi che vanno utilizzati e come. E questo noi lo abbiamo fatto presso l'ospedale Bambino Gesù ed effettivamente c'è un monitoraggio molto attento delle infezioni della ferita chirurgica e un monitoraggio altrettanto attento in follow up in cui c'è un'adesione veramente fino appunto del 90.4%, quindi diciamo siamo abbastanza soddisfatti e comunque coscienti che questi sono i tipi di intervento da effettuare. Grazie mille dell'attenzione. Buongiorno, ringrazio innanzitutto la Società Italiana di Pediatria per il cortese invito che ha fatto alla Società Italiana di Chirurgia Pediatrica, di cui sono il presidente e per cui intervengo in merito a questa tavola rotonda sulle linee guida sulla profilassi chirurgica perioperatoria del neonato e del bambino. e mi hanno chiesto oggi di parlare del punto di vista del chirurgo pediatra. C'è da dire che il chirurgo pediatra con le innovazioni tecniche che sono giunte nell'ambito della nostra disciplina ha ridimensionato il ruolo della terapia e della profilassi perioperatoria, nel senso che le tecniche meno invasive come prima e le tecniche robotiche come seconde hanno chiaramente reso meno esposto il campo operatorio a quelli che possono essere i rischi di contaminazione. Adesso farò un veloce scursus di quelli che possono essere gli interventi di chirurgia pediatrica che possono essere fatti nelle varie fasce di età e soprattutto nei vari distretti anatomici. Il primo tra tutti non poteva che non essere l'atresia dell'esofago come vedete qui a sinistra c'è una tracheoscopia con l'incannulamento della fistola e il neonato sul tavolo operatorio. Oggi come oggi l'approccio ideale a questo tipo di patologia è quello toracoscopico che vedete in queste immagini, ovvero sia con l'accesso di un trocar da 5 mm e due o tre trocar da 3 mm c'è la possibilità di isolare la fistola, suturarla e fare la nastoposi. Questo ha completamente cambiato, proprio per il tema che trattiamo oggi, l'approccio a quella che è la profilassi e il trattamento antibiotico. Perché? Perché l'esposizione del campo operatorio che prima era un'esposizione molto invasiva con l'apertura del torace, l'uso del divaricatore di finocchietto eccetera e soprattutto quindi la contaminazione del campo operatorio oggi non esiste più con l'approccio toracoscopico. Un'altra patologia neonatale è quella dell'ernia diaframmatica. Anch'essa oggi viene affrontata per via milinvasiva in maniera toracoscopica e di conseguenza la sutura del diaframma che prima si faceva ad addome aperto con un'ampa esposizione, con lo spostamento delle ansie intestinali che spesso e volentieri venivano inglobate in una flanella per poter avere la visuale del campo oggi la si affronta sempre con l'utilizzo di tre trocker, un trocker da 5 mm per l'ottica e due trocker da 3 mm per eseguire l'intervento chirurgico. Questo oltre che essere decisamente meno invasivo comporta una minore invasione, una minore invasività del chirurgo e di conseguenza un utilizzo più mirato per quanto riguarda la profilassi perioperatoria di questi neonati. Un altro esempio che vi mostro è quello di un intervento toracico in un bambino, in un lattante, che è la sequestrazione polmonare. Vedete qui è un sequestro polmonare intralobare rifornito dalla orta, vengono clippati i vasi e successivamente asportato il sequestro conservando il lobo senza eseguire la lobectomia. Anche in questo caso noi abbiamo e possiamo fare ormai direi che è mandatorio fare un intervento toracoscopico a meno che non ci siano delle motivazioni chirurgiche e anatomiche che debbano far consigliare la conversione dell'intervento. Anche questo è un approccio completamente endoscopico, mini-invasivo e di conseguenza non c'è una contaminazione del cavo toracico. Lo stesso vale anche per quelle che sono le masse mediastiniche, in questo caso è un neuroblastoma mediastinico che viene fatto anche in questo caso con l'utilizzo di strumenti da 3 e da 5 mm perché permette l'utilizzo di device che sintetizzano e tagliano contemporaneamente. L'addome, ormai l'approccio all'addome del neonato, del lattante ma anche del bambino in età pre- e post-scolare è un approccio ormai mini-invasivo. Dovete considerare che questo è l'addome di un lattante che ha una aganglia colica totale e di conseguenza l'approccio viene fatto attraverso l'ombelico e per far entrare un trocar attraverso l'ombelico praticamente noi facciamo un'incisione che è una piccola mini-laporotomia e attraverso questa incisione è possibile estrarre l'intestino e trattarlo. Ma la contaminazione che può esserci, parliamo sempre di un intestino che non viene toccato, che non viene aperto, è assolutamente minima perché l'intestino interessato all'isolamento, per la correzione del megacoronare angliare, è un intestino che viene estratto dalla ferita chirurgica in maniera videoassistita, trattato e di conseguenza noi non abbiamo la contaminazione del cavo peritoneare. Anche gli interventi urologici ormai nella stragrande maggioranza vengono fatti con tecnica mini-invasiva, questa è una idronefrosipielica che è stata corretta per via retroperitoneoscopica, quindi si accede a un cavo virtuale come il retroperitoneo e viene trattata. È chiaro che un tempo una lombotomia, che spesso veniva considerata anche piuttosto ampia, dà una aggressione chirurgica di un certo tipo, ma anche una possibilità di contaminazione dall'ambiente esterno e comunque di possibilità di infezione sicuramente superiori. Vedete come quindi la chirurgia mini-invasiva ha modificato notevolmente quello che è l'approccio, soprattutto negli interventi che noi definiamo interventi di elezione. Un approccio che oltre a essere con una minima esposizione, perché entrano solamente i trocker, vedete questa immagine della sala operatoria OR1 che c'è a Bologna, ovvero si lavora guardando i monitor con la chirurgia mini-invasiva, ma soprattutto c'è anche un altro dato molto importante. Noi avevamo notato sempre, il chirurgo pediatra ha notato sempre, perché la lunghezza dell'intervento, nella durata del tempo, era direttamente esponenziale anche con le possibilità di infezioni post-operatorie. La tecnica mini-invasiva ha portato a una riduzione dei tempi operatori, dove c'è manualità nel fare questo tipo di chirurgia e organizzazione, e anche questo è un fattore molto importante per quanto riguarda la diminuzione della possibilità di infezioni post-operatorie. Naturalmente dobbiamo anche tenere conto di altre situazioni. Io ho trattato, ho fatto una breve carrellata, molto piccola, minima, trattando solamente il distretto toracico, addominale, retroperitoneale per le vie urinarie, e soprattutto il neonato, che comunque rappresenta un mondo a sé, ma ci sono anche, diciamo, il trattamento con tecnica mini-invasiva anche di condizioni di franca infezione. Queste sono delle immagini di un empiema pleurico al momento dell'aspirazione di quello che è il versamento, della rimanenza delle aderenze e, come vedete qui, anche di un pus che ormai si è coagulato e che bisogna ripulire. Naturalmente, ciò che vi ho appena detto, per quanto riguarda la profilassi peri-operatoria del bambino chirurgico, in questo caso bisogna chiaramente modificarlo. Come oggi viene affrontata, sempre con tecnica mini-invasiva, ormai quasi tutti i centri, si comincia con un approccio laparoscopico, l'appendicite acuta e anche tutte le peritoniti, e chiaramente poter lavorare attraverso un accesso di questo tipo in laparoscopia comporta una minore contaminazione, minore esposizione e quindi minore probabilità. La chirurgia mini-invasiva sta lasciando il piede alla chirurgia robotica. Questa è un'immagine di una idronefrosi che viene fatta per via robotica, per via attraverso il peritoneo. E anche in questo caso noi abbiamo degli accessi minimi che ci permettono, siccome il robot ci dota del movimento del polso, cosa che non abbiamo con le tecniche laparoscopiche, ancora meglio noi riusciamo a modificare e a correggere delle malformazioni. E soprattutto anche con la chirurgia robotica non solo c'è il rispetto, diciamo, dell'aggressività chirurgica, e quindi non più ampi tagli, ma anche c'è la possibilità di poter contenere quella che è l'infezione. Desidero concludere questo mio breve intervento portando il punto di vista del chirurgo pediatra, ricordando questi tre punti essenziali. La chirurgia pediatrica moderna, che ormai è una chirurgia mini-invasiva e nel futuro sempre più robotica, hanno rivoluzionato l'uso della profilassia antibiotica perioperatoria, per la minore esposizione dei tessuti e soprattutto per la minore invasività, minore sanguinamento, più veloce l'intervento. Rimane l'importanza dei distretti anatomici trattati e chiaramente delle patologie infiammatorie acute. A cosa mi riferisco con questo punto? Spesso e volentieri in alcuni distretti anatomici trattati apriamo l'intestino, facciamo delle anastomosi ed è chiaro che quella che non è contaminazione esterna può essere dovuta alla contaminazione dovuta all'interruzione e alla sutura dell'intestino, pur tenendo presente che oggi come oggi abbiamo molte armi per poter eseguire una pulizia curata dell'intestino anche nel bambino e una decontaminazione intestinale ideale. Il messaggio che poi infine desidero dare è, è vero, è cambiato, ha rivoluzionato l'uso della profissia antibiotica perioperatoria alla chirurgia minioinvasiva, ma bisogna sempre ricordarsi di porre la massima attenzione ed aggressività nel paziente chirurgico che potenzialmente può essere infetto. Non sto a sottolineare a dei pediatri, ma noi chirurghi pediatrici ce l'abbiamo sempre molto segnato bene nella nostra mente la rapidità con cui un bambino può passare da infetto asettico e di conseguenza come c'è stato un ridimensionamento di tutta la profilassia antibiotica perioperatoria, bisogna invece prestare una massima attenzione a quello che è il paziente potenzialmente infetto che può transitare velocemente verso la sepsi. Io ringrazio tutti voi, ringrazio il Presidente della Società Italiana di Pediatria che ha caldeggiato questo nostro intervento e nella speranza di aver potuto darvi alcuni dati essenziali anche se molto rapidi, vi saluto e vi ringrazio. Grazie 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 Buongiorno 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 sono Riccardo Borea sono il presidente della sezione regionale Liguria della società italiana di pediatria prima di iniziare prima di iniziare permettetemi di ringraziare il comitato organizzatore di questo bellissimo congresso digitale che la società di pediatria ha organizzato il consiglio direttivo della nostra società e in particolare il nostro presidente Alberto Villani ho il compito di introdurre due relatori che sono due amici che fanno parte del direttivo della società figure di pediatria Giorgio Conforti e Alessandro Consolaro Giorgio Conforti è anche il past president della società italiana di pediatria sezione Liguria è un pediatra di libera scelta che da tanti anni dedica un particolare interesse al mondo delle vaccinazioni e nella sua relazione ci parlerà come durante questa fase pandemica che ci caratterizza ormai e ci influenza la vita da marzo di quest'anno come l'adesione alla campagna vaccinale di promozione per tutte le vaccinazioni ha avuto un momento di criticità con una ridotta partecipazione da parte della popolazione pediatrica appunto alla campagna di promozione vaccinale per cui sentiremo da Giorgio quelle che sono le sue valutazioni le sue considerazioni dopo Giorgio parlerà Alessandro Consolaro Alessandro Consolaro anche lui è un caro amico è un dirigente medico della struttura complessa di reumatologia dell'istituto Gardellini di Genova e ci presenterà quello che è stato un argomento che è andato alla ribalta sui principali giornali italiani e non solo un aumento della malattia di Kawasaki che è stata riscontrata durante la fase pandemica questo aumento del numero di casi di malattia di Kawasaki è stato riscontrato come sapete non solo in Italia ma in tutto il mondo e si è anche parlato di una nuova sindrome della sindrome infiammatoria multisistemica e sentiremo Alessandro che novità ci porterà a riguardo di questi importanti aspetti dell'assistenza pediatrica in riferimento al covid e non solo al covid e poi ci parlerà di alcuni aspetti meno conosciuti che hanno avuto un'incidenza maggiore durante la fase pandemica covid-19 in questi mesi che sono la paralisi del facciale e un aumento di geloni acrali a livello cutaneo riscontrati nei nostri pazienti quindi passo la parola ai due successivi relatori e auguro a tutti un buon lavoro ringrazio per la presentazione in effetti mi occupo di vaccinazione credo di parlarne in modo un po' leggero siamo un sabato pomeriggio e quindi penso che la fatica di una settimana incida parecchio quindi chi ha pazienza e l'interesse a vedere la mia relazione gli ho dato appunto un sottotitolo un pochino più leggero che vuol dire dagli appennini agli appalacchi ovviamente un sottotitolo che viene da un famoso libro dell'autore del libro cuore che vedremo successivamente io l'ho cambiata questo titolo e ho parlato invece che degli appennini alle andre dagli appennini agli appalacchi e come mai dagli appennini agli appalacchi ma perché la presentazione inizia da un'esperienza che nasce appunto dai nostri appennini in particolare da una ridente località dell'appennino ligure che si chiama Amazone e gli appalacchi perché gli appalacchi è una catena montuosa vicino ad Atlanta negli Stati Uniti che non si può dire certo una ridente città ma famosa perché è sede dei CDC americani e quindi tante informazioni sulle malattie effettive sulla sorveglianza e sulla sua prevenzione nascono da pubblicazioni di questa istituzione così importante e famosa sede appunto ad Atlanta vicino agli appalacchi. I risiedi ad Atlanta segnalano il 15 maggio 2020 un crollo drammatico come spesso si dice nella letteratura delle coperture vaccinali soprattutto per le vaccinazioni pediatiche in particolare per i morbillo secondo appunto i registri americani. Crollo che è iniziato il 13 marzo ultimo scorso proprio in occasione della dichiarazione dello stato di emergenza da parte dell'autorità sanitaria e anche in Italia abbiamo avuto un crollo di queste coperture legate a quale realtà, la stessa realtà effettivologica ovviamente statunitense e le domande possono essere queste, paura del contagio da parte delle famiglie, vedete una cartina italiana dove le risposte dell'igiene pubblica sono state differenziate, alcuni ambulatori di igiene pubblica sono stati addirittura chiusi, il personale distratto verso altre mansioni di contenimento del virus, certamente un'attenzione mediatica verso il Covid-19 che ha messo in secondo piano tutto quello che è un discorso di pensione vaccinale verso le malattie prevenibili appunto da vaccino o altre motivazioni. E gli appannini che c'entrano? Per incisa anche il mondo di Amicis, autore di questa novella e Ligure è nata in Peria, tutto torna nel titolo. Tornando a Masone appunto negli appennini e in questa ridente cittadina degli appennini Liguri opera come pediatra di famiglia un caro amico e collega, il cui ambulatorio in cui opera il collega è adiacente all'ambulatorio di igiene pubblica dove usualmente si praticano le vaccinazioni, proprio sono contigui. In questo ambulatorio di igiene pubblica vengono correttamente conservati i vaccini, almeno fino al momento in cui l'ambulatorio di igiene pubblica viene chiuso per coronavirus. Ora noi Liguri siamo famosi per alcuni aspetti, un po' ci prendono in giro, sicuramente a noi non piace sprecare qualcosa e oltre a non voler sprecare qualcosa non ci va, non andava il collega, di obbligare decine di bambini del paese che per espletare le raccomandazioni a stare in salute rispetto a malattie prevenibili da vaccino avrebbero dovuto essere trasportati dei genitori in macchina in città di Genova, ambulsione dell'ambulatorio di igiene aperto più vicino al loro paese, distante 30 km per andare e altrettanti per tornare, anzi per di più oltre i 60 km per raggiungerli. Tutto questo era certamente facilitato dalla formidabile e efficientissima rita austro-stradale che tutto il mondo ci invida, in Liguria, saprete sicuramente, avrete saputo, dei cantiere autostradali che limitavano la percorrenza in quei mesi terribili ma tuttora in buona parte. Allora al collega che opera appunto a Amazone, ridente cittadino dell'Apennino Ligure, gli viene in mente un'idea, non potrei forse avere l'autorizzazione da parte dell'AS di accedere al frigorifero su prezioso contenuto praticando io le vaccinazioni almeno ai miei pazienti, quelli iscritti alle mie liste di assistenza? Siamo in Italia, ottenere queste autorizzazioni a costo zero, anzi a risparmio certo, non solo per le famiglie ma anche per l'AS, non è impresa banale perché il collega ha pensato bene di coinvolgere nella intemerata i quadri FIMP provinciali, la FIMP, la Federazione Medici Pediatri che opera appunto sul territorio nazionale per i pediatri di famiglia, i quali quadri avendo esperienza di decennali contatti non sempre andati a buon fine con i responsabili dell'AS, dopo reiterati i tentativi hanno finalmente ottenuto il famigerato placet di accesso ai contenuti del frigorifero aziendale. E quindi si è ottenuto finalmente di fare i vaccini cosiddetti a chilometro zero. Ovviamente erano felici anche i genitori che ormai vaccillavano all'idea di dover pagare un pedaggio, pedaggio nel vero senso della parola, per effettuare le agognate vaccinazioni ai propri paroli. 30 chilometri da andare, 30 chilometri da tornare. Nel resto noi della FIMP diciamo da anni che è importante portare i vaccini dove sono i bambini e non tanto i bambini dove stanno i vaccini, perché questo sicuramente è una strategia che porta al miglioramento delle coperture. Ma è solo un interesse della pediatria di famiglia tutto questo, o della Federazione Italiana Medici Pediatri? E no. Perché se vediamo il documento uscito dalla Regione Mondiale Sanità per la Regione Europea il 20 marzo 2020, quindi pochi giorni dopo l'inizio della pandemia, poche settimane dopo l'inizio della pandemia, questo documento metteva bene in evidenza quelle che erano le raccomandazioni per mantenere alti livelli di copertura delle vaccinazioni e dei servizi vaccinali appunto nella Regione Europea durante la pandemia da Covid-19. Il documento parlava di vaccini e parlava ovviamente di vaccinazioni, non parlo dei vaccini, di quali vaccini erano raccomandati mantenere alta la copertura, ma parliamo solamente e rapidamente di quelli che erano le raccomandazioni dell'OMS verso il mantenimento di un'adeguata offerta vaccinale. Il documento dell'OMS diceva che bisogna considerare bene la possibilità di combinare le vise di vaccinazione con i bilanci di salute e di ridurre il numero di ambulatori da frequentare per i bambini raggruppando i servizi di visita medica e di vaccinazione durante tali visite. E quindi qual è l'identikit che l'Organizzazione Mondiale di Sanità in questo documento così importante già di marzo 2020 indica come vaccinatore ideale in questa situazione di pandemia? Un operatore che fa pratica le vaccinazioni dovrebbe avere queste caratteristiche. Come abbiamo visto, deve poter combinare le vaccinazioni con i bilanci di salute. deve consentire di evitare di frequentare al soggetto, bambino in questo caso, più sale mediche, deve visitare il suo appuntamento, deve garantire un distanziamento, deve avere un rapporto affidabile con i portatori dell'assistenza del bambino, in questo caso ovviamente i genitori, deve ridurre il più possibile gli spostamenti delle persone. Insomma, valutando questi sette punti, mi sembra che l'operatore che risponda perfettamente a queste caratteristiche non possa essere che il pediatra di famiglia, per cui il mio è un invito a tutte le autorità sanitarie pubbliche a coinvolgere le pediatri di famiglia, come già in tante esperienze regionali, soprattutto in situazioni vaccinali, epidemiche e pandemiche che stiamo purtroppo vivendo, perché questo, dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è il miglior modo per tenere alte le coperture vaccinali. Sappiamo tutti quanto è importante evitare malattie prevenibili da vaccino, per di più nei momenti in cui il sistema sanitario nazionale è sotto stress. E termino con una foto degli appennini liguri, allora perché vogliamo andare fino agli appalachi? Ma stiamo in Liguria, venite a conoscere i nostri appennini, che sono una meraviglia, come questa immagine può vedere. Mare, monte, neve, aria aperta. È un augurio per tutti. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. Ringrazio il dottor Borea per l'introduzione. Io ho preparato una fotografia di quelli che sono stati i problemi clinici, con cui ci siamo confrontati nella realtà ospedaliera ligure, in particolare al Gaslini. Come si vede dal titolo e come immagino sia stato per molte altre realtà ospedaliere pediatriche, si tratta di manifestazioni cliniche che nella maggior parte dei casi sono conseguenti e successive all'infezione da nuovo coronavirus. E partirei dalla patologia di cui ho avuto conoscenza più diretta, cioè la sindrome infiammatoria multisistemica associata al SARS-CoV-2. Io ho potuto seguire tutti i bambini ricoverati con questa forma al Gaslini insieme a Roberta Caorsi, che vedete nella foto. Effettivamente noi abbiamo visto sei bambini, tutti con caratteristiche di malattie di Kawasaki. Tipica in quattro casi, incompleta in due. Ovviamente è lecito il dubbio se si tratta di Kawasaki, che avremmo visto anche senza l'epidemia di coronavirus. Nel nostro caso cinque dei sei bambini hanno avuto la serologia, o il tampone, o un contatto familiare positivo per SARS-CoV-2. Come vedete, dalla metà di marzo abbiamo avuto un caso alla settimana. Tutti i bambini sono stati trattati con immunoglobuline. In alcuni casi è stato necessario anche aggiungere il cortisone. Nessuno ha necessitato il ricovero in terapia intensiva. Due hanno avuto un decorso più difficoltoso e la Kawasaki si è complicata con un quadro di sindrome di attivazione macrofagica. In un caso, solo uno in realtà, vi è stato l'esito in un piccolo aneurismo. Questa è la nostra casistica di malattie di Kawasaki negli ultimi 12 anni all'ospedale Gaslini. Guido Marinelli e Alessandra Maggioni mi hanno aiutato a costruire questo database per un lavoro sulla Kawasaki che è in corso di pubblicazione. Quest'anno abbiamo visto fino ad ora otto malattie di Kawasaki, due oltre ai sei che vi ho descritto prima, tra aprile e maggio. Uno a gennaio, uno ad ottobre. Come vedete, sei casi in sei settimane sono un evento raro, ma non unico. Vi è già stato un caso simile nel corso del 2010. Ora, io ho pensato di presentarvi il più recente dei nostri casi. Vedete, questo è il caso di PA, chiamiamolo così, che mi è sembrato davvero emblematico. È stato ricoverato il 30 ottobre con febbre persistente. In pronto soccorso il bambino era francamente astenico, pallido, con dolore a racchide, estremità fredde, labbra fissurate, intensa iperemia congiuntivale, bilaterale, faringe iperemico e un rash maculopopulare diffuso. Gli esami all'ingresso mostrano un aumento della PCR, direi, moderato, una relativa riduzione delle piastrine, cioè piastrine che sono nel range di normalità, però nell'ambito di un quadro infiammatorio importante ci saremmo aspettati un valore più alto. E tra gli altri esami spicca un moderato aumento del PROVNP. Viene deciso di fare una valutazione cardiologica e non solo vi è il riscontro di una modesta ectasia di una delle arterie coronarie, ma vi è anche un'ipocinesia miocardica settale ed una minima di inizio di pericardite. PA viene trattato con immunoglobulina endovena e prednisolone. L'evoluzione è migliorativa. Il bambino si sfebbra, ma permane la tachicardia. La situazione non è del tutto convigente, non sembra completamente sotto controllo, anche perché questo PROVNP era un po' in aumento, per cui si decide di aumentare la terapia steroidea e da lì in poi il decorso è del tutto favorevole. Che cosa non vi ho detto di PA? Non vi ho detto l'età. PA ha dieci anni. e non vi ho detto che PA e tutti i suoi familiari hanno avuto una infezione da coronavirus. Questo era il rush che rappresenta l'esordio e soprattutto questi erano gli occhi con una tipica congiuntivite con risparmio dell'imbus che è proprio assolutamente quella che ci aspettiamo in una malattia di Kawasaki. In conclusione, cosa voglio dire? Io credo che la nostra osservazione in questa diatriba che si è creata tra una nuova patologia che è stata definita in vari modi, quello che viene utilizzato adesso è MIS-C, cioè sindrome infiammatoria multisistemica associata al coronavirus e malattia di Kawasaki. Credo che la nostra osservazione vada nella direzione che è stata elegantemente descritta da Angelo Ravelli e da Alberto Martini in questo editoriale, che è uscito recentemente su Annals Rheumatic Diseases, e cioè che la Kawasaki non sia una malattia, ma una sindrome che rappresenta una manifestazione stereotipata di diversi meccanismi patogenetici e uno dei quali è innescato dal nuovo coronavirus. In questo caso la malattia di Kawasaki tende ad avere un decorso mediamente più complicato e avere delle caratteristiche peculiari. Ricordate, penso che molti di voi l'abbiano già letto, lo sappiano, che già nel 2005 nel Nord America era stata riportata un'epidemia, un eccesso di case di malattia di Kawasaki in corrispondenza con il riconoscimento di un nuovo coronavirus. Cambiamo pagina. Un'altra manifestazione clinica altrettanto interessante, anche se meno impegnativa dal punto di vista della gestione clinica, è questa. Si tratta di lesioni acrali simili a geloni. Francesca Manunza, della dermatologia del Gaslini, e Sara Signa, sempre anche lei, lei lavora nel gruppo del dottor Gattorno, hanno raccolto 31 casi tra aprile e giugno con un'età media intorno ai 12 anni, in prevalenza femmine. Spesso queste lesioni, appunto simili a geloni, hanno interessato i piedi, più raramente le mani oppure entrambi gli arti. in meno di un quarto dei casi vi sono stati sintomi suggestivi di un quadro infettivo, in particolare di un'infezione da SARS-CoV-2. Solo uno su dieci, tre in tutto, solo uno su dieci ha avuto una serologia positiva per il coronavirus. In questo caso l'associazione con l'epidemia è solo temporale. le colleghe stanno lavorando all'analisi molecolare dei campioni ematici raccolti in una buona quota di questi pazienti. Inaspettatamente la signatura interferonica è risultata negativa, diversamente da come invece succede nel Cilblain lupus, ma è risultata aumentata una citochina che è a valle della trasluzione di segnale dell'interferone, sia di tipo 1 che di tipo 2. Adesso presto uscirà il lavoro, e vedrete quale sarà la loro interpretazione di questa manifestazione clinica. Tuttavia, possiamo escludere una correlazione con il coronavirus, vista la negatività della serologia? Ma direi di no. No perché ce lo dice la cronologia, l'eccesso di casi proprio nel periodo della scorsa primavera, e perché ce lo dice anche questo importante lavoro che è apparso recentemente su Cell, questo lavoro dimostra la presenza di cellule T specifiche per il SARS-CoV-2 anche in soggetti con serologia negativa. Quindi possiamo dire che c'è ancora un bel po' da studiare. E infine vi presento i casi che ha raccolto Giacomo Briska, nell'organico del DEA del Gaslini, ma è anche membro del direttivo della SIP Liguria. Giacomo e colleghi hanno osservato sei casi di paralisi del nervo facciale in un mese, tra marzo e aprile, contro uno o due casi all'anno in media. e tra i pazienti è abbastanza variabile, tutti negativi alle indagini mirate alla diagnosi di infezione della SARS-CoV-2. Tutti sono stati trattati con terapia steroidea, con esito favorevole. Qui vedete le immagini di risonanza magnetica che corredano la lettera che è stata pubblicata recentemente su Pediatric Emergency Care. Quando abbiamo deciso di presentare questi risultati non c'erano ancora pubblicazioni pediatriche sull'argomento, adesso se ne contano circa una ventina. Molto interessante, nel lavoro è descritto anche il caso di un neonato ricoverato per infezione da nuovo coronavirus. Il neonato non aveva nessuna manifestazione di questo tipo, ma l'aveva la madre che ha sviluppato una paralisi del settimo nervo cranico durante il ricovero del bambino positivo. Come riportano gli autori, è più verosimile anche in questo caso l'ipotesi di una patogenesi infiammatoria post-infettiva che di una infezione diretta da coronavirus, anche se è noto il neurotropismo di SARS-CoV-2. Nell'adulto, infatti, anche a supporto di queste ipotesi, sono segnalati diversi casi di neurite post-infezione da coronavirus come sia i casi di Guillain-Barré che di Miller-Fisher o quadri meno specifici. Io con questo ho concluso. credo che queste manifestazioni cliniche siano di notevole interesse scientifico, forse soprattutto per la negatività delle indagini serologiche che ci inducono ad andare alla ricerca dei meccanismi patogenetici che credo di poter dire sicuramente legano queste manifestazioni all'infezione da SARS-CoV-2. E con questo vi ringrazio per l'attenzione. Buongiorno a tutti. Approfitto per ringraziare a nome del Gruppo di Lavoro Nazionale per il Bambino Migrante, la Società Italiana di Pediatria, il Comitato Scientifico di questo congresso digitale e a tal proposito un ringraziamento va anche a chi ci sta supportando per la parte tecnica da remoto. Tratteremo in questa sessione dell'impatto della pandemia sulla popolazione migrante e di come questa abbia amplificato nello specifico le vulnerabilità di bambine e bambini, ragazze e ragazzi stranieri parte sempre più consistente e integrata del nostro paese. Lo faremo con Piero Valentini che dirige le malattie infettive pediatriche del Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Piero in collaborazione con Danilo Buonsenso affronterà tra i temi a noi più cari quello dell'accesso ai servizi. Passo a lui la parola e lo ringrazio per la disponibilità e il prezioso contributo a questa nostra sessione. Ti ringrazio Simona per l'introduzione. Cari colleghi, la pandemia che stiamo attualmente vivendo sta creando una serie di problematiche non solo a livello sanitario ma anche a livello socio-economico e politico. E se vogliamo comprendere a pieno ciò che sta avvenendo e sta influenzando il mondo pediatrico di cui ci occupiamo dobbiamo affrontare il problema prendendo in considerazione tre aspetti quello più tipicamente infettivo quello socio-economico e quello legato ai rischi a lungo termine. Cominciamo con il primo più squisitamente infettivo logico che per fortuna risparmia in gran parte il mondo pediatrico che non è interessato direttamente o perlomeno lo è in minima parte rispetto per esempio alla popolazione anziana. Tuttavia le perdite che si stanno avendo in molte famiglie anche perdite di familiari stretti producono sicuramente delle conseguenze a livello psicologico che non vanno trascurate. Inoltre la situazione complessa formata da incertezze da paure, stress possono essere prodromiche a problematiche di salute mentale più tipiche come per esempio la depressione e secondariamente magari più tipicamente per la popolazione adolescenziale portare a scarsa cura di sé o a situazioni di abuso di sostanza. Un altro effetto della pandemia è stata la decisione in molti paesi di chiudere la scuola per limitare la diffusione dell'infezione. Problematica materia di dibattito che tuttora è in discussione nel difficile bilanciamento tra rischi di diffusione e danni legati alla prolungata chiusura. Peraltro si sta osservando come l'ambiente familiare sia quello dove alligna preferenzialmente e inizia e si diffonde la sindrome respiratoria da SARS-CoV-2. E questo può essere di particolare importanza nel momento in cui l'ambiente familiare è un ambiente disagiato come si può osservare in centri di accoglienza o campi per rifugiati che sono collocati in situazioni di particolare degrado e dove può essere difficile andare e dare seguito alle indicazioni per la limitazione della diffusione delle infezioni. Peraltro le infezioni respiratorie costituiscono effettivamente un problema importante il problema principale come si resume da questo studio effettuato in alcuni centri di accoglienza per rifugiati in Germania dove si può osservare come le infezioni delle vie respiratorie siano le più numerose la principale motivazione per la richiesta di intervento medico e colpiscono in particolar modo la popolazione pediatrica tra i 5 e i 10 anni. Peraltro cambiando orizzonte qui siamo in Kuwait si può vedere come la popolazione immigrata sia purtroppo esposta a un maggior rischio sia di morti sia di problematiche respiratorie gravi rispetto alla popolazione di cittadini residenti e questo ovviamente legato in particolar modo alla situazione di disagio e di scarsa conoscenza di quanto sta avvenendo. Passando al secondo aspetto quello degli effetti socio-economici questi provocando una riduzione dei pil dei pil nazionali soprattutto degli introiti familiari soprattutto delle famiglie che legano il loro sostentamento a situazioni lavorative alquanto precarie porterà ad un aumento delle morti in età pediatrica anche sia per una riduzione delle campagne di immunizzazione si pensi solo che le campagne di immunizzazione contro il morbillo era previsto coinvolgessero circa 78 milioni di bambini entro i 9 anni di vita sia per un peggioramento della situazione alimentare oltre 360 milioni di bambini legano diciamo alla frequenza scolastica la possibilità di avere un pasto affidabile nell'arco della giornata e tale pasto verrà a mancare evidentemente in situazioni di chiusura delle scuole la riduzione del pil pro capite si aggirerà intorno all'8% il che porterà a un peggioramento della malnutrizione infantile e un numero di morti addizionali nei bambini al di sotto di 5 anni soprattutto nei paesi poveri dell'Africa subsahariana cambiando paese per esempio in Colombia si sta assistendo a fenomeni di xenofobia e discriminazione con fronte alla popolazione immigrata ritenuta responsabile della diffusione dell'infezione da covid-19 nel paese mentre alcune situazioni di fragilità come quelle relative alla condizione femminile sono ovviamente a maggior rischio in quanto in una situazione di disagio come quella che si sta vivendo le donne e ancora più le ragazze possono andare più facilmente incontro a violenze e abusi di genere peraltro interi gruppi di popolazioni in seguito alle disposizioni di chiusura dei confini nazionali si sono ritrovate intrappolate in situazioni particolarmente pericolosi in alcuni paesi in Cina è stato osservato da alcuni ricercatori cinesi la consapevolezza di quanto sta avvenendo nell'ambito della popolazione migrante è piuttosto bassa pertanto si ritiene fondamentale aumentare gli sforzi per campagne di educazione di informazione nei confronti della popolazione migrante al fine di affrontare in maniera riguarda situazioni di crisi come queste anche pensando al futuro l'ultimo aspetto è quello legato a possibili rischi a lungo termine nei confronti degli sforzi che si stanno facendo per raggiungere i famosi obiettivi di sviluppo sostenibile scorrendo i quali si può ben comprendere come le difficoltà economiche possano prolungare ulteriormente i tempi di raggiungimento di tali obiettivi dunque da varie parti del mondo scientifico si sono e si stanno rincorrendo richiami a una solidarietà che possa rendere trasversale il raggiungimento e mantenimento della salute pubblica e del benessere attraverso varie forme di intervento tuttavia quello cui si sta assistendo è una diffusa mancanza di volontà da parte dei governi di impegnarsi in tal senso mentre stanno prevalendo sostanzialmente gli interessi nazionali pertanto la solidarietà senza frontiere che viene invocata da Mariano Lugli in questo articolo su The New Humanitarian è difficile da raggiungere anche se interessanti proposte vengono dal mondo scientifico qui per esempio un gruppo di ricercatori svizzeri propongono una redistribuzione dei richiedenti asilo tra i vari paesi europei non prendendo più in considerazione solo le dimensioni delle popolazioni ma anche il loro coinvolgimento nella pandemia prendendo in considerazione per esempio il numero di morti che stanno avendo i vari paesi di fronte a una situazione come quella descritta a grandi linee ritengo sia importante fare ricorso a quel capitale sociale cui ciascuno può attingere nel momento in cui abbia creato abbia la possibilità di riferirsi a un patrimonio valoriale e relazionale di una certa importanza e vorrei concludere questo mio intervento proprio facendo riferimento a questo capitale sociale cui ho attinto recentemente per affrontare il caso di questa giovane ragazza di origine indiana affetta da una tubercolosi isoniazide resistente che le provocate nel tempo successivamente una adenite una mastoidite e infine un ascesso del lobo temporale è paradossale pensare che in una fase in cui stiamo disperatamente rincorrendo dei nuovi farmaci per affrontare una situazione sanitaria nuova ci vengano a mancare farmaci che sono alla base per affrontare situazioni che conosciamo come può essere la tubercolosi ebbene quello che è accaduto in quanto nel corso della terapia questa ragazza ha iniziato a non ritrovare più alcuni farmaci come la pirazinamide e anche la rifampicina che sono fondamentali per la cura di una forma di tubercolosi del sistema nervoso centrale a questo si aggiunga che stante la situazione appunto socio-sanitaria che stiamo attraversando la famiglia ha dovuto trasferire la propria residenza in un'altra regione italiana pertanto in un momento di difficoltà questa famiglia si è trovata in un ambiente nuovo piuttosto confusa disorientata e ha pensato ovviamente di chiedere aiuto a chi conoscevano che ha sottoscritto ma mi sono trovato nella difficoltà di poter dare loro aiuto stante la distanza per fortuna il paese di nuova residenza ho scoperto essere San Vito al Tagliamento dove ha lungamente diretto la pediatria dell'ospedale il nostro amico Franco Colonna attraverso il quale ho potuto contattare una gentile collega che si è resa disponibile per aiutare questa famiglia in difficoltà relativamente a questo aspetto pertanto è un aneddoto una semplice storia che però mi dà fiducia mi dà speranza e mi spinge a concludere questa nostra presentazione facendo riferimento ancora una volta a quella solidarietà che ciascuno di noi può mettere in atto e cui può fare ricorso per poter affrontare le singole storie che messe insieme poi possono portare avanti diciamo una una discussione relativa al corretto affrontare di queste situazioni complicate che stiamo vivendo e vi ringrazio per l'attenzione in questa seconda parte della nostra sessione focalizzerò l'attenzione sui minori stranieri non accompagnati e le misure di tutela della salute all'interno del sistema di accoglienza in corso di emergenza sanitaria partendo però da alcune considerazioni già condivise da Piero Valentini abbiamo visto infatti come sin dei primi mesi della diffusione del contagio non meno preoccupante del numero di casi dei ricoveri e purtroppo dei decessi sono state le conseguenze sociali ed economiche tra le fasce più fragili della popolazione a livello mondiale e proprio questo nell'ottica di Richard Horton che nel suo editoriale sul Lancet riprende quell'approccio alla salute pubblica già elaborato nel 1990 da Singer per cui Covid-19 non è una pandemia bensì una sindemia il virus colpisce infatti con la stessa rapidità tutti ma allo stesso tempo fa i conti con altre malattie persistenti e condizioni ambientali e socio-economiche sfavorevoli l'interazione fra tutte queste situazioni di rischio che si rafforzano e aggravano reciprocamente producono ulteriori disuguaglianze e povertà la letteratura internazionale ci offre a supporto di queste riflessioni dati ed evidenze anche per la popolazione pediatrica dalle analisi del network di sorveglianza del CDC negli Stati Uniti il tasso di ospedializzazione da marzo a luglio 2020 di soggetti Covid-19 positivi con età inferiore 18 anni è stato di 8% mila casi con una maggiore incidenza tra i bambini con età inferiore a due anni ma comunque basso se confrontato con la popolazione adulta i bambini e ragazzi appartenenti alle comunità ispanica e a quella dei neri non ispanici presentavano un tasso di ospedalizzazione più alto rispetto ai bambini della comunità bianca non ispanica e peraltro il 42% di essi presentava uno o più patologie associate e sul totale dei bambini ospedalizzati un terzo era stato ricoverato in terapia intensiva il 5,8% ha necessitato di ventilazione meccanica e si è verificato un solo decesso andando ai dati disponibili oggi in Italia sui migranti e sulle minoranze in generale che sono certamente meno puntuali e omogenee rispetto a quelli della letteratura internazionale la percentuale dei casi positivi tra gli stranieri è stata del 5,1% con una maggiore prevalenza nel sesso femminile e un'età mediana molto inferiore rispetto a quella dei casi italiani anche la distribuzione geografica è stata differente e si segnala inoltre che la pandemia non ha colpito nella stessa misura le diverse comunità di stranieri nel rapporto immigrazione 2020 curato da Caritas e Migrantes e dai colleghi della società italiana di medicina delle migrazioni i casi positivi tra la popolazione straniera provenivano da paesi con medio HD che è un indice di sviluppo economico multidimensionale l'America Latina e l'Est Europa hanno un medio HD per il 25% da paesi ad alto HD come l'Unione Europea e per circa il 17% dei paesi a basso HD cioè Asia e Africa centro-meridionale e cioè da correlare verosimilmente al tipo di occupazione nei servizi cosiddetti essenziali che non si sono interrotti durante il lockdown con la conseguente maggiore esposizione al contagio anche a causa di minori tutele lavorative e proprio di fine ottobre la pubblicazione del dossier statistico immigrazione 2020 e riguardo ai numeri riportati sono veramente tanti mi soffermo solo su alcuni proprio in funzione di quelle condizioni che abbiamo individuato costituire delle vulnerabilità per la popolazione migrante e straniera un primo dato è che per la prima volta dopo diversi anni nel 2019 si osserva un netto calo degli stranieri non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia di circa il 2,7% rispetto al 2018 e se da una parte si registra un aumento delle acquisizioni di cittadinanza italiana rispetto all'anno precedente è anche vero che per tutta una serie di motivi dal decreto sicurezza e abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ma anche per i decreti flussi che non vengono messi in atto e infine anche per il fatto che in Italia con l'attuale normativa se perdi il lavoro cadi in una condizione di irregolarità così è successo a circa molte persone e i numeri appunto degli irregolari sono saliti a circa 610.000 numero che è destinato a crescere nel corso di quest'anno in realtà questo non è avvenuto perché è stato in parte mitigato dal decreto regolarizzazione non abbiamo il tempo di soffermarci sulle ragioni di tutto ciò però sicuramente mi preme a rimandarvi a due documenti il primo è il DPCM del 2017 sui nuovi LEA molti di noi lo conosciamo sancisce ancora una volta quanto previsto dalla normativa vigente relativamente all'assistenza sanitaria ai minori stranieri in Italia e figli di genitori non regolarmente residenti e quindi senza non titolari di un non permesso di soggiorno e questi minori hanno diritto ad essere iscritti al servizio sanitario nazionale e quindi la loro mancata iscrizione contrariamente a quanti indicati appunto nel DPCM così come ancora si verifica in alcune regioni priva molti di questi bambini di un rapporto continuativo col pediatra di libera scelta anche solo di consulenza telefonica il secondo documento è una lettera che lo scorso anno ancora prima della pandemia la società italiana di pediatria sottoscriveva insieme ad altre sette società scientifiche indirizzate all'allora ministro della salute in cui si segnalavano i rischi dell'applicazione dei decreti sicurezza e in particolare dell'abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in termini questo di health literacy come diritto alla salute dei minori strettamente correlato alla capacità stessa dei genitori di orientarsi nel sistema sanitario aderire alle campagne vaccinali e comunque assumere comportamenti idoni per la promozione della salute dei propri figli tutte cose che sicuramente in una condizione di regolarità vengono meno per quanto riguarda i minori stranieri non accompagnati di cui appunto tratteremo adesso intanto nella diapositiva vediamo quanto riportato nel rapporto immigrazione caritas migrante cioè che il trend si osserve in questi anni un trend di netta diminuzione degli arrivi dal 2017 al 2020 e ancora di più se guardiamo gli anni precedenti 2015 2016 anche qui non abbiamo il tempo di soffermarci sui numeri che regolarmente il ministero nel lavoro pubblica mensilmente proprio riguardo agli arrivi e alle presenze in accoglienza però vorrei farvi osservare alcuni aspetti intanto in questi ultimi anni si è verificato una maggiore contrazione delle presenze in Italia tra i minori stranieri provenienti dall'Africa subsariana che storicamente raggiungono l'Europa attraverso il Mediterraneo centrale dalla Libia la chiusura di questa rotta ha determinato la diminuzione degli arrivi da Gambia Senegal Costa d'Avorio e Guinea dal punto di vista della protezione del diritto alla salute ha acquisito ancora maggior rilevanza in questo tempo di pandemia la situazione di tutti quei minori che si allontanano spontaneamente dai centri dalle comunità di accoglienza diventando cosiddetti minori irreperibili del tutto invisibili e altro aspetto nell'analisi appunto del fenomeno migratorio su cui ricade la nostra attenzione riguarda il destino di questi ragazzi una volta raggiunta la maggior età per la maggior parte di loro è troppo breve il tempo dall'arrivo al compimento dei diciotto anni per poter raggiungere una vera e propria autonomia e viene spesso disatteso quello che è il proseguio amministrativo fino ai 21 anni di cui parleremo più avanti qualunque sia la motivazione che li porta a lasciare il proprio paese sostanzialmente alla ricerca di un futuro migliore nel momento in cui arrivano in Italia i minori non accompagnati non possono essere rimandati indietro ma soprattutto perché gli siano riconosciuti i diritti devono essere identificati come minori in Italia nel 2017 è stata approvata la prima legge in Europa a tutela e protezione dei minori stranieri non accompagnati che si basa sul principio del superiore interesse del minore si tratta della legge 47 cosiddetta legge Zampa un importante traguardo è stato raggiunto nel luglio di quest'anno aggiungerei finalmente in quanto è stato approvato in conferenza a Stato-Regioni il protocollo multidisciplinare per l'accertamento dell'età seppur orfano dell'approccio listico il protocollo ha mantenuto un impianto multidisciplinare con valutazioni sequenziali e incrementali da parte dell'equip costituita dall'assistente sociale dal neuropsichiatra infantile dallo psicologo dell'età evolutiva dal medico pediatra è quello che purtroppo rileviamo è che il ruolo del pediatra sembra relegato a un ruolo appunto marginale ma ci riproponiamo nella sua implementazione nell'implementazione del protocollo di far sì che così non sia nel momento in cui avrà avviato l'accertamento sempre in caso di fondato dubbio sull'età dichiarata ricorrendo agli accertamenti strumentali solo in estrema razio lo stato di emergenza sanitaria ha avuto un impatto particolarmente significativo sui percorsi di inclusione socioeducativa e lavorativa in cui sono inseriti minori non accompagnati in diapositiva sono descritti tutti gli aspetti ci soffermiamo su alcuni nello specifico nelle modalità di rapportarsi con gli operatori dei centri di accoglienza nella convivenza spesso forzata tra coetanee e le conflittualità che possono nascere tra gli adolescenti della didattica online ma per quello che riguarda gli adempimenti burocratici amministrativi e giuridici una criticità è stata rappresentata dalla sospensione dei lavori e della normale operatività degli uffici di questura e prefetture e commissioni territoriali per l'asile e tribunali per i minori e quindi dopo una primissima fase di blocco si sono attivate alcune appunto attività in maniera non non completa e comunque abbastanza variabile all'interno del territorio e certamente tra oltre agli aspetti che riguardano i permessi di soggiorno la nomina dei tutori volontari per il proseguo amministrativo è stata certamente una criticità sono stati interrotti i tirocini formativi i contratti di lavoro non sono stati rinnovati e nuovi contratti di lavoro posticipati questo ha conseguenze non solo in termini economici ma anche motivi viste le aspettative ma soprattutto non solo quelle dei ragazzi ma quelle in loro riposte da parte delle famiglie rimaste nei paesi d'origine e poi purtroppo sono stati anche interrotti i percorsi etnoclinici di diagnosi e cura delle persone più vulnerabili durante il lockdown le principali organizzazioni non governative del terzo settore che partecipano al tavolo immigrazione e salute hanno monitorato l'implementazione delle indicazioni che non sono state sempre puntuali e tempestive in grado di orientare le comunità sulle modalità corrette per gestire l'emergenza a cominciare proprio dall'impatto negativo sui percorsi di accompagnamento in corretta informazione sulla carenza di dispositivi e proprio sul rispetto delle misure di prevenzione e diffusione del contagio compreso anche le problematiche relative alla gestione dei contatti e dei casi e dei nuovi grassi in struttura le indicazioni dal Ministro della Salute e da parte degli NMP sono arrivate a fine luglio e in questa diapositiva mostriamo un'indagine conoscitiva avviata dagli NMP dall'11 maggio al 12 giugno in cui sostanzialmente i dati sono riferibili a circa 5.000 strutture di accoglienza per un totale di all'80% e i casi confermati sono stati 239 pari allo 0,4% distribuiti in 68 strutture prevalentemente tra la Lombardia e il Piemonte un numero di positivi di 62 che hanno necessitato di ricovero ospedaliero di cui due in terapia intensiva e per quanto riguarda invece gli strumenti utili ad orientare la popolazione straniera durante l'emergenza faccio riferimento a due strumenti quelli forniti dall'associazione Il Grande Colibri che ha tradotto in oltre 50 lingue e ha fornito supporto e informazioni sulle misure di prevenzione e sulla divulgazione anche di quelle che sono stati in collaborazione col Naga tutte le disposizioni legislative introdotte fino alle ultime riguardo alle regole per le regioni rosse arancione e gialle attraverso il CRC abbiamo segnalato tutte queste criticità e ultimo elemento per la nostra azione di advocacy facciamo riferimento a questo editoriale di Medu Medici per i diritti di umani che ci sollecita a ripensare le politiche migratorie per tutti coloro che i migranti forzati alle frontiere dell'Europa accolti in grandi campi con tutte le vulnerabilità che avevamo già visto con Piero Valentini e altrettanto inaccettabile risulta la quarantena disposta sulle navi a largo delle nostre coste che non possono garantire nulla di quello che ci siamo detti per la tutela dei minori non accompagnati concludo con questo editoriale dello scorso anno sull'Anse in cui si ripetisce che la crisi migratoria non è una questione di numeri ma di mancanza di politica al passo con le sfide oriente che invece vanno raccolte no public health with art migrant health grazie per la vostra attenzione ringrazio tutti quelli che hanno collaborato in questi mesi alla realizzazione di tutta una serie di attività azioni e riflessioni e trovate sul sito i riferimenti per i nostri centri distribuiti su tutto il territorio nazionale buona continuazione a presto buongiorno sono Luca Ramenghi rappresento la medicina per i natale la SINP la società italiana di medicina per i natale che presiedo ed è un piacere cercare di onorare l'impegno e lo spazio dato alla società italiana di pediatria relativamente alla problematica del covid nel mondo per i natale e quindi abbiamo pensato di distribuire questi spazi cercando di mettere in luce l'esperienza diretta del mondo di Milano della professoressa Cettin e anche del professor Zuccotti che lavorano insieme sia all'ospedale Buzzi che al Sacco come ospedale covid di Milano molto importante quindi queste saranno le relazioni però in senso di sequenza ci sarà anche una relazione del professore Ezio Fulcheri che lavora qui al Gaslini con me a Genova e che si parlerà della placenta e di quello che la placenta può offrire in questo tipo di diagnostica noi siamo molto grati alla presidente della società italiana di pediatria per quello che fa Alberto Villani e soprattutto anche per questo bellissimo spazio e questa opportunità che ci offre per far conoscere come tutti noi ci siamo impegnati in questo settore e ad ancora oggi siamo alle prese con queste problematiche con i dubbi che sono poi un po' forse alcuni chiariti quelli dell'inizio della pandemia se la trasmissione verticale avviene se c'è un aumento un rischio di prematurità per queste problematiche alcuni dati per esempio su Roma sembrano dire il contrario appena pubblicati dai colleghi di Roma e anche cosa altro si può capire attraverso proprio le potenzialità dello studio della placenta io introduco quindi in sequenza la professoressa Cettin dell'Università di Milano e direttore della clinica ostetrica dell'ospedale Buzzi la professoressa Giacomet che lavora a fianco il professor Zuccotti come infettivologa pediatra e lavora anche proprio specificamente nel reparto Covid sia del Buzzi che del Sacco e che però prima di lei parlerà il professor Fulcheri per ciò che concerne la competenza da anatomo patologo e da grande esperto di patologia placentare della placenta nello specifico dell'infezione da Covid io ringrazio ancora la SIP e auguro un buon ascolto e una buona visione a tutti i partecipanti grazie e buongiorno grazie 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 professora Menghi presidente SIMPA per questa introduzione io inizierò subito con l'argomento di cui mi devo occupare in questa in questa occasione essendo ginecologa tratterò il Covid 19 nel mondo per il Natale per la parte dell'ossetricia sappiamo ovviamente che come per tante altre malattie la potenziali problemi che un'infezione da SARS-CoV-2 in gravidanza potrebbe porre possono essere a vari livelli possono essere legati a una malattia materna che potrebbe avere un'evoluzione severa e quindi dobbiamo pensare a prevenirla dobbiamo pensare a come diagnosticarla pensare a dover ricoverare le donne eventualmente che hanno bisogno di supporto respiratorio ed eventualmente anche di terapia intensiva e alle terapie da praticare perché ovviamente le terapie potrebbero rappresentare un problema dobbiamo porci anche il problema e adesso chiaramente essendo passati purtroppo diversi mesi dall'inizio di questa pandemia abbiamo un po' più di dati in merito a questo dobbiamo porci il problema se ci sono più gravidanze affette da patologie e dobbiamo porci anche il problema del possibile effetto sul feto e sul neonato per effetti diretti dell'infezione e quindi praticamente trasmissione verticale che può avvenire durante la gravidanza durante il parto o durante l'allattamento allora siccome abbiamo poco tempo e io tratterò questo argomento in una decina di minuti mi concentrerò sull'ultimo di questi punti principalmente però con qualche accenno anche il resto prima di tutto come probabilmente immagino sia successo anche in altri posti comunque noi in particolare a sacco abbiamo ricoverato pazienti fin da febbraio pazienti affetti da covid siamo stati un centro hub e insieme ad altri colleghi sia Lombardi che Veneti che dell'Emilia Romagna abbiamo messo insieme un po' di dati iniziali per riuscire a contribuire anche a quello che stava succedendo negli altri paesi e quindi fin dall'inizio abbiamo iniziato a raccogliere dati e questi sono dati raccolti nel periodo proprio tra febbraio e marzo di 77 pazienti che avevamo avuto ricoverato in questi centri di cui 14 con una malattia severa vedete che di queste 14 con malattia severa in questo lavoro che vi invito eventualmente a leggere sono dettagliati tutta una serie di aspetti proprio in termini anche di tempo per cui vedete che per esempio per quanto riguarda la prima paziente che è stata ricoverata a 37 settimane di epoca gestazionale dopo immediatamente al momento del ricovero essendo a quell'epoca davendo una patologia particolarmente grave dal punto di vista respiratorio è stato praticato subito un taglio cesareo per consentire alla mamma di essere assistita meglio e dopo un giorno la paziente è stata trasferita in un centro dove è stata sottoposta ad ECMO per un paio di settimane dopodiché per fortuna è stata meglio e al tempo in cui era stata considerata era ancora ricoverata ma poi dopo so che è stata rimesa e adesso sta abbastanza bene quindi quello che voglio dire è questa è stata una delle questa prima riga questa prima paziente di cui vi ho detto è stata una delle pazienti che in Italia ha avuto l'evoluzione più grave per fortuna e incrociamo le dita fino ad oggi in Italia nessuna paziente è morta per covid in gravidanza ma questo è successo in altri paesi del mondo in particolar modo con casistiche simili in termini numerici alla nostra in Inghilterra sono morti ben 5 pazienti gravide in questa diapositiva vedete come sono stati differenziati alcuni parametri tra le pazienti che hanno tra le pazienti presentate in questo lavoro che erano state tutte comunque ricoverate ma tra quelle che avevano avuto esiti più severi verso quelle che da un punto di vista clinico erano meno sintomatiche e una prima cosa che si può vedere che al pari di quello che è stato evidenziato negli studi nei pazienti adulti ricoverati nelle terapie intensive le pazienti gravide che hanno avuto esiti più gravi avevano un BMI pregravidico significativamente più alto vedete un valore medio di 30 rispetto a 22,8 delle pazienti meno gravi hanno avuto più parti prematuri ma in questo caso il parto prematuro era principalmente iatrogeno cioè determinato dai curanti che decidevano di aspettare il parto perché le condizioni materne stavano peggiorando ma comunque in ogni caso anche se guardiamo solo la percentuale di parti pretermine spontanei vediamo che c'è una percentuale maggiore quindi probabilmente una situazione tipo infiammatorio maggiore nelle pazienti con la patologia più severa e anche percentuali decisamente molto più alte di tagli cesarei come modalità di parto nelle pazienti con la clinica più grave e vediamo come comunque in realtà tuttavia in questa popolazione soprattutto se la guardiamo complessivamente la percentuale di tagli cesarei è stata comunque diciamo solo tra virgolette anche se comunque un pochino più alta di quella normale però è stata solo del 39% verso un 61% di parti vaginali sapete che questa è stata una cosa molto dibattuta all'inizio perché in Cina sostanzialmente tutte le pazienti che avevano il covid all'inizio venivano sottoposte a taglio cesareo per il timore del rischio di trasmissione verticale infatti i primi dati cinesi usciti già a febbraio quando noi appunto eravamo ancora decisamente senza casi in Italia perché il primo caso è avvenuto il 20 febbraio uscivano con questo lavoro che presentava i risultati della trasmissione in realtà qui nel titolo parlano di 9 pazienti ma in realtà il dato della trasmissione verticale era solo su 6 pazienti scusate e su queste 6 pazienti tutte sottoposte a parto cesareo e tutte con sintomi febbre o sofferenza fatale in cui sono stati analizzati i tamponi della gola del tapone rinofaringio del suliculo amniotico sangue cordonale sul rinofaringio neonatale sul latte materno e nessuno di questi è risultata una positività nei campioni che provenivano dal distretto utero placentare e dal feto quindi e neanche nel latte materno in questi 6 casi che però erano decisamente molto pochi tutti sottoposti a taglio cesareo non era stata dimostrata trasmissione sulla base un po' appunto di questi dati noi in Italia abbiamo ritenuto assolutamente non utile procedere con un'indicazione al taglio cesareo solo per l'infezione da SARS-CoV-2 e in effetti questo è stato premiato perché poi è stato riconosciuto essere la scelta giusta e come vedete anche un altro lavoro che abbiamo preparato molto velocemente sui dati della Lombardia principalmente evidenziava come su 42 gravidanze seguite semplicemente dal punto di vista clinico e con una valutazione dei tamponi ridonfaringei neonatali vedete come in 24 casi di parto vaginale c'erano stati due neonati positivi e in 18 casi sottoposti al taglio cesareo un neonato positivo però tutte queste pazienti avevano allattato e in tutti questi casi in cui il neonato era risultato positivo il testing della positività al virus era stata ottenuta solo non immediatamente quindi dopo che il neonato era già venuto a contatto con la mamma e quindi non poteva essere esclusa una trasmissione per questa via per cui a questo punto noi ci siamo concentrati invece su studiare la trasmissione verticale in modo molto raffinato ed attento e questo lavoro è stato pubblicato in ottobre su Nature Communications e in questo lavoro abbiamo presentato i risultati ottenuti in 31 donne gravide tutte positive all'infezione da SARS-CoV-2 in cui abbiamo studiato il genoma virale nella placenta nel cordone umbilicale nella vagina e nel latte e abbiamo anche studiato la presenza di anticorpi anti-SARS-CoV-2 IgM e IgG sia nel cordone umbilicale che nel latte materno quello che abbiamo ottenuto molto semplicemente è stato che abbiamo avuto due casi in cui è stata trovata positiva la placenta per il per il genoma virale e invece la positività è stata trovata anche in un caso di cordone umbilicale positivo in questo stesso caso anche la vagina della mamma era positiva e il latte materno pure era positivo in un altro caso abbiamo trovato invece la presenza di anticorpi anti-GM e anti-GG e quindi a testimonianza di un'infezione che era già avvenuta da un pochino di tempo e aveva già stimolato la produzione di anticorpi a livello fetale e vedete come questo è stato un lavoro molto complesso dove tutte le analisi sono state eseguite in collaborazione con patologi del nostro dipartimento e quindi andando a vedere poi anche proprio le percentuali rispetto al numero esatto di campioni analizzati vedete che possiamo dire che la positività è presente di trasmissione verticale sebbene bassa perché alla fine possiamo dire che i campioni risultati positivi erano 2 su 30 quindi su 31 quindi sarebbe il 61 scusate il 6% di trasmissione verticale chiaramente questo con i numeri più alti potrebbe variare un pochino ma è comunque inferiore al 10% e anche questa positività era presente anche nel latte in un caso su 10 campioni analizzati l'altra cosa interessante che sempre in questo studio è stata valutata una serie di parametri di infiammazione e quello che vi posso dire è che si sono dimostrate alterazioni molto importanti nell'espressione di geni di tipo pro-infiammatorio nelle placente dei soggetti positivi anche indipendentemente dalla positività della placenta e questo lo stiamo vedendo anche con un altro studio che è in corso attualmente dove anche nei soggetti dove la placenta non è apparentemente infetta ma c'è l'infezione materna c'è una risposta placentare di tipo pro-infiammatorio anche proprio a livello di metabolismo energetico per delle modificazioni a carico dei mitocondri e vediamo anche invece nella parte destra di questa diapositiva che questa reazione infiammatoria importante che si è trovata nella placenta si accompagna anche alla produzione e alla dimostrazione della presenza di aumentati livelli di proteine di tipo pro-infiammatorio nel plasma sia materno che anche fetale che quindi la reazione infiammatoria che è stata molto descritta nei soggetti affetti da SARS-CoV-2 infetti da SARS-CoV-2 si riproduce anche nel cordone umbilicale quindi questi feti sono comunque feti che nascono in una condizione di equilibrio di tipo spostato verso l'infiammazione quindi arrivando un po' alle conclusioni noi già fin dall'inizio di questa pandemia sono state fatte molte linee guida questo è uno di queste che diciamo rappresenta la linea guida del CDC che dice che in gravidanza cosa si deve fare dobbiamo sicuramente lavorare ostetrici insieme ai neonatologi ai pediatri insieme ai gli infettivologi ai rianimatori dobbiamo aderire dalle linee guida per il controllo dell'infezione dobbiamo in gravidanza ovviamente controllare il benessere fetale e la presenza di contrazioni che avvengono più facilmente in queste donne sottoposte a questo stress di tipo infiammatorio dobbiamo considerare ovviamente di ricoverarle un pochino prima di un soggetto non gravido per praticare una ossigenoterapia precocemente ed eventualmente chiaramente arrivare ad una vittoria meccanica considerare il trattamento eventualmente delle coinfezioni e ovviamente praticare tutte le procedure di controllo delle infezioni oltre a questo che è stato detto fin da subito diciamo che quello che vi posso dire di altro è che in gravidanza viene sicuramente suggerito sicuramente nelle donne che hanno contratto l'infezione ma in realtà a livello preventivo dovremmo pensarlo per tutte le donne gravide attualmente di supplementarle con vitamina D e vitamina C per aumentare le loro difese immunitarie nel caso le donne sviluppino febbre il paracetamolo può essere una prima somministrazione da fare anche a domicilio e in questo caso appunto in caso di presenza di sintomi anche ormai ci stiamo orientando sicuramente nelle pazienti ospedalizzate ma anche nelle pazienti a domicilio se diventano sintomatiche in gravidanza a utilizzare come profilassi l'eparina da sopeso molecolare come profilassi delle trombosi che ovviamente in gravidanza sono facilitate dall'assetto di tipo anche pro-coagulatorio che assume il sistema coagulatorio e ovviamente il parto vaginale è la prima scelta salvo la presenza di altre indicazioni ostetriche che chiaramente sono valide anche per queste pazienti o di complicazioni materne vorrei anche spendere proprio dieci secondi ancora per dire che è molto importante che anche nelle pazienti positive al covid non ci dimentichiamo che il parto è un momento molto importante che la presenza del partner deve essere favorita che deve essere favorito all'allattamento e che dobbiamo tutti cercare di fare in modo che non siano delle pazienti per le quali questa nascita e questo momento così meraviglioso diventi un momento tragico grazie per l'attenzione buongiorno brevemente cercherò di tratteggiare lo stato dell'arte relativa alla diagnostica della placenta nell'ambito delle infezioni da SARS-CoV-2 dagli anni 1950 agli anni 1980 una trentina d'anni la diagnostica placentare è stata basata su quella che io amo definire la teoria dei grandi eventi vale a dire che si guardava la placenta per degli aspetti molto rilevanti ma anche in parte in gran parte macroscopici come vedete segnati a destra dell'immagine in altre parole mancavano assolutamente le correlazioni con l'istopatologia anche perché l'istologia normale della placenta non era ancora né definita né perfettamente conosciuta abbiamo dovuto attendere il 1979 una data che è un po' lo spartiacque nella istopatologia placentare per cui il professor Kaufman anatomico definisse l'istologia umana normale della placenta a termine e da quel momento in poi si sono sviluppate grandi filoni di ricerca grandi momenti e grandi interessi sul tema dell'istopatologia placentale abbiamo però dovuto ancora aspettare molti anni ancora fino al 2015 praticamente altri 35 anni prima che si venisse definito ad Amsterdam il consensus per definire non tanto le lesioni istologiche ma la diagnostica cioè categorizzare la diagnostica della placenta e dobbiamo al lavoro di Redline negli stessi anni di aver identificato due grandi filoni quello che ha definito come maternal vascular mal perfusion cioè i difetti della placenta dovuta a una perfusione anomala da parte della decidua dell'utere che in genere del comparto vascolare materno dall'altra che è il fetal vascular mal perfusion cioè quelle lesioni che erano proprie della placenta dovute ad alterazioni della circolazione fetale su questi due binari questi due binari importanti sono state declinate tutte le lesioni istopatologiche i più importanti del disco coriale del funicolo e delle membrane poi parliamo di SAV SCORE 2 ed è facile parlare perché nessuno aveva ancora potuto dire qualcosa o rifarsi ad esperienze anche antiche così nell'arco di un anno sono sorte prima delle segnalazioni sporadiche degli articoli delle precisazioni che avevano tutto il profumo e la paura della teoria dei lavori pilota erano lavori che non erano validati che non erano come potrei dire una parola studiate adeguatamente e in quest'ottica si è ritornata alla patologia dei grandi eventi cioè qualcosa che suscitasse l'interesse il primo lavoro ed è esemplificativo in questo senso porta addirittura un coriangioma come lesione ritrovata gli autori sono stati molto onesti non hanno detto correlata però l'avevano trovata e di lì in poi c'è stata una corsa a segnalare qualcosa che veniva anche trovato nelle placenti di madri positive dobbiamo aspettare un lavoro questo che è il più recente che è una review molto importante fatta su tutti i lavori pubblicati nel corso di quest'anno sull'istopatologia della placenta questi gli autori prendono in esame 268 pubblicazioni da queste traggono altre 219 pubblicazioni dalle bibliografie delle prime per un totale di 480 pubblicazioni ne scartano 430 e ne esaminano 50 ritenute valide per casistica per rigore metodologico in queste pubblicazioni vedono e classificano la patologia materna preesistente o concomitante all'infezione da SARS-CoV-2 ed in particolare il diabete gestazionale l'ipertensione in gravidanza che la fanno un po' da padroni i numeri comunque non sono tanti e il lavoro più importante da questa review è quello di aver classificato sulla base di quel lavoro importante di redline di nuovo le lesioni istopatologiche della placenta nei due grandi gruppi principali nel maternal vascular marperfusion e nel fetal vascular marperfusion ma il valore di questa review consiste anche nell'aver dato il giusto peso a tutto ciò che sembrava molto importante quale le villiti le intervilliti le corinamioniti che invece come si vede dal graffito hanno assunto delle dimensioni molto molto contenute se io prendo un esempio di patologia placentare questi sono casi tutti di madri co-positive e prendiamo ad esempio questa lesione classicamente un impianto inadeguato e insufficiente riferibile a un maternal vascular malperfusion sappiamo benissimo che l'impianto inadeguato e insufficiente è dato da una difficoltà di interazione tra l'atrofoblasto intermedio e stravillare e i vasi deciduali e sappiamo anche che questa integrazione avviene in due momenti nelle due migrazioni importanti tra 12 16 10 e 14 non interessa capire in questa sede chi dei due autori abbia avuto ragione nel tempo sta di fatto che le ondate sono due ma è importante anche dire che si realizzano comunque entro la sedicesima diciassettesima settimana il che ci porta a dire in un momento lontano dal momento finale per i partum nel quale noi stiamo ragionando la patologia della placenta dismaturità villare un caso tipico di una fetal vascular marperfusion una maturazione ritardata una maturazione difettiva con villi anomali e se guardiamo le tappe di differenziazione 21 24 25 28 29 32 33 36 non col senso di voler raccontare adesso quali sono gli aspetti istologici ma per spiegare come tutta la maturazione villare si sviluppa nell'arco di settimane anzi di mesi e poi come abbiamo perveniamo a un quadro di placenta immatura cioè una placenta che è alla 37esima settimana ad esempio ha le caratteristiche istologiche di una trentesima ma ancor più parleremo del concetto di dismatura quella placenta con un disordine non solo maturativo ma anche strutturale quel concetto di dismaturità che ancora una volta non si può immaginare possa realizzarsi nell'arco di poco tempo ed allora ecco perché in questa revisione importante che è stata fatta si perviene alla conclusione che non può esserci una correlazione tra ciò che si trova cioè i danni placentari e una condizione di infezione da SARS-CoV-2 che si realizza in poco tempo in altre parole non possiamo immaginare che un'infezione di una settimana o due possa determinare dei danni dell'architettura villare che richiedono settimane per potersi instaurare e così anche i dati che porta questa review della identificazione della positività a un giorno dal parto da una settimana dal parto e poi via via sempre meno e sempre più lontani dal momento del parto adesso proviamo a immaginare di studiare questi che sono i casi non oggetto di studio quelli eliminate andiamo a vedere tra questi 430 se c'è qualcosa che può interessare qualche elemento importante e allora è necessaria una preliminare valutazione del quadro clinico materno ecco cosa emerge da tutta quell'abbondante letteratura capire da quanto tempo ma non solo da quanto tempo se è una positività se è una paziente sintomatologica se ha complicanze cardiocircolatorie se è in terapia o addirittura se è in rianimazione e ancora a fronte di questa particolare lettura integrata sullo stato sulle condizioni di salute della mamma le interessanti valutazioni delle lesioni acute quelle che invece escono dall'attenzione non sono attenzionate come si potrebbe dire dai grandi lavori edema congestione villite qualcosa che ci parla di eventi acuti e in quest'ottica che ad esempio questo lavoro condotto solo su sette casi può diventare molto interessante perché ci racconta della vasculopatia trombotico-fetale instaurabile in pochi giorni i giorni tali e quanti sono quelli della malattia materna dell'infezione materna ecco allora che è un'altra chiave di lettura questa che ci porta ad accogliere a ricercare con 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 l'appoggio e sulla traccia della clinica materna le lesioni ultima e finisco un'osservazione sulla pandemia da covid nella nostra regione la Liguria vedono che c'è un picco molto basso di che fu tra marzo e aprile e adesso il picco attuale nel quale stiamo vivendo e allora il numero di placente che abbiamo potuto esaminare nei due mesi marzo aprile sono inferiori a quelle che ci stanno capitando adesso che ci stanno piovendo addosso e arrivano quasi tutte da Genova vedono la linea blu mentre le altre province sono molto meno coinvolte dal fenomeno da questo picco di emergenza ed è una tesi che abbiamo presentato adesso su quello studio delle prime placente le 31 prime placente vediamo che sono stati tutti i casi quasi tutti a termine di gravidanza 25 e di queste abbiamo studiato 25 placente è stato possibile studiarne 25 e abbiamo trovato una importante correlazione con la dismaturità e qui ritorniamo al discorso di prima lesioni che certamente non possono essersi instaurate in pochi giorni da quando è stata scoperta l'infezione la positività della madre ma le comorbidità sì importanti la metà con importanti comorbidità preesistenti all'infezione quali il diabete l'ipertensione questo credo che sia la chiave interpretativa del nostro discorso ma in questa piccola casistica anche alcuni casi 10 per l'esattezza con quelle lesioni iperacute quale ad esempio le emorragie intervillari tanto che un nostro collega il professor Bellone ne segnalò il primo caso di trasmissione verticale materno al feto per queste emorragie che determinano e instaurano una commistione di sangue materno-fetale e allora la valutazione delle lesioni acute anche minime la correlazione col quadro clinico che diventa la chiave di volta di tutto il sistema può portarci a ragionare seriamente sulla trasmissione verticale di queste lesioni e adesso la ricerca degli elementi che fanno da barriera alla trasmissione materno-fetale sappiamo che cerchiamo di comprendere studiare sempre più profondamente il ruolo del sincizio trofoblasto quasi forse una porta di ingresso possibile un modulatore dell'ingressione dell'aggressione virale al feto ma questa è ricerca esula da quella linea che ho voluto tratteggiare seppure con un po' di affanno e ve ne chiedo scusa ma il tempo è stato tiranno di quella che è lo stato dell'arte attuale e qual è l'impostazione metodologica che dobbiamo seguire nello studio nell'istopatologia prima e nello studio della placenta di madri positive grazie per l'attenzione buongiorno ringrazio il professor Ramenghi per l'introduzione io sono pediatra infettivologa lavoro al sacco ospedale in prima linea in questa pandemia e vi parlerò del neonato nato da madre con infezione SARS-CoV-2 ci sono sempre maggiori evidenze di una possibile trasmissione dell'infezione da madre al neonato e per parlarvi di questo vi introduco questo lavoro su 33 neonati nati da madre con infezione da COVID-19 in Wuhan lì proprio dove tutto è partito in questo lavoro su 33 neonati 3 si sono infettati l'infezione è stata dimostrata tramite una realtà iPCR e su tutti e tre questi neonati hanno presentato una polmonite intestiziale l'auto l'outcome di questi neonati è risultato favorevole ma successivamente altri lavori sono stati pubblicati su una possibile trasmissione materno-fetale questa è una review scritta dal gruppo dei francesi che hanno valutato appunto questi articoli pubblicati e in questa review sono stati inseriti 176 neonati positivi il 55% di questi neonati quindi 97 hanno presentato dei sintomi e i sintomi principali erano respiratori per il 52% febbre nel 44% e gastrointestinali nel 36% quindi neonati che presentavano una sintomatologia in quest'altra review invece sono stati inseriti 201 neonati nati da madre covid-19 di questi 201 neonati sono stati testati 167 attraverso PCR su tampone nasofaringio e solo 4 sono risultati positivi quindi dati piuttosto differenti rispetto alla review precedente e soltanto il 26% di questi neonati presentavano una sintomatologia appunto respiratoria con interstizio patria gli autori concludono dicendo che la mobilità in questi neonati era estremamente modesta ma che comunque sia le mamme che i neonati dovevano essere seguiti un follow up in quanto un virus appunto poco conosciuto e potevano presentare delle complicanze e allora io vi mostro la casistica che noi abbiamo avuto all'ospedale Sacco al Sacco sono nati dal periodo del 16 marzo al 16 novembre 2020 154 neonati da madre con infezione SARS-CoV-2 8 sono stati diagnosticati positivi tramite realtà in PCR entro le 48 ore di vita 146 neonati sono risultati negativi successivamente abbiamo seguito i questionerati e uno di questi 146 è risultato positivo invece una giornata di vita probabilmente da contaminazione ambientale nella prima parte della pandemia avevamo presentato e descritto i nostri risultati preliminari inviando questo lavoro al congresso europeo di neonatologia e di medicina preventiva appunto 49 neonati nati da madre SARS-CoV-2 di cui 3 erano risultati infezioni di questi neonati uno era nato per taglio cesareo e due vaginali due presentavano un ottimo upgar uno aveva presentato un po' di difficoltà all'ambientamento exoterino ma poi al quinto minuto si era ripreso brillantemente tutti erano stati alimentati al seno e le tre madri presentavano dei sintomi moderati comunque tutti quanti hanno avuto un outcome molto favorevole da questa nostra prima esperienza abbiamo iniziato a stilare un protocollo di follow up per questi neonati un po' come facciamo per le trasmissioni per tutte le tocces e per tutte le trasmissioni verticali e quindi alla nascita il nostro neonato nato da madre SARS-CoV-2 viene eseguito l'esame obiettivo eseguiti dei prelievi ematochimici la fenotivizzazione linfocetaria le immunoglobuline per SARS-CoV-2 IgG e il tampone nasofaringe ovviamente così come le immunoglobuline IgG vengono eseguite alla mamma le otto emissioni e l'ecografia cerebrale e il neonato viene eseguito poi al terzo mese dove viene rivisto eseguito l'esame obiettivo e oltre all'Igg per SARS-CoV-2 viene eseguita anche la visita oculistica l'ecografia cerebrale una visita neuropsichiatrica infantile e l'APR e poi verrà seguito questo prelievo per il DG SARS-CoV-2 verrà ripetuto al sesto al dodicesimo mese se ancora presenti perché abbiamo deciso di fare l'Igg probabilmente per poter diagnosticare un'infezione congenita sarebbe ottimale fare l'Igm ma al momento del in cui abbiamo quando abbiamo stilato il nostro protocollo l'Igm erano poco sensibili un po' come spesso succede in tante infezioni verticali per cui abbiamo deciso di seguirlo un po' anche come questo articolo che vi sto mostrando attraverso la discesa attraverso la valutazione dell'Igg ovviamente una diminuzione dell'Igg nel tempo può far pensare ad un'esclusione di diagnosi ma una domanda sorge in questa particolare infezione e se il nonato pur essendo infetto perdesse l'Igg come succede a molti adulti che infetti nel tempo perdono la loro immunità questa è una domanda ancora aperta quindi abbiamo visto il nostro nonato che dal punto di vista clinico non dà grosse problematiche ma che cosa ci può dire dal punto di vista immunovidologico un nonato nato da madre con SARS-CoV-2 facciamo un passo indietro e rivediamo il nostro virus con la spike proteins che sono appunto le proteine di superficie e il genoma ovviamente l'infezione noi possiamo metterla in evidenza attraverso delle proteine attraverso una PCR che va a evidenziare dei geni target e quando noi abbiamo la possibilità di almeno due dei tre geni possiamo fare una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 mentre se abbiamo uno più o meno un altro gene possiamo fare una diagnosi probabile e allora come poter evidenziare la trascensione verticale e come rilevare la carica virale in questi neonati questo è uno studio fatto sempre dai francesi che hanno considerato appunto la carica virale nel tampone nasofaringe della mamma nel tampone vaginale nella placenta nel liquido amniotico e nel sangue periferico è ugualmente meno nato la carica virale nel sangue periferico nel tampone nasofaringe eseguito in prima giornata nel tampone rettale e nel tampone nasofaringe eseguito al terzo giorno in terza giornata e in dicetesima giornata vediamo ora le curve di PCR come potete vedere la cosa importante è sottolineare come la carica virale nella placenta sia effettivamente molto alta molto più alta rispetto agli altri tessuti in cui è stata indagata e poi per quanto riguarda il neonato e questo lo vedevamo anche in questa fase qui vediamo come la carica virale in prima giornata sia più bassa rispetto alla carica virale nelle giornate successive terza e diciotese e allora questo che cosa ci fa pensare gli autori ritengono che effettivamente questi dati possono suggerire una viremia materna che raggiunge la placenta come dimostrata dall'immunistratica questo virus causa un'intensa reazione chiamatoria con un'altra carica virale come è stata evidenziata anche dall'esame isologico e successivamente questa infezione placentare determina un'infezione neonatale e da cui appunto si vince una trasmissione verticale dell'infezione del virus ma è importante diagnosticare il timing di infezione effettivamente io mi sono occupata in questo nella mia professione di infezioni verticali ed è effettivamente sarebbe molto importante determinare il timing di infezione l'abbiamo determinato per l'HIV per l'HCV e anche per questa infezione sarebbe importante determinarlo ma non è semplice ho trovato questo articolo in cui si cerca di definire il timing di infezione di questa possibile infezione della SARS-CoV-2 come definire un'infezione congenita in questo caso viene distinto il neonato con sintomi clinici dal neonato senza sintomi clinici un'infezione confermata quando si ha una PCR positiva nel cordone obilicale o nel sangue natale entro le 12 settimane scusate le 12 ore di vita o nel liquido amniotico prima della rottura dell'ombra questo nel neonato con sintomi clinici nel neonato senza sintomi clinici una diagnosi viene confermata quando si trova la PCR positiva nel cordone obilicale o nel sangue neonatale entro sempre nel numero di 12 ore di vita un'infezione probabile nel primo caso quando abbiamo una PCR nel tampone nasofarigio e nel tampone placentare ovviamente nella zona della placenta verso la zona fetale in un neonato in cui ha delle membrane ancora integre e oppure il fatto è nato attraverso il fatto cesare mentre nel neonato senza sintomi clinici l'infezione è probabile se abbiamo una PCR positiva nel liquido amniotico prima della rottura delle membrane ma non è positiva nel cordone umbilicale o nel sangue neonatale entro le 12 ore di vita quindi vedete come è veramente complicato poter definire una diagnosi in infezione certa nell'onato entro le prime 12 ore di vita e quindi una infezione congenita se andiamo invece a considerare un'infezione perinatale nel neonato con sintomi clinici o senza sintomi clinici una diagnosi di conferma la prima quando abbiamo una PCR positiva nel tampone nasofaringe alla nattica e alle 24 48 ore e escludiamo qualche altra causa clinica di infezione nel neonato non sintomatico ovviamente una infezione perinatale verrà confermata da una PCR nel tampone nasofaringe alla nattica e entro le 24 a 48 ore una infezione probabile nel primo caso quando avremo una PCR positiva nel nasofaringe ma alla nascita non alle 24 48 ore e verranno esclusi altre cause cliniche di infezione è possibile nel caso del neonato sintomatico quando avremo una PCR positiva nel tampone nasofaringe alla nascita e entro le 24 a 48 ore quindi entro le 24 entro le 48 ore noi possiamo definire un'infezione per i materi nel caso di un'infezione post-partum avremo una PCR positiva nel tampone nasofaringe dopo le 48 ore in un nato già testato la nascita e che era risultato negativo ovviamente è importante distinguere il time infezione proprio perché ci può essere una diversa evoluzione clinica e quindi un diverso coloro come invece dal punto di vista immunologico che cosa possiamo dire rispetto a questa infezione riporto questo lavoro sempre del gruppo dei cinesi fatto in Wuhan dove sono stati seguiti dalla nascita 51 neonati infetti divisi in questo modo 27 nati da madre positiva ma completamente sintomatica un secondo gruppo nati da madre con sintomi iniziati a una settimana dal parto e un altro gruppo di neonati nati da madre positiva e con sintomi iniziati dopo una settimana dal parto sono state dosate i vari sottocopulazioni microcitare i cd4 i cd8 i cd3 e tanto fatto il rapporto cd4 cd8 e non sono state trovate delle differenti significative nei periodi di neonati è stata trovata una diminuzione non statisticamente significativa dei cd19 sia in numero assoluto che in percentuale nel gruppo di neonati nati da madre sintomatica rispetto al gruppo di neonati nati da madre sintomatica comunque questa valutazione delle sottopulazioni microcitare i autori ritengono che la sintomatologia clinica della madre non va a determinare alterazioni dell'acconta lipogitaria delle sottopulazioni lipogitarie nei neonati gli autori sono andati a valutare anche le citochine l'interluchina 2 4 6 10 e l'interferon gamma che cosa è stata vista è stata vista una correlazione significativa tra l'interluchina 10 ed l'interluchina 6 ricordiamo che l'interluchina 6 è un'interluchina che attiva l'azione intonatoria e attiva i TH2 e i TH17 mentre l'interluchina 10 è un'interluchina che attiva la modulazione e quindi la tolleranza immunitaria quindi il rapporto tra l'interluchina 6 e l'interluchina 10 e lo sbilanciamento di questo rapporto può determinare un'attivazione dell'inclamazione o una tolleranza all'inclamazione come potete vedere l'interluchina il dosaggio dell'interluchina 6 non è lineare e ignorato con un alto livello di interluchina 6 con un alto rapporto interluchina 6 su interluchina 10 e alti livelli di più accettamento ha presentato in unesima giornata una NEC e quindi andiamo alla domanda ma nascere da una mamma positiva per Covid-19 può essere pericoloso per il neonato abbiamo la possibilità di rispondere a questa domanda sono andata a vedere un po' le varie linee guida in 17 paesi europei ed extra europei sono linee guida dalla Francia Canada la Cina la Spagna la Lua dell'Olanda Sud Corea l'Italia e possiamo dire che sono estremamente differenti l'una dall'altra quindi non c'è non sono univoche nelle loro conclusioni la maggior parte di queste linee guida tende a facilitare l'apporto madre-figlio e quindi romanica eccetto un terzo dei componenti delle linee guida in cui si preferisce invece la separazione per evitare infezione anche il breastfeeding è di solito raccomandato eccetto in due paesi in cui invece viene favorito l'allattamento artificiale proprio su questo tema vi mostro sempre una revisione fatta dal gruppo di francesi in cui si è visto che una mancata separazione madre-bambino potrebbe facilitare l'infezione orizzontale nel bambino vedete questo observation maggiore di 1 e quindi gli autori concordano nel consegnare alla mamma tutte le notizie atte a tenere un atteggiamento maggiormente difensivo nei confronti del neonato in modo da evitare l'infezione per quanto riguarda invece il breastfeeding questo non si è trovato lo stesso risultato sembra in effetti che anche se il virus fosse per esempio nel latte avrebbe una carica piuttosto bassa e qualora ci fosse la possibilità di trasmissione in realtà con il breastfeeding è effettivamente rata e allora quali sono le conclusioni che sicuramente c'è una bassa mobilità dei neonati infetti e nati da madre con infezioni SARS-CoV-2 che non c'è una correlazione tra clinica materna e clinica neonatale che è molto difficile determinare il timing infezione e anche individuare un'infezione congenita verso un'infezione postnatale ma è importante e necessario un follow up fino e anche dopo il primo mese di vita che può essere ospedaliero e integrato con il sistema territoriale e ancora non conosciamo bene questo boom non conosciamo le eventuali conseguenze a lungo termine dell'infezione sono importanti invece per gli studi immunologici e per le linee guida univoche sulla gestione materno-affettata con questo io voglio ringraziare il dipartimento materno-infantile dell'ospedale Sacco in particolare il gruppo di neonatologi degli ostetici ginecologi e della pediatria che è diretta dal professor Ficotti ringrazio i miei colleghi e tutto il personale sanitario che ci ha permesso di fronteggiare questa pandemia e ringrazio a voi per l'attenzione Buongiorno benvenuti a questa sessione del congresso straordinario SIP che si occupa di un tema fondamentale quello delle vaccinazioni noi abbiamo vissuto in questi mesi un periodo straordinario nel quale siamo stati costretti a fronteggiare l'emergenza Covid questo evento ha determinato importanti ripercussioni determinando in molte regioni la riduzione se non addirittura la sospensione totale dei programmi dei programmi vaccinali per lo spostamento del personale dei dipartimenti di igiene presso le funzioni di tracciamento individuazione dei casi sospetti nonché poi ha coinvolto dall'altra parte il territorio con i pediatri di libera scelta e medici di medicina generale per le campagne vaccinali con le quali si è cercato di recuperare appunto questa condizione ci troviamo inoltre in un momento molto importante siamo tutti in attesa del vaccino per il Covid che determinerà l'avvio della più grande campagna vaccinale di popolazione e questo determinerà sicuramente un'ottimizzazione la necessità di un'ottimizzazione dei processi dell'organizzazione e della sinergia tra tutti gli attori che si occupano di prevenzione facciamo il punto su tre temi molto importanti per vedere lo stato dell'arte e vedere anche in qualche modo come questi aspetti che adesso i miei colleghi affronteranno potranno portare un'utilità al mantenimento delle coperture vaccinali a seguire avremo prima il professor Paolo Bonanni che è ordinario di igiene dell'Università di Firenze ma anche coordinatore del board del calendario per la vita quindi il dottor Fausto Francia past president della City e a seguire Michele Conversano anche lui past president della City do subito la parola quindi a Paolo Bonanni per il suo intervento ringrazio SIP per l'invito a questo congresso straordinario e ringrazio la dottoressa Maio per la sua introduzione allora io vi parlerò di novità del calendario per la vita anche se come sapete il calendario per la vita è continuamente sorgente di novità perché cerchiamo di dare ogni due tre anni un nuovo impulso alle vaccinazioni nel nostro paese proponendo quello che è il calendario di vaccinazione ideale per tutti dagli zero ai cento anni e appunto in questa ottica vorrei richiamare quelle che sono state le novità della quarta edizione del calendario per la vita dove abbiamo delineato la necessità di pensare alla vaccinazione nei gruppi di popolazione a rischio proponendo dei protocolli condivisi di immunizzazione con altri specialisti nelle specifiche patologie quindi vogliamo anche un po' allargare la nostra panoramica per collaborare anche con altri specialisti magari tradizionalmente non così coinvolti nel campo delle vaccinazioni abbiamo previsto nel calendario nuove modalità organizzative per l'offerta di vaccinazione adattando i modelli organizzativi alle realtà locali coinvolgendo maggiormente i pediatri di libera scelta i medici in medicina generale anche nell'esecuzione della vaccinazione abbiamo previsto l'estensione della somministrazione del vaccino antinfluenzale in età pediatrica e come diciamo ormai da tempo nella popolazione in età attiva a partire dai 50 anni vorremmo arrivare a ridurre l'età di offerta della vaccinazione antinfluenzale in maniera progressiva quindi passando prima ai 60 come in tante regioni si sta facendo già in questa stagione e per arrivare poi ai 50 anni favorire una più ampia adesione alle vaccinazioni delle donne in gravidanza particolarmente per la vaccinazione antinfluenzale e contro la pertosse ma anche la vaccinazione anti-HPV dovrebbe essere estesa alle fasce di donne in giovane età per esempio nel momento in cui inizia il programma di screening verso i 25 anni e poi una raccomandazione del vaccino antimeningococco quadrivalente JALET alla fascia dell'infanzia quindi all'anno compiuto in tutte le regioni e l'aggiunta dell'antimeningococcico B nell'età adolescenziale quindi questo è un po' diciamo quello che abbiamo delineato come principali novità all'interno della quarta edizione del calendario per la vita i tassi di copertura che sono obiettivo del piano nazionale prevenzione vaccinale come sapete vanno bene sostanzialmente anche con l'aiuto della vaccinazione diciamo della legge sulla vaccinazione obbligatoria nella popolazione pediatrica abbiamo certamente più problemi per quanto riguarda la popolazione adolescenziale e adulta anziana come sapete per l'antinfluenzale non brilliamo per coperture abbiamo raggiunto nel 2019-2020 un 54,6% di copertura negli oltre 65 anni con una copertura nella popolazione generale che purtroppo è al di sotto ancora del 17% mentre per l'antipromococco vedete i 24 mesi che è una vaccinazione non obbligatoria ma comunque dell'infanzia questo ci dice come sostanzialmente abbiamo raggiunto o siamo vicini agli obiettivi anche per le vaccinazioni non incluse nella legge dell'obbligo emanata nel 2017 il Covid ha un po' stravolto la situazione dei programmi di vaccinazione nel nostro paese ad aprile Cittadinanza Attiva ha fatto un'indagine per valutare quali sono stati gli impatti della situazione Covid sulle varie regioni e vedete che la situazione come sempre in Italia è un po' a darlecchino cioè alcune regioni hanno mantenuto soltanto le vaccinazioni per i bambini più piccoli magari ritardando i richiami soprattutto hanno sofferto le vaccinazioni in età adolescenziale in parte anche quelle in età adulta con una come dire un ritardo e una perdita di alcune occasioni opportune che nel tempo bisognerà cercare di recuperare l'alleanza tra SIP Citi FIMP e FIMG ha trovato un'ulteriore espressione il 23 aprile 2020 quando abbiamo fatto un appello per cercare di mantenere l'incrementare le coperture in un periodo di particolare criticità quindi abbiamo sottolineato come ci sia stato uno spostamento di personale normalmente impiegato nei servizi di vaccinazione a funzione relativa alla gestione dell'emergenza pandemica con un timore da parte dei cittadini anche nei confronti del fatto di recarsi a fare le vaccinazioni perché c'è stato un momento di confusione in cui i genitori non hanno percepito che comunque le vaccinazioni sarebbero state fatte comunque in sicurezza e poi alcuni servizi in alcune regioni non particolarmente colpite dalla prima ondata Covid che hanno interrotto le chiamate o hanno ridotto le forniture di vaccini quindi abbiamo fatto un richiamo al fatto che le coperture vaccinali vanno mantenute c'è stato un calo nei primi mesi del 2020 e occorre appunto evitare che si aggiungano danni da altre epidemie a quelli subiti a causa del Covid-19 e quindi abbiamo delineato 5 punti qualificanti di quello che andava fatto garantire le coperture vaccinali a tutti i nuovi nati e richiami sia in età pediatrica che in quella adolescenziale non interrompendo le chiamate attive programmate riorganizzare le modalità d'offerta delle vaccinazioni pediatriche dell'adolescenza pianificare i programmi di recupero delle vaccinazioni non effettuate durante l'emergenza Covid-19 provvedere in tutte le regioni e province autonome alla predisposizione di gare per le forniture dei vaccini antinfluenzali con quantitativi donne per aumentare le coperture non soltanto per mantenerle ma per aumentarle sostanzialmente e per discorre piani di incremento delle coperture per influenza per omococco e richiami tetano di ferite per tosse ed arco di zostere il prerequisito per poter agire su questo incremento e mantenimento delle coperture è proprio quello di offrire il massimo livello di protezione agli utenti e agli operatori con un'adeguata programmazione di approvvigionamento in quantità e qualità dei dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse per contatto e per droplet quindi abbiamo chiesto di garantire personale sufficiente all'esecuzione dell'attività di immunizzazione in tutte le regioni proprio per garantire le coperture vaccinali pediatriche in tutti i nuovi nati e i richiami di organizzare le modalità di offerta delle vaccinazioni pediatriche dall'adolescenza in funzione dei diversi modelli organizzativi regionali quindi coinvolgente o il pediatra curante per offrire le più ampie modalità di applicazione come già avviene in alcune realtà regionali pensare la cosomministrazione di più di due vaccini nella stessa seduta la questione della cosomministrazione di soltanto due vaccini nella stessa seduta è una questione più che altro culturale che può essere superata e non comporta un aumento degli effetti collaterali laddove ci sia necessità di fare più dosi simultaneamente per recuperare occasioni perdute o appuntamenti perduti accettazione del suo appuntamento per ridurre la contemporanea presenza di utenti nelle sale d'attesa dei servizi di vaccinazione poi programmi di recupero delle vaccinazioni non effettuate dopo l'inizio dell'emergenza covid-19 e quindi una pianificazione di quest'azione di recupero dei bambini e adolescenti non vaccinati sottolineando ancora una volta in più che tutte le cosomministrazioni sono possibili soprattutto in una situazione di necessità di recuperare sedute perse e ricordando anche che non si rinizia mai un ciclo vaccinale interrotto e non vi sono problemi a continuare il ciclo indipendentemente dal tempo trascorso da una dose non effettuata e poi provvedere in tutte le regioni e province autonome con estrema urgenza la predisposizione di legare per la fornitura dei vaccini antinfluenzali con quantitativi idonei ad aumentare le coperture quindi cercare di aumentare questa copertura includendo i soggetti dai 60 ai 64 anni e anche i bambini dai 6 mesi a 6 anni usando poi i vaccini più appropriati per ogni fascia di età e in ultimo predisporre piani di incremento delle coperture per l'influenza premococco richiami tetano di ferite per tosse ed herpes zoster con un coinvolgimento attivo della medicina di famiglia proprio nel sostegno anche di queste politiche di vaccinazione cercando proprio anche di andare a coprire i soggetti anziani e con patologie croniche con modalità di offerte innovative concertate appunto con la medicina di famiglia il nostro ministero della salute il 30 luglio ha emanato una circolare in cui ha fatto il punto della situazione di criticità nel periodo covid-19 in cui è stato evidenziato che le fasce d'età che hanno subito le maggiori riduzioni degli appuntamenti e delle coperture sono state quelle da 13 mesi a 18 anni il momento di massimo criticità è stato quello dopo la notifica dei primi casi autoctoni in Italia di malattia da covid-19 e i vaccini più in sofferenza sono stati la terza dose di esavalente la terza dose di pneumo la terza dose di meningococco e la seconda dose di mmrv che andranno recuperate in maniera più attenta nell'età adolescenziale soprattutto la prima dose di HPV per entrambi i sessi e l'effettuazione della vaccinazione quadrivalente meningococcica ACWY ci sono dei segnali incoraggianti che provengono da diverse parti d'Italia bisogna inventarsi di nuovi modi per recuperare le vaccinazioni non fatte come è stato fatto in Veneto per esempio utilizzando le palestre proponendo delle postazioni multiple per poter recuperare chi non ha ricevuto la vaccinazione nelle fasi più critiche della pandemia in ultimo è l'ultima mia depositiva e concludo qui la mia presentazione una sottolineatura sull'importanza della vaccinazione anti-influenzale ci sono dei dati recenti dell'Inghilterra che ci dicono che là dove ci siano delle coinfezioni tra SARS-CoV-2 e influenza il rischio di morte era di quasi 6 volte superiore nei coinfettati rispetto ai negativi per entrambi i virus e di circa 2,27 volte superiore nei coinfettati SARS-CoV-2 influenza nei confronti dei solo positivi per SARS-CoV-2 quindi tutto questo ci indica ancora una volta l'importanza che in questo autunno riveste una copertura elevata per la vaccinazione anti-influenzale nella popolazione soprattutto anziana e dei malati cronici con queste notazioni ringrazio voi per la vostra attenzione e vi auguro una buona continuazione del congresso grazie ringraziamo il professor Bonanni e diamo la parola al Fausto Francia buongiorno cari colleghi della società italiana di pediatria un ringraziamento particolare ad Alberto Vilani per questo invito graditissimo siamo tutti in attesa dei vaccini contro il coronavirus in trepidante attesa però nel contempo non possiamo non constatare che da molto tempo ormai siamo in possesso di ottimi vaccini nei confronti di una serie di malattie trasmissibili che vengono sottoutilizzati da parte della popolazione questo fenomeno prende il nome di esitanza vaccinale e consiste nel fatto che alcuni soggetti tendono a procrastinare le vaccinazioni a interrompere i cicli di vaccinazione oppure a rifiutare alcune vaccinazioni o addirittura tutte le vaccinazioni la portata del fenomeno in Italia è stata studiata dalla City nel momento in cui io ero presidente e uscì all'incirca questa situazione che tre genitori su quattro vaccinano i propri figli in maniera più o meno convinta in quanto comunque reputano che si tratti di una incombenza tipica del buon genitore un cittadino invece su quattro ha dei dubbi è titubante e questo 25% lo possiamo dividere in un 22% di persone che comunque cercano risposte alle proprie domande vogliono capire bene il rapporto costi-benefici delle vaccinazioni mentre un 3% è costituito da Novax irriducibili quali sono gli elementi favorenti l'esitanza li possiamo raggruppare in tre grandi categorie la compliancy cioè il fatto che molte persone ritengono le vaccinazioni come un rettaggio del passato che proteggono nei confronti di malattie che oggi non ci sono più o sono sporadiche e che se eventualmente dovessero colpire un familiare possono essere tranquillamente curate con i presidi medici che ci sono oggi ci sono problemi di confidence vale a dire una mancata fiducia sia nel sistema istituzionale sia nella efficacia e nella sicurezza dei vaccini l'accusa più frequentemente mossa è questa voi operatori sanitari si dite di vaccinarsi ma siete proprio voi quelli che si vaccinano di meno quindi proponete una pratica che voi invece non fate e l'ultima categoria rappresentata dalla convenience vale a dire ci sono situazioni organizzative sfavorenti le vaccinazioni tipo ad esempio ambulatori vaccinali distanti che aprono ad orari che non sono confacenti con gli orari di lavoro dei genitori zone di emarginazione sociale dove l'invito alla vaccinazione viene cestinato senza nemmeno essere letto oppure delle barriere di tipo culturale o di tipo linguistico quali sono i possibili rimedi i possibili rimedi sono tantissimi io vi dico i due che sono sicuramente irrinunciabili cioè essere in grado di fare un'efficace comunicazione del rischio per far comprendere ai genitori che cosa comporta il non vaccinare e una migliore efficienza organizzativa il tema della comunicazione del rischio in ambito vaccinale è molto molto complesso io faccio sempre un esempio che è questo se io do una pillola di diuretico a 100 abitanti di New York otterrò che questi abbiano un calo oppressorio e un aumento della diuresi se lo faccio a 100 abitanti del Cairo otterrò la stessa cosa a 100 abitanti di Shanghai la stessa cosa se io propongo un intervento di comunicazione del rischio che ha avuto un grande successo a New York al Cairo o a Shanghai possa andare incontro ad un grande fallimento perché perché cambiano i determinanti di contesto le situazioni politiche sociali economiche culturali religiose sono differenti tra i vari paesi e di questo va tenuto conto quando si fa la comunicazione del rischio il sentire comune è diverso e poi ci sono dei determinanti individuali quando io affronto una coppia di genitori cercando di convincerli nel senso di vaccinare i propri figli mi trovo di fronte a esperienze personali negative a storytelling raccontate di figli di amici che hanno avuto effetti collaterali tremendi dalle vaccinazioni c'è una propensione alle medicine alternative che dicono sono in grado di proteggere altrettanto bene sfiducia nelle istituzioni e poi ci sono delle situazioni proprio di mancata fiducia nei confronti di vaccinazioni specifiche perché le ritengono non sicuri non efficaci oppure dicono ma come fate sei vaccinazioni in contemporanea a mio figlio gli andate a mettere sotto pressione il sistema immunitario in maniera gravissima ecco che quindi diventa molto importante riuscire a mettere in campo una buona comunicazione gli elementi di una buona comunicazione sono tantissimi io ne ho ricordati alcuni il primo è la credibilità dell'istituzione che rappresentiamo ed è una credibilità che deve essere come dire formata in tempo di pace cioè se tu sei quel medico che ha fatto un ottimo intervento nell'asilo nido quando c'era un caso di meningite se hai il medico che incontri i genitori della commissione mensa per parlare delle tabelle dietetiche se hai il medico che ha parlato con il sindaco per far rimuovere il tetto in amianto di una costruzione vicino al parco giochi dei bambini allora sei una persona credibile che può affrontare il discorso con questi genitori non può essere uno catapultato dalla luna e poi bisogna fare un'analisi di contesto e un'elaborazione di un piano di comunicazione specifico cioè quello che si racconta al consiglio comunale o un gruppo di mamme o un convegno scientifico non può essere la stessa cosa va contestualizzato bisogna comunicare il vero dimostrare rispetto e molto importante esperienza personale non parlare mai del fatto che le vaccinazioni possono ridurre la spesa sanitaria che può essere indirizzata verso altre patologie perché questo scatena l'ira dei genitori che dicono che la salute del figlio non può essere mercificata ancora molto importante è il presidio delle nuove agorale nuove piazze dove si formano i pareri e le convinzioni delle persone per tantissimo tempo le istituzioni sono state in ritardo e oggi hanno recuperato a mio parere molto bene i motori di ricerca i social laddove si producono fake news parascientifiche io ricordo una una ricerca del 2010 per darvi l'idea di come si giochi proprio sul filo del rasoio che diceva se io clicco la parola vaccinazioni in rete e trovo nei primi dieci siti otto contro le vaccinazioni se clicco la parola vaccini trovo un 50-50 se clicco la parola immunizzazione quindi una parola con contenuto scientifico trovo 9 siti su 10 a favore delle vaccinazioni ed è praticamente sono tutti sinonimi cosa facciamo nei confronti del 3% beh qui c'è la ricetta Burioni che dice non bisogna discutere con il 3% di Novax che hanno delle posizioni precostituite e infrangibili perché si va a legittimare questi soggetti come controparte si dà loro visibilità e non si può fare un confronto tra scienza e pseudoscienza ricordatevi che Burioni voleva volevano mettere Burioni a confronto con Red Rony che è un disgiochi per parlare di vaccinazione e arrivo all'ultima slide vi dicevo oltre gli aspetti comunicativi gli aspetti organizzativi creare occasioni di contatto con i genitori sia sin dal momento dei corsi di preparazione alla nascita coinvolgere le scuole soprattutto per quanto riguarda le vaccinazioni degli adolescenti è una vergogna che nel nostro paese solo poco più del 40% delle ragazze conclude il ciclo per la vaccinazione anti-HPV un virus oncogeno inserire materiale informativa e fac nelle lettere di convocazione alle vaccinazioni prevedere spazi orari per colloqui personali con i genitori dubbiosi creare delle alleanze virtuose con i pediatri di libera scelta per cercare di gestire assieme le persone esitanti prevedere aperture e orari di vaccinazione più confacenti alle esigenze delle persone e utilizzare mediatori culturali per superare le barriere linguistiche e il clima intellettuale queste sono le conclusioni che riportano in sintesi quello che vi ho detto grazie grazie al dottor Fausto Francia e passiamo la parola a Michele Conversano buongiorno a tutti grazie all'amica Sina Maio e un caro saluto a tutti i colleghi della SIP e in particolare ad Alberto Villani questa modalità un po' strana però ci sentiamo così mi è stato chiesto di parlare della vaccinazione della scuola che non è sicuramente una novità questa è la mia classe anche io sono stato vaccinato a scuola parlo soprattutto ai colleghi con qualche con qualche capello bianco in più ci vaccinavamo a scuola e lo zuccherino con le gocce antipolio l'abbiamo fatto tutti ma anche nell'88 la circolare quando della regione Puglia si chiedeva ero un ufficiale sanitario di un comune in provincia di Brindisi si diceva di vaccinare avere un anagrafe vaccinare i bambini nel calendario vaccinale specificando fare l'invito la chiamata attiva e poi per tutti i bambini frequentati le scuole materno alimentare l'invito è effettuato tramite lettera consegnata a scuola che il bambino porta al genitore la lettera sarà riconsegnata dalla scuola quindi in qualche modo la regione Puglia già cominciava a spingere a continuare per la vaccinazione contro le vaccinazioni fatti a scuola negli adolescenti e anche nel primo piano di eliminazione per il morbillo si facevano incontri nelle scuole materne elementari quindi è qualcosa che avremmo dovuto continuare a fare sempre in qualche modo e la vaccinazione la prima vaccinazione fatta contro il morbillo con i primi vaccini guardate fa un po' tenerezza vedere questi questi quadri questi fogli Excel di annata fatti con la macchina da scrivere in cui potete vedere comunque le coperture che si raggiungevano facendo un'attività a scuola vedete sono coperture tutte comunque al di sopra del 78 70 80 96% quindi qualcosa che si dovrebbe fare ma quali vaccini potremmo fare alla scuola sono tanti i vaccini purtroppo se guardiamo quello che succede un po' in giro è che si pensa di vaccinare a scuola solo quando c'è una pandemia c'è un'epidemia vedete come è stato fatto in Toscana quando in qualche modo c'era un'epidemia di meningiti allora si cominciava a vaccinare a scuola quando la possibilità di fare questi vaccini grandi numeri in poco tempo mentre invece sarebbe auspicabile che si vaccinasse sempre a scuola soprattutto per gli adolescenti parlo di quella fascia di età della scuola media inferiore o anche dei primi anni della scuola media superiore in cui è importante vaccinare perché? perché l'adolescenza sicuramente è un periodo importante in cui investire per la prevenzione c'è un approccio ci si approccia si esce dal nucleo familiare ma si comincia a frequentare gli amici e nuovi orizzonti quindi possiamo vaccinando l'adolescente sia ridurre il rischio individuale delle malattie sia in qualche modo eliminare un serbatoio che sappiamo essere noi in questo periodo ce lo ricordiamo in maniera molto 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 stringente un serbatoio che possono poi contagiare sia più piccoli che più grandi e si è cominciato nel 91 quando abbiamo cominciato a vaccinare contro l'epatite B si diceva proprio di vaccinare gli adolescenti nel corso del dodicesimo anno ma adesso abbiamo un calendario che invece riguarda il papilloma virus il recupero i vaccinali di LMPR il meningococco tetravalente il richiamo di disterite tetano e polio quindi abbiamo un calendario dell'adolescente che è molto ampio e poi ci sono alcune regioni che fanno anche una seconda corte per la meningite B quindi è importante però siamo molto lontani a quelli degli obiettivi ne ha parlato adesso Fausto Francia gli obiettivi che abbiamo raggiunto nella corte dell'adolescenza sono veramente veramente impressionanti in senso negativo guardate questo qui le coperture al 31-12 questo è di di un anno e mezzo fa vedete le coperture che abbiamo per un vaccino contro il tumore contro un tumore vedete coperture che sono veramente tranne l'Umbria sono veramente qualche altra regione sono veramente impressionanti e questo non parliamo quando parliamo dell'HPV nei maschi coperture veramente veramente ridicole e oltretutto abbiamo bisogno di modelli organizzativi perché abbiamo nella maggior parte dei casi abbandonato l'idea di vaccinaria a scuola e quindi non abbiamo dei modelli organizzativi in grado diversi per supportare questa scelta allora dobbiamo fare una strategia chiaramente quando si parla di battaglia bisogna mettere in campo diverse strategie con rapporti quindi con modelli organizzativi rivolti alla popolazione alle famiglie ma anche agli operatori sanitari stessi quindi quali strategie beh strategie la letteratura non ci dice soltanto quanto un vaccino è efficace o quanto un vaccino è importante ci dice anche quali sono le migliori strategie da adottare e questo è un lavoro di qualche anno fa su Vaccine che ci dice che la vaccinazione nelle scuole permette di raggiungere coperture vaccinali più alte l'Australia è riuscita a sconfiggere il cancro al collo dell'utero grazie a strategie miste cioè lavorare campagne di vaccinazione nelle scuole a 12-13 anni anche i ragazzi anche i maschi accompagnati naturalmente a quelle di prevenzione secondaria da fare nell'età fertile ma anche noi nel nostro piccolo abbiamo pubblicato come c'è una questa è già di qualche anno fa la differente la differente di differenti tassi di copertura che si raggiungono con con modelli organizzativi diversi perché perché la scuola deve avere dove non ce l'ha questo è gravissimo un rapporto privilegiato con le strutture del dipartimento di prevenzione le strutture di vaccinazione abbiamo il vantaggio di raggiungere l'intero target in un unico contesto e in poco tempo possibilità di parlare con le famiglie con incontri ad hoc e quindi questo era quello che avevamo pubblicato qualche anno fa con la differenza della strategia classica che si adottava in qualche centro vaccinale quindi con la chiamata attiva comunque una strategia importante con chiamata attiva sollecito esecuzione della vaccinazione presso gli ambulatori lettera mandata a casa chiaramente e poi la strategia invece scolastica che poi vedremo vedete come le coperture già allora dimostravamo di qualche anno fa come le coperture vaccinando a scuola erano nettamente più alte delle coperture raggiunte anche anche abbastanza alte raggiunte vaccinando negli ambulatori vaccinali e questo anche l'abbiamo fatto anche anche in maniera molto evidente non solo ma guardate questo è anche importante la proporzione di adolescenti che completavano il ciclo vaccinale era molto più alta quando si vaccinava a scuola rispetto alla vaccinazione in ambulatorio non solo ma anche il tempo tra una dose e l'altra i famosi sei mesi tra la prima e la seconda dose di HPV erano più facilmente rispettati nella vaccinazione a scuola in cui eravamo noi a dare l'appuntamento rispetto a quando c'era l'arrivo del bambino portato dai genitori e questo era anche molto più evidente nei grandi centri in quelli superiori a 30.000 abitanti rispetto al piccolo centro perché chiaramente nel grande centro e immagino nelle grandi metropoli che abbiamo nelle grandi città italiane come questo sarebbe molto molto più utile com'è complicato raggiungere il centro vaccinale invece andare a beccare tutti i bambini nella scuola chiaramente ci aiuterebbe molto e i risultati si vedono perché vedete nella Corte di Nascita 2015 questi sono i risultati delle varie regioni questa della Puglia ma guardate le coperture di Taranto della Miasla in cui si è fatta questa strategia sono nettamente più alte ma come funziona? Beh, bisogna considerare vari così modelli organizzativi risorse staff anche se stiamo per pubblicare adesso anche un lavoro in cui le risorse se calcoliamo le risorse impiegate non c'è bisogno di maggiori risorse per vaccinare nella scuola anzi ma chiaramente occorre una leadership una capacità anche logistica di movimento come si organizza? Si fa subito un incontro col dirigente scolastico chiaramente diventa sempre più facile anno dopo anno si richiedono gli elenchi anagrafici e se al step successivo un'informazione con strumenti informativi con i ragazzi attraverso siti attraverso brochure o puscoli che sono naturalmente a nostra portata anche con quello che avete visto prima anche una cosa proprio della SIP poi in ASL si consegnano quindi moduli di consenso informato in ASL si verificano i consensi si contattano i genitori telefonicamente se ci sono dei consensi incompleti e si comunica la data in cui avverrà la vaccinazione a scuola si dice di venire con l'ibretto vaccinale e poi questa è una cosa importante si dice che la presenza dei genitori all'atto vaccinale è auspicabile ma non indispensabile in qualche modo abbiamo anche la delega a vaccinare anche in assenza dei genitori la vaccinazione a scuola si parte si parte con tutta la strumentazione vedete lì c'è anche un lettino un lettino di quelli smontabili ma faccio pieghevoli ma man mano che passano gli anni tutte le scuole ci hanno messo a disposizione degli adeguati ambulatori vaccinali che ricordo noi genisti ce lo dovremmo ricordare l'ambulatorio medico l'ambulatorio l'infermeria è obbligatoria in ogni plesso scolastico si va si accede al database ci sono tutte le misure di sicurezza in questo borsone c'è tutto quello che occorre dall'adrenalina a fargec dal cortisone la bombola d'ossigeno l'ambul l'ambul l'editorio di ogni genere e i nostri operatori fanno ogni anno il corso PBLS per l'emergenza quindi abbiamo tutto l'occorrente per affrontare qualsiasi evento avverso sì e quello che proponiamo quindi noi è di utilizzare questa come buona pratica e questo sta succedendo abbiamo fatto questo toolbox in cui con tre sezioni in cui si formano gli operatori della prevenzione si informano anche gli studenti e le famiglie con tutti questi strumenti e poi se si vuole si può anche vaccinare chiaramente è quello che noi proviamo è l'obiettivo generale quindi una corretta informazione ma che cosa è successo durante l'emergenza covid perché è successo chiaramente sono chiuse le scuole nella prima fase che cosa è successo guardate come è stato già detto le vaccinazioni dell'adolescenza sono quelle che nella mia ASL hanno avuto il crollo maggiore chiaramente avevamo subivamo questo questo handicap di non poter andare nelle scuole e la differenza la prima dose avevamo già raggiunto il 71% l'anno precedente ma abbiamo che cosa abbiamo fatto appena ci siamo potuti riaprire tra virgolette abbiamo chiamato tutti i ragazzi ma non li abbiamo chiamati con la lettera a casa come nella strategia classica ma li abbiamo chiamati di nuovo attraverso le scuole classe per classe chiaramente grazie ai dirigenti scolastici e se vedete le coperture in prima battuta fatte vaccinazioni fatte ad agosto tra luglio e agosto vedete che comunque abbiamo superato il 60% che non è male rispetto al 61-62 degli anni precedenti cioè siamo riusciti comunque a garantire attraverso il passaggio dalla scuola delle coperture molto alte quindi che cosa vogliamo dire che l'informazione e la comunicazione fatta attraverso le scuole sono fondamentali per aumentare l'addizione alle vaccinazioni quindi dobbiamo continuare a utilizzare questi canali per avere un'addizione consapevole alle vaccinazioni e se non sarà possibile perché le scuole magari si chiuderanno bene potremo utilizzare anche gli strumenti così come i ragazzi ormai seguono la formazione a distanza e l'abbiamo fatto qui a Taranto abbiamo chiesto la possibilità di poter parlare con ragazzi e genitori anche attraverso il web facendoci dedicare una mezz'oretta delle ore dedicate alla formazione a distanza con modalità webinar abbiamo parlato di vaccinazione dell'adolescenza genitori e ragazzi nella stessa casa quindi vuol dire che dobbiamo avere sicuramente delle modalità diverse per superare quei limiti che possiamo misurare con la vaccinazione nella vaccinazione dell'adolescente avere motivazioni a management ma anche creatività a una visione diversa finalmente usciamo dall'ambulatorio vaccinale cominciamo a confrontarci anche nel territorio con i nostri con i nostri con chi deve con chi deve arrivare a una decisione consapevole alla vaccinazione sicuramente quello della vaccinazione a scuola e devo dire con molto piacere che si sta diffondendo in tante altre realtà perché si sta facendo in Sicilia si sta facendo in alcune aree dell'Emilia Romagna del Veneto e quindi questo ci sta e ci potrà sicuramente aiutare a raggiungere coperture degne della sanità pubblica grazie bene ringrazio Michele Conversano che ci ha portato a ragionare su un aspetto importante che è quello organizzativo con un esempio particolare ma il ringraziamento va stesso sicuramente a tutti i relatori di questa sessione che hanno avuto la grande capacità di riuscire a portare dei temi centrali dei temi generali quali quelli che sono stati loro assegnati nel breve tempo nel breve tempo se mi permettete cercherò rapidamente di vorrei ricordare alcuni messaggi che ci sono stati proposti innanzitutto la riflessione sull'importanza di mantenere alto il valore etico della vaccinazione e promuovendo una maggiore impegno da parte di tutti noi sul raggiungimento delle coperture questo proprio per scongiurare anche delle nuove epidemie visto il contesto che ci stiamo trovando giustamente il professor Bonanni faceva un richiamo anche alla appropriatezza dei vaccini che devono essere impiegati nelle varie età della vita molto importante anche il richiamo che Fausto Francia ha portato sul tema dell'esitazione vaccinale è un tema che rimane ancora centrale perché molti di noi speravano che la popolazione traesse insegnamento dalla pandemia dal covid e in qualche caso siamo un po' delusi se è vero che nonostante 50.000 morti che ai noi ieri sono stati registrati nel nostro paese esistono addirittura delle aree di negazionismo allora è importante e ringraziamo Fausto per questo richiamo ricordare quali sono gli elementi fondamentali che servono a tutti noi operatori per contrastare l'esitazione vaccinale per dare un'informazione compiuta e promuovere appunto l'adesione convinta alle vaccinazioni Michele come dicevo ha affrontato poi un tema importante ha creato ha dato i dati di un esempio organizzativo significativo che è appunto quello delle vaccinazioni nella scuola e questo diventa ancora più importante nel momento in cui noi stiamo operando tutti gli attori i dipartimenti di prevenzione i medici di famiglia i pediatri di libera scelta hanno dovuto profondamente rivedere il modello di offerta delle vaccinazioni per riuscire a garantire queste vaccinazioni in piena sicurezza per i pazienti e per gli operatori stessi abbiamo creato un know-how nel giro di pochi mesi e rimangono ancora dei punti da fare quello che sicuramente è importante e ce lo ricordava Michele è essere bravi per cogliere tutte le opportunità tutte le possibilità di offerta vaccinale tarandole sui soggetti ai quali noi vogliamo rivolgere rimane va da sé che rimangono se mi permettete due elementi fondamentali che sono quelli della rete una rete che deve essere non solo organizzativa e operativa ma anche informativa e quindi solo lo accenno visto il breve tempo l'importanza di un'anagrafe vaccinale condivisa che permette in qualunque momento di ricostruire lo stato vaccinale dei nostri pazienti con questo io ringrazio tutti i colleghi che hanno avuto l'attenzione di ascoltare questa sessione e mi unisco e ringraziamenti alla società italiana di pediatria per questa opportunità di confronto con un saluto con l'amico Alberto Villani grazie a tutti questa sessione è dedicata all'ospetto autistico parleremo dei disturbi dell'ospetto autistico e della pandemia SARS-CoV-2 nella prospettiva evolutiva ne parleranno la dottoressa Magda Di Renzo che è una neuropsichiatra infantile impegnata sul campo proprio con l'istituto di ortofonologia di Roma e parlerà dell'approccio evolutivo nelle fasi di emergenza mentre la successiva relazione è ad opera della dottoressa Elena Vanadia che è responsabile del servizio di psicoterapia dell'infanzia e dell'adolescenza dell'istituto sempre di ortofonologia di Roma e parlerà dell'autismo prima e durante la pandemia tra barriere e risorse Buonasera noi insieme alla dottoressa Vanadia ci occuperemo dei disturbi dell'effetto autistico in una prospettiva evolutiva prima di iniziare la nostra riflessione e sottolineando proprio la dimensione evolutiva ci teniamo molto a sottolineare un aspetto e cioè il fatto che nei bambini autistici noi abbiamo assortato dei comportamenti che in questo periodo di pandemia osserviamo comunque in tutta la popolazione di bambini ma potremmo dire anche degli adulti e cioè l'angoscia determinata l'ansia o l'angoscia determinata del contagio hanno fatto sì che si strutturassero molte persone dei meccanismi di tipo un po' quelli che definiamo in patologia di tipo ossessivo cioè la strutturazione di rituali che hanno un valore difensivo nei confronti dell'ansia per esempio i rituali di giorni di sera il bisogno di controllare determinate cose allora ci teniamo molto a sottolineare questi aspetti perché naturalmente hanno molto preoccupato i genitori in generale e in maniera particolare i genitori di bambini di bambini autistici diteniamo che sia estremamente importante da parte dei mediati da parte di tutti gli operatori dell'infanzia avere una particolare tolleranza e cercare di monitorare il comportamento senza produrre immediatamente un allarme perché questo allarme può produrre altra ansia e quindi a cui vive la problematica questo sarà ancora più vero come vedremo nel corso di tutta l'entrattazione per i bambini che hanno questo disturbo perché hanno già alla base una problematica di quello di regolazione Buonasera anche da parte mia e noi quindi ci teniamo ad accompagnarvi lungo un percorso che metterà insieme una serie di aspetti relativi sia allo sviluppo e alle caratteristiche dello sviluppo e del comportamento dei bambini in generale con dei sperimenti specifici ai bambini con disturbo dell'inspecchio autistico chiaramente a quelli che sono gli indicatori precoci che pongono come dire il sospetto di una patologia autistica o comunque di un'organizzazione che può evolvere per il suo disturbo dello spettro autistico quali possono essere gli indicatori predittivi nei bambini molto piccoli e quali possono essere le aree di sovrappuribilità da un punto di vista diagnostico e clinico per finire con una riflessione appunto legata alla pandemia e non solo rispetto alle barriere che i bambini e le famiglie dei bambini con disturbi autistici hanno dovuto affrontare ma anche con delle riflessioni degli spunti di riflessione che derivano sia dalla nostra esperienza clinica in ambito valutativo e in ambito terapeutico sia dai feedback che abbiamo ricevuto da le famiglie la premessa che ci teniamo a fare sempre quando ci occupiamo di bambini è che la conoscenza e in particolare la conoscenza dello sviluppo visto che ci occupiamo di età evolutiva e la conoscenza della complessità dello sviluppo in età evolutiva nonché l'integrazione sia tra professionisti che tra le varie aree dello sviluppo sono alla base della reale conoscenza di ciascun bambino e del suo funzionamento e il mistero della conoscenza come possiamo leggere non passa dall'iper specializzazione delle aree ma dalla connessione tra le aree e dall'altra parte vediamo dei diagrammi dei grafici che mostrano come nei disturbi dello spettro autistico effettivamente il problema principale che molte ricerche stanno sostenendo ultimamente è proprio a livello di connettività e in realtà ci sarebbe un'iper connettività locale a livello di alcune aree e un'ipo connettività a distanza significa che proprio che il processo di integrazione così importante all'interno del nostro cervello e fra le diverse aree che devono parlare tra di loro all'interno del nostro cervello nei bambini e nei soggetti con funzionamento autistico con disturbo dello spettro autistico non ha un flusso così fluido e dinamico come dovrebbe essere e porto questo riferimento di un articolo italiano del gruppo di Filippo Muratori molto interessante perché parla proprio nei famosi primi mille giorni di cui i pediatri sanno tanto di come si organizzi il cervello e quindi le condizioni di cui parlavamo nei bambini autistici ed è un po' anche un insieme di dati che finora sono stati pubblicati rispetto a queste variabili ribadisco che ciò che oggi sappiamo è che diverse sono le aree coinvolte ma il fenomeno che sembra più importante da un punto di vista neurobiologico nella etiologia proprio nella patogenesi del disturbo e lo spettro autistico è proprio un deficit di connessione e di integrazione funzionale e questo lo rivedremo quando parleremo di integrazione sensoriale e organizzazione emotoria come i primi elementi alla base dell'organizzazione autistica nel bambino e anche questo grafico ci aiuta molto nel comprendere quanto i fenomeni neurobiologici stiano alla base di questa alterata organizzazione per cui in questo diagramma raccolto appunto da un lavoro dell'Istituto Superiore di Sanità del 2011 vediamo come nei disturbi dello spettro autistico ovvero la curva rosa mentre la parte iniziale della formazione delle sinapsi che avviene già durante la gestazione e raggiunge il suo picco proprio nell'infanzia a cavallo tra l'infanzia e l'adolescenza in realtà nei disturbi dello spettro autistico rimanga molto elevato con una mancanza una povertà di quei fenomeni di eliminazione delle sinapsi che potremmo definire poco utilizzate e questo è il significato dell'iperconnettività di cui parlavamo prima ovvero un surplus di connessioni quindi ribadiamo ancora una volta che da un punto di vista neurobiologico ci sono delle alterazioni a livello di connettività in realtà questo per noi è un importante spunto per ragionare poi soprattutto in termini terapeutici e per ragionare nei termini dell'assistenza che in generale va ridotta ai bambini con disturbi dello spettro autistico perché se noi rapportiamo il grafico che abbiamo appena osservato che metteva a confronto i disturbi dello spettro autistico con la malattia di Alzheimer piuttosto che la schizofrenia e invece ritorniamo un attimo su quelle che sono le curve di maturazione e mielinizzazione delle aree cerebrali ritroviamo delle curve simili che però ci fanno comprendere quanto nei primi due anni di vita per esempio le aree che si mielinizzano principalmente sono quelle della corteccia sedessori motoria ecco perché i bambini nei primi anni di vita devono affrontare i loro compiti evolutivi chiamiamoli così ma devono anche poter fare le loro esperienze e a maggior ragione i bambini che hanno delle difficoltà e dei risorgi dello sviluppo attraverso quello che è il loro canale preferenziale per quell'area ovvero la dimensione senso-motorio successivamente maturano le aree parietarie temporali specialmente quelle associative quindi si arriverà chiaramente a dei livelli di integrazione più complessi che verranno successivamente fino ad arrivare alla maturazione e alla minimizzazione delle aree prefrontali che sono quelle preposte alla regolazione del comportamento e al giudizio sociale proseguendo in questo percorso che ci pone all'interno di una dimensione neuroevolutiva ma con dei forti riferimenti da un punto di vista neurobiologico ritroviamo ancora una volta quelle curve di cui parlavamo prima e questa volta le ritroviamo invece relativamente alle finizioni quindi nel periodo senso motorio in cui avevamo visto quel fenomeno di minimizzazione di determinate aree cerebrali avremo un maggior sviluppo e un maggior uso dei sensi soprattutto vista udito e tatto avremo quei fenomeni che vengono definiti in metri coninterattivi quelle componenti imitative anche molto precoci che i bambini riescono a manifestare e così via via man mano che il bambino cresce si vanno specializzando delle altre aree delle altre divisioni come il linguaggio e qui in tutta la parte correlata al simbolismo alle relazioni sociali al dialogo col poco scondiviso che poi sostanzialmente è la traduzione della cosiddetta attenzione congiunta che quando sente è uno dei più importanti campanelli d'allarme per risolvere lo spettro autistico per cui il bambino che fra i 12 e i 18 mesi non acquisisce l'indicazione e non acquisisce la capacità di far convergere la tua attenzione verso un poco scondiviso con l'altro è un bambino che già presenta dei campanelli d'allarme e degli indicatori precoci per un disturbo di spettro autistico e così andando avanti verso le funzioni cognitive superiori quindi la possibilità di un pensiero logico dell'attivazione di strategie cognitive di coping e verso l'adolescenza ovviamente quel pensiero critico il pensiero riflessivo e la capacità di fare previsioni un altro elemento e stiamo ancora nell'area diciamo così delle premesse che ci sembrava molto importante sottolineare è quella che io definisco la deriva dei comportamenti in che senso? nel senso che il comportamento è ciò che tutti siamo abituati a osservare è ciò che per primo viene segnalato da un genitore da un bambino e da un scusate da un insegnante di un bambino da un educatore del nido piuttosto che della scuola materna ma anche dai pediatri stessi e noi però dobbiamo sapere come specialisti ma anche come colleghi che si occupano di infanzia che so quel comportamento sono tanti gli elementi che contribuiscono alla definizione di quel comportamento ricordando che il comportamento è una parte è ciò che noi osserviamo ed è l'esito di una struttura che potremmo definire temperamentale di base alla quale le esperienze che il bambino vive come dire contribuiscono per la organizzazione del carattere e per l'organizzazione dei comportamenti quindi dobbiamo sempre tener conto di questi aspetti dobbiamo tener conto di quali sono state le esperienze dei bambini dobbiamo tener conto di quale sia il nuovo livello di integrazione sensoriale e motoria in una prima fase di quale sia il potenziale intellettivo che quel bambino ha indipendentemente da ciò che in quel momento può utilizzare in modo attivo di quali siano le sue capacità di apprendimento ma soprattutto di quale sia il canale privilegiato di apprendimento per quel bambino di quali siano se ci sono i suoi elementi di vulnerabilità o così perché i fattori di rischio e di quali invece siano gli elementi di resilienza e i fattori di protezione e ancora una volta definire se esistono delle variabili o delle variabilità all'interno di quel profilo di sviluppo che lo caratterizzano nei termini di una disarmonia una alterazione una deviazione dello sviluppo un deficit e per finire un disturbo entrando nello specifico dei disturbi dello spettro fisico quindi noi abbiamo questa è un'altra diapositiva diciamo che frequentemente viene portata dai colleghi del gruppo di muratori che hanno tanto lavorato all'individuazione precoce allo studio dei bambini piccoli un po' come facciamo noi all'interno dell'istituto di ortofonologia riporteremo la nostra esperienza soprattutto rispetto ai creditori sui quali ci soffermeremo successivamente dicevo è una diapositiva che ci fa osservare un po' nel tempo come la predisposizione genetica che oggi sappiamo avere un ruolo ma non un ruolo del tutto decisivo all'interno dello spettro autistico proprio perché per quanti geni siano stati trovati alterati in alcuni soggetti con disturbi dello spettro autistico non c'è un dato statistico così elevato che determini la corrispondenza tra una specifica mutazione genetica e il disturbo dello spettro autistico mentre quello che sappiamo è che sulla base di una vulnerabilità è il meccanismo epigenetico che sembra determinare quelle modificazioni da un punto di vista neurobiologico in particolare come abbiamo detto della connettività che poi determinano il fenotipo autistico quindi quello che poi noi a livello clinico osserviamo come comportamento autistico e come diciamo disturbi poi dello spettro autistico come vedete in una prima fase quella legata alla gestazione ci sono dei fattori prenatali che intervengono dopodiché quella maturazione cerebrale quei percorsi di connettività che sono iniziati già durante la gestazione proseguono ovviamente al momento della nascita e poi sicuramente fino all'adolescenza e in questo senso quello che si va strutturando è una organizzazione degli aspetti senso motori come dicevamo prima che sono i primi che noi riusciamo ad individuare nei bambini a rischio nei bambini che presentano dei cosiddetti campanelli d'allarme per l'evoluzione verso un fenotipo di tipo autistico un fenotipo clinico di tipo autistico e quindi oggi sappiamo che alla base dell'organizzazione e dello sviluppo dell'isturbo dello spettro autistico c'è proprio una deficitarietà a livello della comprensione dell'intenzione altrui sappiamo che c'è un'alterazione a livello dell'organizzazione posturale e motoria dell'integrazione sensoriale di quello che viene definito ingaggio affettivo tutti questi aspetti che noi osserviamo clinicamente hanno come potete leggere in questa diapositiva un loro correlato in termini biologici e ce l'hanno sia in termini di topologia quindi di topografici cioè di quali aree o quali aree associative sono coinvolte ma anche in termini cronologici quindi di organizzazione nel tempo ed ecco che allora la multidimensionalità del disturbo dello spettro autistico e come esso viene affrontato all'interno del DSM ci riporta non solo a quelle due aree dell'interazione e comunicazione sociale degli interessi attività e comportamenti stretti e ripetitivi ma riporta l'attenzione sulla reattività sensoriale che è ativica e che sembra essere proprio la base di una serie di strutturazioni autistiche e di quanto l'organizzazione motoriopraxica si inserisca in questa dimensione evolutiva e per concludere questa trattazione dell'autismo e passare alla parte legata alla pandemia vorrei sottolineare ancora una volta non solo che le variabili dello sviluppo e delle traiettorie dello sviluppo sono molteplici e che non esiste un bianco e nero fra normotipia e disturbo ma ci sono tanti livelli intermedi e ci sono eventi scatenanti che determinano l'emergenza di un'area piuttosto che di un'altra problematica ma ci sono anche tante possibilità di misdiagnosi ovvero quelle condizioni che pur avendo un'origine diversa finiscono per determinare comportamenti di tipo autistico che non sempre raggiungono comunque i criteri per una diagnosi di tipo autistico e possiamo riflettere su quanto la società e l'organizzazione attuale l'esposizione che i bambini hanno una serie di dispositivi piuttosto che di mancate relazioni piuttosto che di richieste prestazionali possano determinare il loro sviluppo da tutto questo discorso deriva chiaramente un'indicazione che può andare da una promozione dello sviluppo per un supporto che deriva da noi operatori specialisti deriva dagli psicologi e psicoterapeuti di vita evolutiva deriva dai pediatri che sono in prima linea e che poi può andare verso percorsi abilitativi o riabilitativi verso training mirati verso coaching o counseling intergenitoriali verso interventi educativi e così via dunque andando più rapidamente su quelle che sono gli indicatori prognostici di cui vi accennavo prima vogliamo riportare l'attenzione su un aspetto cioè se in letterativa il quoziente interdettivo e il linguaggio sono i due aspetti che vengono considerati pronosticamente positivi nella possibile traiettoria di un bambino con disturbo dello spettro autistico dai nostri dati che ormai sono relativi a più di 200 bambini nel tempo abbiamo potuto osservare che ci sono degli indicatori predittivi che ci fanno ipotizzare e nella maggior parte dei casi il tempo ce lo ha confermato come alcuni aspetti che riguardano il contagio emotivo come precursore dell'empatia la comprensione delle intenzioni altrui come precursore della teoria della mente la rilevazione dell'intelligenza fluida e dell'accesso alla dimensione rappresentativo simbolica ci dicano che anche bambini con un livello basso di linguaggio addirittura assente e con un livello basso o addirittura irrilevabile di quotiente intellettivo proprio per la complessità del fenotipo autistico che in quel momento stiamo osservando soprattutto nei bambini piccoli in realtà con un certo tipo di approccio terapeutico e soprattutto nel tempo riescano a raggiungere non solo quotienti intellettivi e di linguaggio sufficienti e persino in alcuni casi molto buoni ma ad avere quello che viene definito ottima ad outcome cioè a non rispondere più ai criteri diagnostici dell'autismo finisco con un ceno brevissimo sulla pandemia e poi lascio nuovamente la parola alla dottoressa di Renzo per dire che la pandemia come dicevamo in apertura ha generato a livello mondiale sulla popolazione infantile una serie di ripercussioni ripercussioni che hanno veramente come dire colpito più aree dello sviluppo i bambini con autismo sicuramente si sono trovati di fronte a tante difficoltà su effettura delle scuole interruzione delle terapie o remodulazione famiglie che si sono potute trovare in momenti di difficoltà hanno dovuto far fronte ai cambi di routine a minori richieste sociali che da una parte forse li hanno anche sostenuti nell'evoluzione ma anche a minori richieste performative e così via ecco perché diventa così importante parlare sicuramente da una parte delle barriere che la pandemia ha determinato soprattutto per i bambini con disturbi dello sviluppo perché ci studiamo di disturbi dello spettro autistico ma questo per esempio ha riguardato tutte le disabilità intellettive tutti i gravi disturbi del neurotiluppo ma anche come dicevamo prima di alcune condizioni che sono quasi diventate un'opportunità un'opportunità per lavorare in modo diverso un'opportunità per conoscere meglio anche all'interno delle stesse famiglie come quali fossero le caratteristiche di un bambino autistico quali fossero gli aspetti su cui i genitori se aiutati e sostenuti potevano intervenire continuando quel percorso che altri avevano condotto prima di loro e dentro cui però almeno come avviene nel nostro caso all'interno dell'Istituto di Ortofonologia considera i genitori una parte integrante del percorso e dello sviluppo del bambino questo documento è il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità Covid-19 proprio relativo alle persone con disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettiva ebbene abbiamo delle indicazioni generali che riguardano la comunicazione la comprensione del disagio le routine e le attività appropriate e la riorganizzazione delle attività cliniche e assistenziali comunicare in modo adeguato significa rispetto ai bambini e agli adulti con disturbi dello spettro autistico utilizzare un linguaggio completo e chiaro descrivere ciò che sta accadendo utilizzare dei supporti visivi ma dare anche ai genitori delle indicazioni per la gestione del tempo e dello spazio e la programmazione vedremo che questo che significa comunque mantenere contatti significativi significa sostenere i genitori significa utilizzare in modo adeguato la tecnologia e significa parlare il linguaggio che per i bambini con disturbi dello spettro autistico e per ciascun bambino con disturbo dello spettro autistico e il suo linguaggio privilegiato sarà un po' un late motive che ci accompagnerà in tutte quelle indicazioni generali di cui stavamo parlando prima quindi per quanto riguarderà invece la comprensione e l'espressione del disagio dobbiamo considerare quanta difficoltà abbiano i bambini autistici ad esprimere il loro disagio di fronte a dei cambiamenti inaspettati cosa la paura la frustrazione e la preoccupazione possono determinare in termini di comportamento come andrebbe considerata la possibilità di offrire a queste persone e a questi bambini l'opportunità di esprimere i propri sentimenti in un modo a loro consolo e offrire routine e attività appropriate come dicevamo prima quindi cercare di gestire e generalizzare quello che avviene dentro casa o nel caso specifico dentro lo spazio terapeutico per riportarlo anche fuori e in ultimo ragionare su come le attività cliniche assistenziali possano far fronte a delle condizioni come quelle della pandemia che ci troviamo a vivere e in questo senso portiamo la nostra esperienza sia per quanto riguarda l'ambito della valutazione perché noi abbiamo assistito a sicuramente una brusca interruzione dei servizi nel momento dell'off-down abbiamo assistito a famiglie che hanno dovuto insistere anche con gli stessi per poter fare la visita perché molto preoccupati per i loro bambini ma abbiamo assistito anche a dei bambini che non essendo più andati a scuola e non avendo più dovuto rispondere a delle esigenze sociali possono avere anche ritardato la loro diagnosi questo significa che quando ci occupiamo di affrontare un'emergenza come quella che stiamo affrontando e decidiamo di inquadrare ancora meglio una problematica come quella dei bambini con il disturbo dello spettro dobbiamo avere sempre in mente le parole dell'inizio ovvero la complessità la conoscenza e l'integrazione dei diversi livelli ed è per questo che adesso invece la dottoressa di Renzo vi parlerà di cosa è avvenuto in terapia e di quali sono state le risposte dei bambini anche durante il periodo dell'ottanno nel laser tutto quello che abbiamo sentito cioè la complessità del gruppo e a quanto nel gruppo siano coinvolti i meccanismi che hanno a che fare con aree del tronco cerebrale prima che della corteccia questo è molto importante ormai c'è un grandissimo accordo su questo quelli che PANCEP ha detenuto i sistemi motivazionali circoscrivendoli nel dirigio per il risultato dico questo perché su questi aspetti abbiamo lavorato per studiare il contagio emotivo e messo a punto un test di facilissima secuzione che ci permette di vedere la presenza di contagio come diceva la dottoressa L'Ambia come precursore dell'empatia e che è risultato anche in ricerche che abbiamo potuto fare come un predittore poter possibile di ottima light e insieme a questo sempre come area precognitiva la comprensione delle intenzioni che oggi sappiamo ormai essere legata a quei meccanismi molto complessi che vanno sotto il nome di brain body brain mind che coinvolgono che gli aspetti corporei limitazione o quant'altro perché questi due aspetti che sono presenti nella nostra pratica clinica e di cui peraltro sta per uscire una ricerca un articolo fatto anche con due pediatri perché questi elementi sono stati quelli che noi abbiamo anche particolarmente attenzionato durante la pandemia quello che abbiamo potuto notare è che i bambini autistici hanno come dicevamo all'inizio mostrato le stesse difficoltà della situazione normale quello che è stato diciamo con un aumento del più piano del circa 30% di comportamenti di comportamenti stereotipati ma le cose interessanti che abbiamo preso in san che è in terapia presso di noi è che non si è assistito alla strutturazione di nuovi comportamenti stereotipati e diciamo ne si è assistito alla presenza di condotte aggressive auto o eterodimente l'altro elemento che ci appare interessante è perché questi due dati sono in riferimento alle difficoltà che tutti i bambini autistici hanno nei sistemi di regolazione quello che invece ci ha particolarmente colpito è che in circa il 30% di casi abbiamo assistito ad alcuni miglioramenti nelle comunicazioni nella relazionalità e questo sicuramente è da evitare un migliore clima di tranquillità non essendoci stress sociale durante la pandemia ma anche il fatto che i genitori che continuavano ad essere da noi sediti online avevano imparato a sintonizzarsi con i bambini e quindi hanno permesso un'ulteriore evoluzione e l'ultimo dato che voglio sottolineare è che questi bambini che hanno mostrato dei miglioramenti sono quei bambini che avevano mostrato una migliore risposta sia nel processo di sintonizzazione e quindi di contagio emotivo contraddittore nel processo che porta all'empatia sia nella comprensione delle intenzioni che anch'essa è un antecedente della capacità di comprendere la mente a giù che implica una parte più maggiormente corticale mentre la comprensione e l'intenzione è legata a quella conoscenza embodied che parte dalla dimensione affettivo corporea e che è strettamente legata alla sensitività sia del genitore che del terapeuta e che consente quindi al bambino di innestare quei comportamenti limitativi attivati deficitari quindi quello che noi stiamo attualmente facendo perché questa prima ricerca l'abbiamo fatta dopo il primo mese di chiusura di reclusione ora abbiamo fatto un test sia con circa 70 bambini che fanno parte del nostro progetto sia abbiamo voluto includere circa una trentina quarantina di bambini che noi sediamo in un'altra regione in Sicilia e abbiamo voluto riverificare con i genitori attraverso questionari colloqui e quant'altro gli eventuali cambiamenti la cosa interessante è che più o meno anche il retest a tre mesi conferma sia la stabilità dei risultati ottenuti sia la stabilità di alcuni comportamenti cosiddetti come dicevamo all'inizio regressivi ma che sono difensivi rispetto alla situazione e in questo caso anche i bambini seguiti in Sicilia seguivano un protocollo che considera i processi di sintomizzazione fondamentali e questo ha permesso di verificare quanto il contenimento affettivo da parte delle famiglie abbia permesso di mantenere i risultati vogliamo concludere con questa frase che ci ha scritto una mamma di recente che mio figlio si arrabbiava spesso pendeva soprattutto quando il papà usciva per andare a lavorare nel supermercato solo grazie al maggior tempo passato insieme a lui se il fatto di non essere lasciato spaventare nelle sue forti lezioni di rabbia ho saputo aiutare mio figlio a dire che piangeva perché aveva paura che il papà incontrasse il virus non dobbiamo mai assolutamente mai dimenticare che i bambini autistici seppure in maniera atletica hanno una loro teoria delle mente hanno dei loro pensieri e dobbiamo essere sempre attenti a non disattendere i loro bisogni e le loro paese e questa immagine finale di un bambino che ci ha mandato la sua foto durante il lockdown e che ci fa l'occhietto penso che la dica lunga su che cosa vuol dire un'ultimità affettiva e cosa significa la condivisione di elementi fondamentali